Buongiorno a tutti, benvenuti alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Siamo qui oggi ad inaugurare un importante convegno dedicato alla straordinaria figura di Giovanni Battista Piranesi, convegno che è promosso da un gruppo di istituzioni romane, oltre alla Biblioteca Nazionale, soprattutto il Centro di Studi sulla Cultura e l'Immagine di Roma, che è ospite della Biblioteca Nazionale, la British School at Rome, Villa Medicis Académie de France, che insieme hanno appunto organizzato questo convegno internazionale che purtroppo si svolge online a causa della pandemia, convegno che sarebbe dovuto tenersi l'anno scorso in occasione del terzo centenario della nascita di Piranesi. Oggi però riuniamo intorno alla Biblioteca Nazionale 20 studiosi italiani e stranieri, dall'Austria al Brasile, dalla Francia alla Germania, dal Giappone all'Inghilterra, dall'Israele alla Norvegia, dalla Spagna agli Stati Uniti fino alla Svizzera, per presentare nuove ricerche e nuove letture di alcuni dei molti aspetti della straordinaria personalità e creatività di Piranesi. Il convegno è curato dal professor Mario Bevilacqua, del Centro Studi sulla Cultura e l'Immagine di Roma, da Claire Osby della British School at Rome e da Francesca Alberti di Villa Medicis Académie de France. Bene, Giovanni Battista Piranesi è stato tra i massimi protagonisti della cultura italiana occidentale del XVIII secolo, artista, incisore, figura poliedrica, architetto, mercante, intellettuale. Il suo ruolo è stato essenziale nella formazione della sensibilità estetica per la nascita dell'archeologia moderna, per le teorie dell'architettura e della città. È un grande piacere ospitare questo convegno in Biblioteca Nazionale proprio perché la memoria di Piranesi è qui ben presente. Ricordo che la Biblioteca Nazionale fin dal 1885 ha costituito una specifica collezione disposta in un'apposita sala dedicata alla storia di Roma, agli studi romanisti, dopo che era tramontata l'idea originaria di realizzare in Biblioteca Angelica una collezione specifica romana. Una collezione voluta dal conte Domenico Gnoli e comprendente volumi di guide, descrizioni di Roma, vedute, piante topografiche e materiali iconografici che illustravano i monumenti antichi e moderni. Quindi Piranesi era fin dalle origini ben presente, anche perché il nucleo originale di questa raccolta risaliva alle collezioni dei gesuiti. Ricordo appunto come ci fosse questa collaborazione stretta con Tuccio Contucci, il gesuita che è anche autore di diversi testi delle raccolte di stampe di Piranesi. Anzi, proprio in Biblioteca Nazionale sono stati individuati alcuni suoi libri e anche, come vedremo, delle prove di stampa probabilmente passate sotto le sue mani per le correzioni all'ultimo. Nel 1972 in più la Biblioteca riceve dal Ministero della Pubblica Istruzione l'importante Biblioteca Archivio di Cecarius Giuseppe Ceccarelli, giornalista e studioso di romanistica che durante la sua vita aveva collezionato molteplici documenti, fotografie testimonianti della cultura romana tra 8 e 900, tra cui anche diverse stampe di Piranesi. Oggi in occasione del convegno la Biblioteca propone sulla sua teca digitale la digitalizzazione di una cinquantina di stampe sciolte di Giovanni Battista Piranesi, una prima scelta del cospicuo fondo di grafica che sarà poi ampliato. Già in questo momento sono disponibili ben 3.000 incisioni digitalizzate di opere sciolte e legate in volume. A breve appunto si proseguirà anche con la digitalizzazione delle raccolte in volume di Giovanni Battista Piranesi e di altre opere a stampa di Francesco Piranesi. Comunque la loro descrizione bibliografica è già presente nel catalogo online della Biblioteca, quindi una piccola sezione comunque della straordinaria e importantissima sezione di grafica su cui la Biblioteca vuole intervenire nei prossimi anni. Bene, auguro a tutti buon lavoro e cedo la parola al professor Marcello Fagiolo, presidente del centro di studi sulla cultura e l'immagine di Roma che invito a sedersi al mio posto. attenzione al filo solo. Chi vi parla in questi ultimi 40-50 anni ha partecipato a molte delle grandi manifestazioni su Piranesi tra i due estremi del doppio centenario del 1978, il bicentenario della morte e dell'attuale tricentenario della nascita. Nel 1978 ci fu una grande mostra della Fondazione Cini, guarda Alessandro Bezzagno e poi le mostre di Maurizio Calvesi che cominciarono a dimostrare come il verbo piranesiano potesse essere disseminato nel territorio contemporaneamente. In molte di queste esposizioni si è puntato all'analisi di un piranesi totale da sottoporre alle nuove interpretazioni storiografiche che si avvicendavano in questi decenni. Faccio solo due esempi in quest'ultimo ventennio. La mostra La Roma di Piranesi del 2006 a cura di Mario Bevilacqua e Mario Gori Sassoli e la recente mostra alla Biblioteca Nazionale di Madrid curata da Delphi Rodriguez e Elena Perez de Gallardo che abbiamo il piacere di avere fra i relatori del nostro convegno. La pandemia purtroppo ci ha proibito di partecipare bene alla miriade di iniziative che erano state progettate nella ricorrenza con mostre specialistiche, alcune delle quali peraltro di grande complessità ricche di sorprese come Il Sogno Impossibile, la mostra in Palazzo Poli con la selezione effettuata tra i mille meravigliosi rami piranesiani curata da Maria Cristina Misiti e Giovanna Scaloni. La buona notizia è la riapertura della mostra che sarà visitabile fino a luglio. In questi 40 anni accanto ai progetti per esporre l'opera omnia dei piranesi non mancano iniziative che considerano l'opera piranesiana come opera aperta, al modo di Umberto Eco per intenderci, un'opera aperta che può essere tradotta tridimensionalmente in oggetti come ha dimostrato l'esposizione della Fondazione Cini nel 2010, alcuni di questi oggetti sono attualmente visibili in Palazzo Poli. In quella mostra penziana abbiamo avuto anche la traduzione cinematica delle carceri di piranesi. Va considerato opera aperta anche lo stimolo che piranesi ha operato sulla progettuale del Settecento e dei secoli successivi. Penso che potremmo riprendere questo motto, l'opera aperta, anche per questo convegno che nelle sue diramazioni si occupa di indagare molti problemi ancora aperti, se così possiamo dire. Ascolteremo le riflessioni su talune valenze della tecnica piranesiana, tuttora da approfondire. Percorreremo i territori del collezionismo piranesiano in Europa e fuori Europa. Potremmo riflettere sui rapporti fra tutte le arti in cui i piranesi era aperitissimo. Infine, un tema a me particolarmente caro come storico dell'architettura, ascolteremo i ragionamenti sull'architettura dei piranesi con la sua influenza, come ho detto, anche sull'architettura dell'Ottocento e direi anche sul contributo fondamentale che Piranesi ha apportato all'arte della città attraverso la macro progettazione del Campo Marzio e di Villa Adriana. Sono interessanti anche le sedi di questo convegno, da un lato questo romanissimo Castro Pretorio, dall'altro il doppio polo di Villa Medici della Prince School inserite nel Campo Marzio piranesiano dentro e fuori le mura di Aureliano. Consentisi di fare un breve scenno alla permanente attualità del Campo Marzio che ho assunto in questo periodo come motivo ispiratore del libro che sto curando per la collana di Artemide, i Colli di Roma, sulle alture dei parioli che ho associato significativamente a Piranesi. Come? Il libro si chiamerà I Monti Parioli e il nuovo Campo Marzio della cultura internazionale. Legato a questa intuizione, invenzione di Piranesi, di un Campo Marzio che si estende ben al di là di quanto avessero potuto documentare le fonti storiche, cioè dentro le mura di Aureliano, e il Piranesi lo espande fino a Lanza del Tevere, fino a Ponte Milvio. Un Campo Marzio che, secondo le fonti famosi, doveva essere un'area speciale di luoghi per la cultura, di luoghi per le corse per gli sport, le corse dei carri, gli esercizi ippici, di luoghi per la divagazione, il Collis Ortolorum e nell'accezione piranesiana si espande anche esso al di là delle mura aureliane. Uno straordinario parco della cultura della memoria che avrebbe potuto essere ampliato se Cesare avesse realizzato il suo progetto per bonificare il Campo Marzio e saldarlo al Vaticano attraverso la deviazione del Tevere. Peraltro molti antiquari da Biondo Flavio in poi, ovviamente compresso Piranesi, ritenevano che il Campo Marzio si espandesse oltre fino a Ponte Milvio, dando un'interpretazione del Passo di Ovidio che nei fasti descrive l'equiria, le corse dei carri, nel Campo Erboso che un lato del Tevere serra con curvo fluire di acqua, ecco appunto il piccolo aggancio per questa espansione. Le tavole del Campo Marzio costituiscono la più spettacolosa invenzione antiquaria di ogni tempo, esercitata su un settore urbano che viene assunto a simbolo per eccellenza del potere imperiale di Roma. Piranesi trasferisce al di fuori del Morioliano proprio queste corse dei cavalli Equicuria e Equiria istituite da Romolo in onore di Marte per profiziare l'anno nuovo. La grandiosa tavola dell'iconografia del Campo Marzio è una riprogettazione integrale della città antica attraverso una tecnica di rappresentazione che si sfida alla forma urbis severiana riscoperta a partire dal dal Cinquecento. Questo, e Piranesi lo sa benissimo, è un modello ideale per una città nuova da erigere sulle radici memoriali della città antica. Il Campo Marzio è una macchina a ingranaggi serrati che non lascia nulla al caso oltre a non lasciare spazi liberi. Già nel 1771 Walpole osservava che Piranesi metteva palazzi sopra ponti, templi sopra palazzi, scalava il cielo con montagne ed edifici, ovviamente la metafora dei giganti che sovrappongono le montagne per arrivare all'Olimpo e sfidare a Zeus. Come scritto Connors, decine, centinaia di sepolcri, templi, portici, acquedotti, fontane, canali, nomachie, natazioni, scalinate, silve, ambulazioni, statue, arche trionfali, terme, palestre, sei ponti sul tevere. La composizione è impernata su due poli principali sui quali mi sono soffermato negli ultimi tempi. L'idea della magnificenza viene coniugata con lo spettacolo della vita sociale. L'horror vacui, espresso da Piranesi, costituisce un motivo di meditazione. Dunque Campomarzio come città della cultura, del verde, del tempo libero, contrapposta alla città della vita quotidiana. Molte proposte sono ispirate e ispireranno le destinazioni d'uso moderno, in particolare della presenza di numerosi orti di ville, nell'area tra Villa Borghese e Villa Giulia. C'è una prefigurazione anche della cittadella sportiva del Novecento nei siti per le corse dei cavalli, nella Nomachia Domiziani, un gigantisco anfiteatro con gradinate a spirali sotto cui scorre l'Euripus proveniente dal tempo. Capomarzio è l'allello di saldatura, come è stato scritto, tra la restituzione archeologica e l'indagine architettonica contemporanea. È un universo macchina che potrebbe parafrasare alcuni principi della fisica moderna, della teoria dei vortici di Cartesio, delle leggi della dinamica di Newton che regolano le relazioni tra le particelli secondo leggi matematiche, secondo la forza di attrazione che collega ai campi gravitazionali. Il tema piranesiano viene sviluppato a fine settecento dalla rivoluzione francese che rilancia il campo di mar, lo Chondamarre a Parigi come luogo delle celebrazioni rivoluzionari. A Roma piranesi riprende questo tema progettando prima per i papi un nuovo campo marzio che si svolgeva monumentalmente da Porta del Polo fino a Ponte Milvio e poi riprendendo l'idea per Napoleone il quale però preferì dedicarsi a un progetto diverso, e cioè il giardino del grande Cesare tra Piazza del Popolo e il Vigio. Il tema verrà ripreso, secondo il mio avviso, nelle grandi operazioni del 1911 per l'esposizione per il cinquantenario dell'Italia Unita in cui si creava nel Lanza del Tevere e anche al di là nei prati i quartieri espositivi collegati dal ponte Risorgimento, il primo ponte in cemento armato con tecniche strabiliante, quasi un ponte della modernità tra i due quartieri dell'accademismo e del regionalismo etnografico, e poi negli impianti dello stadio nazionale Flaminio modellato sugli stadi antichi, su quello di revivalistico di Atene, da cui ripartono le Olimpiadi, l'ippodromo ai Parioli. Il piano ricordo del 1931 stabilisce che sui resti di quella città effimera creata nel 1911 si creano le serie di accademie, io l'ho chiamata la valle delle accademie, come una sorta di società internazionale delle lettere e delle arti. Il quartiere dell'arte, città dell'arte, parco delle arti, prende avvio con i progetti di Bazzani di sistemazione urbanistica intorno alla galleria d'arte moderna e poi negli ultimi decenni abbiamo visto prima lo sviluppo della cittadella dello sport in occasione delle Olimpiadi del 1960 e poi il rilancio del quartiere delle arti della cultura con l'ideazione del parco dei musei, l'auditorium di Terenzo Piano, il centro nazionale internazionale per gli arti contemporanei di Zadid e altre iniziative, tra cui il parco di scultura contemporanea a Villa Gloria. È un tema che ho anche io rilanciato nell'ambito della facoltà di scrittura Valle Giulia di stabilire questa valle delle accademie nel segno di milanesi proprio come una cittadella della cultura, cultura internazionale, attraverso una serie di istituzioni. E allora, grazie a questo tema dichiariamo aperto il convegno che ci vede qui nella cittadella di Cassopetone. Grazie, professor Fagiolo, presidente del centro di studi sulla cultura dell'immagine in Roma per questa bellissima introduzione sulla vitalità, potremmo dire, di piranesi. Io sono Mario Bevilacqua e mi alternerò questa mattina con Simonetta Prosperi Valenti Rodinone il coordinare questa sessione e invito Andrea De Pasquale, direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, con la sua presentazione su Piranesi e il suo Torchio. Grazie. 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 Ecco. Bene, siamo di nuovo qua. Allora, la nascita della Bibliologia Moderna in Italia si deve tradizionalmente alla figura di Francesco Barberi, titolare della prima cattedra di tale disciplina alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma alla Sapienza tra la fine degli anni 60 e 1975. Fu lui che per primo chiarì il concetto di bibliologia, prima considerata solo il generico studio sul libro, avvicinandola quindi alla codicologia e affermando che la bibliologia si occupa del libro come prodotto materiale. È rimasta però del tutto sconosciuta, devo andare avanti, la figura di Alfonso Gallo, fondatore e direttore dell'Istituto della Patologia del Libro, istituto nato nel 1938 nell'ambito delle riforme fasciste per l'istruzione che videro pochi anni prima anche la nascita della direzione generale delle accademie e delle biblioteche. Gallo accanto al suo interesse per i problemi conservativi del libro ne studiò ampiamente le tecniche di fabbricazione. Se sono noti i suoi studi, sui manoscritti meno conosciuti sono invece i suoi contributi sulla storia del libro. Tra questi il principale è il volume proprio intitolato Il Libro, uscito nel 1942, che oltre a tracciare il percorso storico dalle origini fino all'età contemporanea, offriva ampie pagine dedicate ai supporti, alle tecniche di stampa e alla legatura. La prefazione tra l'altro dichiarava che il volume intendeva occuparsi del libro nella sua concretezza materiale, attraverso cui tracciare la sua storia, cioè sostanzialmente il compito, l'obiettivo della bibliologia. Testimonianza dell'interesse per il libro a stampa resta anche il ciclo pittorico che decora l'atrio e lo scalone dell'istituto, voluto e progettato da Gallo stesso. In esso infatti sono riprodotti nell'atrio la tavola di Vittorio Zonca nel suo nuovo teatro di macchine ed artifici del 1607, che rappresenta un torcogliere arropera, raro caso di iconografia con un solo operaio al torchio e sul pianerottolo del primo piano ritratti di tipografi illustri da Gutenberg, Aldo, Manuzio, Paolo Manuzio, Bodoni, alcuni rappresentati insieme ai loro caratteri tipografici e altri insieme alle loro marche in cui campeggia quella dell'ancora e del delfino. Nello zoccoli in poi inoltre compare anche l'insegna dell'Accademia degli Intrepidi che rappresenta un torchio, lo stemma di Gutenberg e la marca di Giolito De Ferrari. Al di là di questi semplici accenni è mancata Gallo preso da altri interessi più legati al restauro la sistematizzazione del suo approccio. Rimangono però alcune sue iniziative importanti finora trascurate che si inserivano in un progetto più vasto di documentare la storia del libro in tutti i suoi aspetti e che vedeva nel museo dell'Istituto la sua esplicita ed eloquente concretizzazione. Esso occupante sei sale pieni di luce e di silenzio comprendeva negli anni 40 circa 800 pezzi che erano raccrupati in due nuclei. Quello legato alla patologia del libro in cui era documentata la più svariata casistica di alterazioni e di anomalie e quello tecnologico composto da materiali vari legati alla storia e alla fabbricazione del libro. Quest'ultima sezione era allestita in parte nella torre medievale dei Cappocci esistente nel giardino dell'Istituto e restaurata per lo scopio. Al pian terreno in tre salette erano sistemate le vasche, la pila maglio, il torchio, lo stenditoio e attrezze utensili della cartiera ricostruiti secondo modelli medievali. Al primo piano invece venne allestita nel 1939 dando poi quindi si dice un assetto definitivo quindi probabilmente già c'era un primo nucleo, un'officina tipografica riproducente il primitivo modello guttenberghiano nella quale si stampa col procedimento quattrocentesco e con caratteri romani da tratti da incunaboli. Seguiva poi una saletta dove venne sistemato lo studio da correttore di bozze con mobili ed arredi antichi e riprodotti. Dell'interesse di Gallo per la storia delle tecniche di stampa resta testimonianza anche in una lettera del 1939 indirizzata al comitato della mostra leonardesca presso il castello sforzesco di Milano nella quale si faceva presente che l'Istituto aveva ricostruito il torchio per la stampa sui modelli guttenberghiani e che avrebbe gradito la donazione per il museo delle due ricostruzioni del torchio di Leonardo che a noi mancano, cito, e che difficilmente potremmo riprodurre per mancanza di fondi. Le ricostruzioni della cartiera e della tipografia evocano anche le analoghe ambientazioni che erano state realizzate nel 1913 al Museo Nazionale del Libro di Torino che costituitesi nel borgo medievale del Valentino chiuse inspiegabilmente negli anni venti. Il collegamento è anche suggestionato dalla dichiarazione di Gallo che all'Istituto stampava, si stampava con tecniche quattrocentesche come appunto a Torino dove vi erano operai addetti con i caratteri della fonderia torinese Nebbiolo che aveva riprodotto in quegli anni i caratteri chiamati incunabola disegnati da Raffaello Bertieri e ripresi dall'edizione quattrocentesca del calendario astronomico-astrologico del Reggio Montano stampato a Venezia nel 1476. A corollario dell'affezione tecnologica del Museo Gall acquisì anche una collezione del legatore Pio Amori acquisita a Milano e composta da migliaia di pezzi che contengono oltre esempi di carte filigranate, frammenti di manoscritte incunaboli riproduzioni di legature numerosissimi documenti iconografici che illustrano aspetti della storia della stampa e delle biblioteche, torchi e ritratti di tipografi, fregi, caratteri e iniziali che doveva costituire un primo cito cospicuo nucleo di un museo retrospettivo della storia del libro e delle tecniche di preparazione e di fabbricazione di esso. Ma nel 1940 il museo si arricchì di alcune tecniche, antiche, macchine da stampa le cui vicende sono in gran parte sconosciute. La loro presenza è strettamente connessa con l'arrivo in istituto del professor Polidoro Benveduti di antica famiglia marchionale di Gubbio. Egli era professore di materie scientifiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale. Era stato distaccato in qualità di assistente all'istituto nel 1938 collaborando alla sua costituzione. L'istituto Benveduti realizzò il reparto di tecnologia della carta e della stampa e apprese le tecniche di conservazione dei documenti, fabbricò microfilme di manoscritti e sperimentò un sistema di micro riproduzione su lamine metalliche, detto micro libro. E poi vinse il concorso nelle biblioteche statali entrando in ruolo lavorando alla biblioteca casenatense e poi alla biblioteca nazionale centrale trasferendosi poi all'universitaria di Cagliari dove divenne direttore tra il 1959 e il 61. Prima dell'arrivo a patologia Benveduti insieme ad uno dei suoi allievi Celso Bedini aveva aperto una piccola fabbrica di carta a mano e una tipografia con tecniche manuali e si era dedicato a studiare la concia della pergamena e la fabbricazione delle inchiostre antiche. Nel 40 il Benveduti proponeva a Gallo l'acquisto di alcune macchine da stampa di sua proprietà e con lettera del marzo dello stesso anno Gallo informava la direzione generale delle biblioteche della proposta d'acquisto per un prezzo assai conveniente. I pezzi consistevano in un torchio da stampa in legno che vediamo qui a sinistra di fattura più arcaico di quello medicio posseduto dalla Lorenziana così si diceva di un torchio carcografico anch'esso di fattura arcaica di un moderno torchio litografico di un piccolo torchio per fotocolografia e il corredo di rulli ed un piano inchiostratore nonché vari inchiostri e vernice e pietre litografiche. Molto interessante è sicuramente il torchio da stampa indicato da Gallo come proveniente dalla stamperia Mattioli di Gubbio che qui vediamo a sinistra. Esso ha i montanti in legno e la vite in metallo con la platina in legno sostenuto dal collare anch'esso metallico. Si tratta di un torchio che viene descritto per la prima volta da Joseph Moxon nel suo celebre manuale Mechanic Exercise del 1684 e poi perfezionato dal cartografo Bleu. Però accanto a tali acquisti Gallo e il Benveduti promuovono anche alcune donazioni. La prima è relativa al torchio da cartiera fabbricato dalla celebre ditta dall'orto di Monza nel 1852 donato dalla ditta Contini di Roma sempre nel 1940 ma la seconda su cui ci soffermiamo maggiormente sempre dello stesso anno 1940 riguarda quello che viene qualificato come il torchio calcografico dell'incisore Piranesi. Esso venne donato dalla ditta di artigrafiche Palombi, lo vediamo qui a destra, nel 1940 che ne venne in possesso. Il torchio era giunto in stato frammentario e in pezzi e ne venne commissionata la ricostruzione e il restauro alla scuola di avviamento professionale Luigi Razza. Si doveva, si dovette trattare, così dicono i documenti, di un lavoro lungo, paziente e scrupoloso che non poteva essere affidato a ditta artigiane, soprattutto cito perché occorreva che il restauratore avesse sicure conoscenze non solo della struttura del torchio ma anche del suo funzionamento. La scuola effettuò il lavoro nelle sue officine, la scuola professionale, con materie prime offerte gratuitamente dalla stessa scuola. Gallo poi scrivendo alla direzione generale delle biblioteche per sollecitare una lettera di benemerenza nei confronti della scuola poteva affermare che la ricostruzione è fedelissima a giudizio degli esperti come il professor Petrucci, Carlo Alberto Petrucci, direttore della Regia Calcografia, che hanno anzi espressa la loro ammirazione, cito, per lo scrupolo con cui sono stati curati anche i più minimi particolari. Si tratta quindi di un torchio di piccole dimensioni, alto 1,60 m, largo 1,30 m, profondo 1,10 m di base, con un raggio del massimo del manubrio a stella di 1,76 m. Il torchio viene realizzato in legno probabilmente in noce e presenti elementi in metallo di acciaio. Si tratta di una tipologia assai simile a quella descritta da Dideroy d'Alembert nell'Encyclopedia di cui vediamo qui una tavola, contraddistinta da rulli linei e non di metallo. Tra l'altro la mancanza di demoltiplica, ovvero degli ingranaggi che permettono una lenta e più costante pressione della lastra, quindi causando anche un minore sforzo da parte dell'operatore, sottolinea anche l'antichità del manufatto. Si tratta quindi di un torchio probabilmente nato per stampare stampe di non grandi dimensioni, quali quelle contenute in album. Come noto, tra l'altro la stampa dei rami avveniva successivamente alla stampa del testo, come testimoniano anche altri documenti che adesso vedremo. Vediamo anche qui un'immagine di un torchio simile che è presente nel Museo Plantin ad Anversa, che ha la stessa struttura di quello cosiddetto piranesiano. Nulla a che vedere con il grande torchio industriale della stamperia reale di Parma, usato per le grandi tavole del libro delle feste stampato da Gian Battista Bodoni. Quindi un piccolo torchio, un piccolo torchio che serviva appunto per stampare le tavole e anche per stampare i fogli già stampati a caratteri mobili. Nelle collezioni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, grazie alla segnalazione del professor Bevilacqua che ringrazio, abbiamo recuperato anche delle prove di stampa impulito, probabilmente appartenute a Contucci, che si vedono, sono sicuramente prove di stampa anche perché l'inchiostro non è ben nitido, ci sono diverse sbavature, le pagine non sono centrate, quindi ci sono degli errori di imposizione, ma soprattutto pagine che non recono ancora l'intervento calcografico successivo. Quindi sono pagine destinate alla correzione delle ultime bozze. Vediamo quindi alcuni esempi che mi fa piacere citare e anche soprattutto far vedere queste macchie di inchiostro che sembrano diciamo rappresentare anche l'appoggio del compositoio ancora sporco sul foglio, una caratteristica tipica delle coppie scartate, la presenza di ditate o di macchie di questo genere. Le faccio vedere perché sono particolarmente interessanti, anche qui mancano le testatine calcografiche che sono poi presenti in altre coppie. Tutto ciò sembra appunto connettersi con la presenza nel collegio romano del padre Contucci di cui abbiamo qui un'antiporta calcografica manoscritta con la dedica appunto a Contucci che firmava le approbazioni con i testi di Piranesi. Il torchio quindi venne restaurato in occasione dell'arrivo a patologia del libro. Le parti mancanti furono sostituite, il che rende oggi molto complicato distinguere le parti originali dai rifacimenti, mancando anche diciamo la documentazione precedente al riassemblaggio. Il torchio quindi è costituito da un corpo principale con due mensole laterali, ognuna sorretta da coppie di colonnine lavorate a tornio e da un manubrio a stella a sei braccia. L'insieme è sorretto da dei montanti realizzati con delle assi linee. Qui vediamo alcune foto del torchio prima del restauro. Il corpo quindi centrale del torchio è sostenuto da un insieme di due coppie di barre d'acciaio che sono fissate con dei bulloni in forma quadrangolare, cioè tale barre sono sicuramente la sostituzione di barre linee come testimonia anche la presenza di tasselli in legno collocati in corrispondenza. Tra l'altro questo torchio era stato sottoposto a un intervento di verniciatura con una colorazione bruna nerastra che toglieva la patina originale del noce. L'applicazione era comunque intenzionale e sicuramente serviva per preservarlo anche perché questo torchio venne usato quando Gallo lo riassembla e lo colloca subisce degli interventi di utilizzo come testimonia anche la presenza di macchie d'inchiostro all'estremità dei bracci del manubrio. Gallo appunto tendeva a far vedere ai suoi studenti le tecniche di fabbricazione facendo il lavoro, sia la stampa tipografica a cominciare dalla fabbricazione della carta in istituto, sia poi quindi la tecnica di stampa tipografica e anche la calcografica. Il torchio rimase abbandonati per anni nei portico dell'istituto, lasciata l'incuria ed è stato solo recentemente restaurato dalla studio Crisostomi di Roma. Il torchio quindi però si presentava ancora in discrete condizioni conservative considerata anche la sua collocazione, aveva diversi attacchi entomologici e diversi danni di tipo meccanico e strutturale. Tra l'altro molte parti erano staccate, le coppie di colonna non erano più ancorate alla base di esse, alcune di esse si presentavano fessurate e lacunose. La tavola tra l'altro come vediamo qui facente parte della mensola risultava staccata dal corpo del torchio ed era imbarcata, era stata già sottoposta a un intervento di incollaggio a cui era seguita poi anche una rottura dovuta al fatto che il legno si fosse imbarcato. Infine una delle assi centrali della base risultava fessurata proprio nel punto in cui il corpo centrale del torchio scaricava tutto il suo peso. Vediamo appunto le fasi del restauro che ha toccato anche gli elementi di ferro che erano in buone condizioni ma ampiamente corrosi e ossidati. Si segnala anche che il funzionamento del torchio era ormai compromesso dalla mancanza dei regolatori di pressione del rullo superiore. I feltri infatti presentavano un foro centrale che doveva consentire il passaggio delle barre metalliche ma delle quali ad oggi non si trovano tracce. L'altro elemento mancante è il piano scorrevole che forse un tempo era sostenuto dalle due mensole. Qui vediamo altre immagini del torchio ormai restaurato e pulito della sua vernice restituendo quindi così l'originaria patina e anche la percezione delle parti aggiunte durante il restauro degli anni 40. La targhetta della donazione dei fratelli Falombi è stata lucidata e riposizionata. Vediamo qui appunto le colonnine e gli elementi decorativi e quindi il restauro ha evidenziato il torchio nelle sue componenti originali che può essere in effetti cronologicamente collocato in un arco compatibile con l'attività di Piranesi. È evidente che non è possibile affermare con certezza che tale torchio coincidesse con quello domestico per gli rami che compare nell'eventario post mortem. In effetti questo è un torchio domestico, non troppo industriale. Solo ulteriori studi da attuare nell'archivio storico della casa editrice Palombi potrebbero forse chiarire l'origine di tale torchio e farne capire così la sua storia. Vi ringrazio. La dottoressa Ghedin, è vero? Scaloni. E' lei? No, Scaloni. Ah, Scaloni. Ecco adesso. Un momento di uscire. Giovanna. Eccoci. Allora, grazie mille ad Andrea De Pasquale. È affascinante questa vicenda. Adesso passiamo la parola a Giovanna Scaloni dell'Istituto Centrale per la Grafica che introduce il tema dell'Istituto Centrale per la Grafica per Piranesi con le recenti iniziative che sono state prese per il centenario. Giovanna, ci sei, sei collegato? Ci ringrazio. Prego. Allora, un ringraziamento innanzitutto agli organizzatori che sono stati tenaci nel perseguire lo scopo. Siamo riusciti a riunirci finalmente tutti insieme attorno a Piranesi, attorno alla figura al nome di Piranesi, grazie appunto allo sforzo di Mario Bevilacqua, Claire Orsby e Francesca Alberti che ho avuto il piacere di conoscere in quest'ultimo anno di intenso lavoro. E un saluto a tutti gli amici piranesiani che ci sono stati vicini e che ci hanno accompagnato in quest'anno in cui abbiamo condotto un lavoro molto intenso che ha portato a grandi risultati per l'istituto, primo fra tutti la mostra che finalmente siamo riusciti a riaprire e che speriamo di tenere aperta fino al 16 luglio. Allora, avvio la presentazione, condivido con voi lo schermo. Nel mio intervento per la giornata di oggi dedicata alla tecnica di Piranesi, vorrei ripercorrere quali siano state in poco meno di due secoli le azioni intraprese dalla calcografia e dall'istituto centrale per la grafica sul fondo di matrici piranesi, dal momento del loro acquisto nel 1838 fino alle celebrazioni che l'istituto ha dedicato al grande incisore nel 2020, delle quali vedrete scorrere le immagini sullo schermo. Oltre a un'importante collezione di stampe di Gian Battista Piranesi, l'istituto conserva infatti tutto il fondo delle matrici appartenute all'autore, comprate da Papa Gregorio XVI nel dicembre del 1838 dall'editore Fernandodo di Parigi, sono 1505 pezzi per un totale di circa 1200 soggetti, poco meno, dei quali 964 a firma autografa di Gian Battista. La compravendita delle matrici intese all'epoca come bene prettamente strumentale era ammirata ad incrementare la produzione e la vendita delle stampe della calcografia camerale romana la quale immediatamente avviò la catalogazione dei RAM. Nel catalogo della calcografia del 1842 le incisioni di Piranesi sono registrate come nucleo a sé stante. A quella data era stata avviata dagli operatori della calcografia ma ancora non completata la posizione sulle matrici della numerazione araba. Ecco questo è un concetto sul quale mi piace soffermarmi perché è stato accertato su base documentale attraverso i documenti presso l'archivio storico della calcografia che le edizioni che ancora da alcuni appassionati, amatori ma anche studiosi di Piranesi vengono chiamate edizioni francesi o edizioni fermendido perché sono numerate, in realtà sono edizioni licenziate dalla calcografia dagli anni 40 in poi dell'800 dove compare un numero arabo da 1 a 1180 inciso a bulino proprio all'interno dell'istituto camerale romano. Altri cataloghi si susseguirono nella seconda metà dell'800 fino al 1897 in cui compare per la prima volta nei cataloghi quella numerazione unica per tutta la serie indicata con l'inventario 1400 cui fa seguito una seconda numerazione che rappresenta l'estensione di serie e l'indicazione del pezzo. Quando noi lavoriamo con Piranesi oggi lavoriamo con l'inventario 1400. Nel frattempo l'attenzione al fondo la troviamo documentata nei verbali della commissione artistica della calcografia fino al primo decennio del Novecento e ancora a ridosso della prima guerra mondiale. Si discuteva sul ritocco del rame di una veduta di Piranesi che poi non ha seguito, non trova seguito nel verbale ma è all'ordine del giorno, si discuteva sull'opportunità di elevare sensibilmente i prezzi delle stampe delle vedute di Piranesi, si discuteva sulla notizia data in commissione dell'esistenza sul mercato di fotoincisioni riproducenti a perfezione le opere originali di Piranesi, notizia sulla quale la commissione si pronunciò in merito alla tutela della proprietà artistica. Molto significative ai fini di un apprezzamento del bene matrice come documento insostituibile della creatività dell'artista che su di essa direttamente si esplica, risultano essere le preoccupazioni dei funzionali della calcografia per la salute delle matrici del fondo Piranesi in alcune citazioni nei documenti degli anni venti del secolo scorso. Si legge ad esempio l'opera del Piranesi non si rifà, la mano di Salvatore Rosa o di Guidoreni non ritorna per cui non è lecito spingere la riproduzione delle stampe fino a logorare i rami, da che ne derivava la necessità che le stampe non dovessero essere più tirate dai rami originali per la vendita, ma da riproduzioni galvaniche delle matrici originali. A questo risultato l'istituto arriverà solo negli anni 90 con la replica galvanica delle matrici, solo di alcune naturalmente. Sono passi importanti verso il riconoscimento della matrice come bene culturale e non solo come strumento d'uso. Naturalmente le matrici di Piranesi sempre in prima linea. All'impegno di Carlo Alberto Petrucci, direttore della calcografia dal 1933 al 1960, dobbiamo il catalogo a cui ancora oggi facciamo riferimento per tutto il fondo di matrici, non solo di Piranesi. Nell'edizione del 1953 l'autore avvertiva in una nota introduttiva alla raccolta Piranesi la tiratura ne è stata definitivamente sospesa per ragioni inerenti alla loro conservazione e anche perché la eccessiva divulgazione sin qui fatta delle relative stampe è in contrasto col riguardo che è dovuto alla eccezionale personalità dell'autore, quindi motivi conservativi certamente, ma anche si cercava di evitare l'inflazione del soggetto sul mercato. Si dovessero aspettare gli anni 60 durante la direzione della calcografia affidata a Maurizio Calvesi per una più approfondita ricognizione del fondo di matrici di Piranesi da un rinnovato punto di vista che poneva per la prima volta l'attenzione alla materia, alla tecnica e alla grammatica morfologica del segno inciso. Un approccio assolutamente moderno che attraverso le indagini accurate di tutti i rami e dei loro rovesci talvolta figurati, individuati in quell'occasione, avviò proprio sul fondo Piranesi il corso attuale degli studi che hanno fatto della calcografia prima e dell'istituto poi un punto di riferimento internazionale per l'avanzamento delle ricerche piranesiane. Si allude in particolare al restauro delle matrici e alla relativa schedatura dei singoli soggetti, compresi quelli presenti sui rovesci, tra i quali si deve ricordare il clamoroso rinvenimento della grande composizione di fantasia architettonica ricondotta da Calvesi alla caduta di Fetonte, alla quale lo storico dell'arte dedicò parte dell'ampio saggio iniziale del volume Rinfos Ion, Giovan Battista Piranesi, edito a cura di Calvesi stesso e di Augusta Monferini nel 67 e contenente il catalogo di tutte le incisioni del fondo criticamente affrontato da Monferini. Nello stesso anno Calvesi organizzò in calcografia la mostra su Francesco Piranesi e preparò quella su Giovan Battista, entrambe riassunte nel catalogo Giovanni Battista e Francesco Piranesi, in cui furono presentate al pubblico per la prima volta le matrici, quindi la prima esposizione nella quale furono presentate al pubblico le matrici fu questa. Da considerare, scrisse Luigi Salerno all'epoca nei primi anni 70, direttore della calcografia, come opere d'arte autonome, al pari del disegno o meglio il progetto che esso solo implica l'intervento diretto, manuale dell'artista, intervento pensato in funzione della riproduzione meccanica, pensato in negativo per l'effetto positivo, ma limitato appunto all'incisione in metallo. A quelle novità di metodo avrebbero fatto seguito le sperimentazioni condotte in calcografia negli anni 70 sul linguaggio piranesiano, indagato da artisti contemporanei, quale Luca Maria Patella, Michelangelo Pistoletto, Nini Santoro, Guido Strazza, per citarne alcuni, che si cimentarono con intensi entusiasmi nelle letture tecniche delle matrici di Piranesi, reinterpretando creativamente le espressioni grafiche più tipiche dell'autore. Fu poi l'intelligenza critica di Carlo Bertelli che diresse la calcografia negli anni dal 1973 al 1977 a voler fermare quelle esperienze a dare spazio alle voci del contemporaneo e ai fermenti artistici attorno all'arte della calcografia, nelle due fondamentali pubblicazioni dei numeri della rivista Grafica grafica usciti nel 1976 e nel 1977. Dal neonato Istituto Nazionale per la Grafica si diramarono le iniziative per le celebrazioni dei 200 anni dalla morte dell'incisore veneziano, con le mostre diffuse sul territorio di Roma e del Lazio sotto il titolo Piranesi nei luoghi di Piranesi e siamo tra il 1978 e il 1979. Nel 1994 nasceva in seno all'Istituto il Laboratorio Diagnostico per le Matrici fondato dal direttore Michele Cordaro che ne affidò la responsabilità tecnica a Giuseppe Trassa di Filippetto. Il laboratorio del quale è oggi responsabile Lucia Chedin ha come scopo lo studio e l'analisi del segno inciso, anche strumentale, con metodi basati su criteri aggiornati di indagine scientifica dei procedimenti tecnici per la realizzazione delle matrici e per la determinazione del loro stato di conservazione. Sempre negli anni 90 Luigi Ficacci avviava in Istituto i lavori che sarebbero approdati alla pubblicazione di un fondamentale volume Piranesi, catalogo completo delle Acqueforti edito a Roma nell'anno 2000 contenente tutte le immagini delle incisioni di Gian Battista Piranesi, imprescindibile repertorio iconografico dell'opera omnia piranesiana preceduta da un saggio critico illuminante introduttivo sull'artista. Su questo terreno fertile si organizzava a partire dal 2008 il decennale progetto Piranesi curato da Ginevra Mariani con il coordinamento tecnico scientifico di Giovanna Scaloni con il mio coordinamento tecnico scientifico e il fondamentale apporto del laboratorio diagnostico per le matrici finalizzato a restaura la catalogazione delle matrici del fondo, alla rilevazione degli stileni tecnico-linguistici dell'incisore verificati direttamente sulle matrici, oltre che all'individuazione di alcune peculiarità tecniche e dei tracciati grafici. Ve ne parlerà estesamente Ginevra Mariani nella seconda parte di questa mattina. Questi i motivi storici per i quali l'istituto è stato individuato dal Ministero della Cultura quale ente di riferimento per le celebrazioni dei 300 anni dalla nascita del grande incisore veneziano sul territorio nazionale. Tra i risultati ottenuti dall'istituto come segno di presenza forte su Piranesi nell'anno di Piranesi è la catalogazione online nella banca dati dell'istituto di tutte le immagini e le schede del fondo Piranesi che in tal modo sono state rese fruibili dagli utenti, nonché l'avvio del restauro e del conseguente studio di tutte le matrici delle vedute di Piranesi e la prossima pubblicazione di un libro multimediale sull'autore, edito dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca e dalla Direzione Generale Musei, curato da Maria Cristina Misiti e da me, arricchito di contributi di studiosi e da riflessioni e approfondimenti attorno a Piranesi. La presentazione di questo libro in anteprima è tra gli interventi registrati messi a disposizione degli studiosi in occasione di questo convegno. Ma soprattutto la mostra, curata sempre da Maria Cristina Misiti e da me, che l'istituto ha voluto dedicare all'artista inaugurata a Palazzo Poli Fontana di Trevi il 15 ottobre del 2020 e aperta di nuovo dal 4 maggio fino al 16 luglio con le matrici del Campo Marzio e la stampa del Campo Marzio ricomposta, vorrei segnalare al professor Fagiolo, ha inteso rappresentare il più alto risultato della valorizzazione delle matrici come trionfo del progetto grafico piranesiano. Anche attraverso i numerosi parternariati avviati per l'occasione, ricordo alcuni, quello primo con la fondazione Cioban, poi con Civita Mostre Musei, con la Reale Accademia di Belle Arti San Fernando di Madrid, il Parco archeologico del Colosseo, la Casa di Ghete, il Comune di Cori, la Rinascente per coinvolgere la città, l'Università Solorzola Benincasa di Napoli e la Sapienza Università di Roma. La mostra si pone come un traguardo che riassume in sé quindi almeno 50 anni di studi e di ricerche condotte dall'istituto e incentrate sulle lastre di Piranesi. Proprio nell'ambito di questa esposizione è stata ideata e progettata da Lucia Ghedin, restauratrice delle matrici dell'istituto e da Sofia Menconero, dottoranda presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura della Sapienza Università di Roma, una sezione dedicata ad un lavoro sperimentale sulle matrici delle carceri che le relatrici si apprestano ad illustrare. Grazie. Grazie Giovanna Scaloni. Passo subito la parola a Lucia Ghedin dell'Istituto Centrale per la Grafica che con Sofia Menconero, dottorando della Sapienza Università di Roma, il titolo, la tecnica di Reflectance Transformation Imaging applicata alle matrici calcografiche, una sperimentazione sulla serie delle carceri piranesiane. Per chi ha visto delle anteprime del lavoro straordinario che il laboratorio di diagnostica coordinato da Lucia Ghedin sta facendo all'istituto sa che si tratta di qualche cosa di veramente rivoluzionario ed estremamente interessante. Prego. Grazie. Allora comincio io e ci tengo molto a ringraziare gli organizzatori di questo convegno per il loro lavoro attento e davvero impeccabile. Allora, disattivo il video come consigliato. Ok. Poi parto con la presentazione. Ok, dovreste vedere il mio schermo. Bene dunque, la presentazione è suddivisa in due parti e comincerò io parlandovi dell'inquadramento della ricerca all'interno della quale è stata condotta la sperimentazione. La collega Lucia Ghedin dell'Istituto Centrale per la Grafica entrerà poi nel merito dei risultati ottenuti e della lettura del segno inciso che la tecnica RT ha permesso. La sperimentazione è stata condotta nell'ambito di una convenzione di collaborazione scientifica tra l'Istituto Centrale per la Grafica e il mio Dipartimento della Sapienza. Colgo l'occasione per ringraziare i referenti scientifici di questa convenzione che sono per l'Istituto Centrale per la Grafica, le dottoresse Misiti, Scaloni e Ghedin e per il mio Dipartimento la professoressa Carnevali e i professori Marco Fasolo e Leonardo Baglioni. La sperimentazione di cui vi parleremo oggi si inquadra all'interno della mia tesi di dottorato di cui non vi parlerò in modo approfondito perché non è il tema di questa comunicazione ma di cui vi accennerò in linea generale i contenuti per appunto inquadrare la sperimentazione della tecnica RT. Il titolo della tesi è tra immagine e immaginazione, analisi e interpretazione dello spazio utopico, la serie delle carceri piranesiane. È una tesi di dottorato dell'ambito Icar 17, quindi il settore scientifico disciplinare è quello della rappresentazione dell'architettura. La tesi riguarda due temi principali, quello dell'indagine spaziale di prospettive costruite senza rigore geometrico, come sono le carceri, e quello del confronto tra due versioni di una stessa opera. Per il primo tema ho affrontato il problema dell'indagine spaziale proponendo un metodo che si basa sull'integrazione di tre tipi diversi di interpretazione, architettonica, percettiva e prospettica. Il risultato a cui questo metodo mi ha portato è la ricostruzione tridimensionale dello spazio rappresentato da piranesi in alcune carceri di prima edizione. Il secondo tema invece, quello del confronto tra versioni di una stessa opera, l'ho declinato attraverso due confronti diversi, uno formale e uno tecnico. Quindi non sono entrata nel merito del confronto semantico delle due edizioni, quindi del loro diverso significato, ma mi sono limitata a trovare un metodo che potesse mostrare, mi auguro in modo chiaro, le differenze formali e tecniche delle due versioni. I risultati del confronto formale hanno permesso di individuare tre modalità di modifica che Piranesi ha attuato nella sua rielaborazione dei rami, quelle che ho definito aggiunte, rimozioni e integrazioni e che sono visibili e caratterizzate da un determinato colore nelle immagini di sintesi che qui vedete a sinistra. Anche su questo non posso avventrarmi, ma se qualcuno fosse interessato agli attivi della mia tesi mi può scrivere un'email appena l'avrò discussa, a lui io credo, mi farà più che piacere condividerla. Dall'altro lato invece abbiamo gli esiti del confronto tecnico, ovvero l'analisi del segno inciso attraverso la tecnica RT. Siamo dunque arrivati alla comunicazione di oggi. La tecnica RT fa parte delle tecniche di digital imaging per i beni culturali, ovvero tutte quelle tecniche che si basano su immagini digitali e che sono di supporto allo studio, alla documentazione, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali. Come vedete sono varie. Qui ne ho riportate alcune che spaziano dalla tradizionale fotografia digitale, alla fotografia infrarossa, ultravioletta, in generale multispettrale, dalle tomografie, quindi le TAC, alle radiografie, dall'image base modeling alla tecnica RT appunto. RT è l'acronimo di Reflectance Transformation Imaging. Si tratta di una tecnica di fotografia computazionale che si attua scattando una serie di fotografie con la posizione della fotocamera fissa, come vedete in questa ricostruzione, e con la sorgente luminosa che invece si sposta in ogni scatto, come se eseguisse la traiettoria di una semisfera. I puntini che vedete in questa ricostruzione rappresentano le posizioni ideali che la sorgente luminosa dovrebbe assumere durante gli scatti. Quello che si ottiene è un'immagine RT appunto. Si tratta di un'immagine che ha tutte le caratteristiche delle immagini digitali, quindi è composta da pixel, può essere zoomata, ma ha anche la preziosa possibilità di essere illuminata interattivamente. Se avete un dispositivo che legge i QR code e inquadrate questo che ho inserito qua, il link vi porterà ad una piattaforma dove ho caricato un'immagine RT che potrete sperimentare voi stessi. Potrete quindi ingrandirla fino al livello di zoom desiderato e poi potrete spostare la direzione della luce per comprendere meglio il segno inciso, che poi è quello che fanno gli studiosi di calcografia. La tecnica RT non è particolarmente nuova. I primi algoritmi risalgono all'inizio degli anni 2000 e quindi è stata già applicata proficuamente su diversi tipi di materiali. Qui ho raccolto alcune sperimentazioni condotte dall'Associazione Cultural Heritage Imaging su un epigrafe, un papiro e un manoscritto. Oltre a questo mi vengono in mente altre applicazioni ad opera del CNRI di Pisa su collezioni lunismatiche e basso rilievi. Quindi capite che è una tecnica che si applica bene su tutti quei materiali caratterizzati da una morfologia a rilievo o a microrilievo. Nonostante il materiale calcografico si presti particolarmente al suo utilizzo, la tecnica RT non era mai stata applicata su matrici prima della nostra sperimentazione. Le prime opere calcografiche sottoposte alla tecnica RT sono state queste tre matrici delle carceri che abbiamo scelto per determinati motivi. Allora il frontespizio come tavola iconica della serie ma anche perché è una matrice in cui si riescono a discernere i segni relativi all'incisione iniziale e alle rielaborazioni. La tavola 2 è una tavola aggiunta nella seconda edizione e quindi mostra soltanto la tecnica incisoria del Piranesi degli anni Sessanta. La tavola 16 è una delle tavole che ha subito più modifiche nella sua rielaborazione. Una grossa parte della raffigurazione è stata rimossa, aprasa e poi rincisa, tanto che la di D'Ursenar nel suo saggio La mente nera di Piranesi ne parla come di una tavola sostituita. Bene, allora prima di passare la parola a Lucia concludo la mia parte mostrandovi un breve trailer per invitarvi a vedere la mostra di cui vi ha già parlato Giovanna Scaloni, Gian Battista Tiranesi, Sognare il sogno impossibile, che ha riaperto nella magnifica sede dell'Istituto centrale per la grafica e in cui appunto è presente anche una sezione che riguarda la sperimentazione di cui vi ho parlato. Faccio partire il video. Grazie a tutti. Bene, io ho terminato e passo la parola a Lucia e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Sofia, eccomi, disattivo il video, parto con la condivisione. Buongiorno, sono Lucia Guedino, ormai lo sapete, all'interno dell'Istituto centrale per la grafica sono attualmente responsabile del laboratorio diagnostico per le matrici. Il lavoro che è stato svolto insieme a Sofia si incanala perfettamente sulla linea di ricerca che il laboratorio ha sempre perseguito. Da una parte il restauro delle matrici che porta a liberare dai residui di inchiostro il sorco inciso e dall'altra documentare e di conseguenza raccontare che cosa il segno inciso rivela in quanto tecnica di incisione. Mi preme ricordare il lavoro pionieristico di Giuseppe Trassari Filippetto, fondatore del laboratorio, al fianco della dottoressa Anna Grelle Iusco, proprio per dare voce alla cultura della matrice che era assolutamente assente prima dei loro contributi. Venendo alle carceri, che cosa volevamo indagare con la tipologia di documentazione fotografiche NRT della dottoressa Menconero? La domanda di cosa sia successo tra la prima e la seconda edizione delle carceri di Piranesi trova risposta proprio sulle matrici dell'Istituto Centrale per la Grafica. L'indagine parte innanzitutto dal confronto tra le stampe di prima e di seconda edizione ed è un lavoro che Sofia ha svolto egregiamente nella sua tesi di dottorato. Sovrapponendo digitalmente le due edizioni si vedono a colpo d'occhio le aggiunte, le integrazioni e le rimozioni fatte da Piranesi passando dall'una all'altra. Ma quello che ci interessava a capire era la tecnica. Che cosa era avvenuto nella prima edizione e come Piranesi agisce nella seconda versione a dieci anni di distanza? Ciò che noi vediamo sulla prima edizione è qualcosa di anomalo che in realtà non ha nulla a che vedere con quello che Piranesi aveva fatto in precedenza. E allora qual era la tecnica che aveva appreso? Aveva imparato a incidere presso la bottega di Giuseppe Vasi. All'epoca la tecnica prevedeva di utilizzare la vernice dura come preparazione della lastra abbinata a un mordente d'aceto per inciderla. Il trattato sull'acqua forte di Boss del 1645 ci rivela le ricette. La vernice dura era in effetti una vernice d'olio siccativo e resina mastice, cotti insieme a formare una sostanza vischiosa, una sorta di sciroppo, poi stesa sulla lastra, affumicata e cotta su di essa. Lo strato era molto resistente anche a morsure prolungate. Fautore di questa tecnica era stato Jacques Callot, che desideroso di imitare il bulino con l'acqua forte ci riuscì grazie alla vernice dura e grazie ad uno strumento tagliente come la ciappola. La caratteristica resistenza della vernice dura è tale che per eliminarla dalla superficie deve essere abrasa. Se è troppo cotta ha il difetto di scagliarsi al passaggio della punta per figurare. Tutto ciò detto sulle carceri si vede ben altro, ovvero la vernice di preparazione ha lasciato passare l'acido dove non doveva. Vi sono molti segni accidentali e anche impronte digitali. Questo è incompatibile con la vernice dura. E allora qual è stata la tecnica utilizzata da piranese sulle carceri? Certamente non quella presa presso vasi. In effetti, distaccatosi dalla borteca del maestro, compie un viaggio importante a Venezia tra il 1745 e il 47 e conosce Tiepolo, che diventa per lui da una parte ispirazione artistica dall'altra fonte di innovazione tecnica. Cambia in effetti qualche cosa nella sua modalità di incidere le lastre. Coincidenza vuole che nel 1745 venga riedito il trattato di Abramboss. Ripubblicato in quanto manuale molto valido, vengono però apportate molte aggiunte e revisioni. A mio avviso è fondamentale l'avvertimento alla pagina 3, in cui si dice che la vernice dura non veniva più utilizzata. Ormai si utilizzava la vernice tenera. La vernice tenera è una miscela di resina, bitume e cera d'api sciolta sulla lastra. Per scalfirla non servono punte taglienti, anzi è delicata tanto che per evitare di rovinarla si dice di seguire varie accortezze. Quindi effettivamente quello che si va a vedere sulle carceri è qualcosa che ha a che fare con questo cambiamento, con questa riedizione. Non solo, la vernice tenera si abbina con un acido molto aggressivo, cioè l'acqua da partire, ovvero acido nitrico che veniva utilizzato per la partizione, per la separazione dell'oro da altri metalli in lega. Questo acido non si può usare con la vernice dura perché la scioglie. Ecco dunque che arriviamo attraverso immagini in RTI e macro fotografie a dimostrare che effettivamente la prima edizione delle carceri di Piranesi venne protetta con vernice tenera e incisa con acido nitrico. Possiamo inoltre affermare che vennero effettuati almeno due bagni acidi, ma non con la maestria delle morsure multipli della fase matura. Le indagini si sono concentrate sulla matrice del frontespizio, per inciso l'aspetto della matrice è conseguenza dell'acciaiatura effettuata ai primi del novecento. L'evidenza dei due bagni acidi si deduce da alcune zone che in stampa risultano più bianche, là è stata usata della vernice di riserva, anche detta di copertura. Tra un bagno acido e l'altro questa vernice serve a proteggere e a coprire quelle zone che non devono essere più morse dall'acido. Due gli esempi, una lettera R che è stata nell'intenzione dell'incisore cancellata con vernice di riserva ma risulta invece incisa dall'acido già in una prima morsura. In un quest'altro dettaglio le ombreggiature dell'arco vengono meglio delimitate sempre con una pennellata di vernice di riserva. Inoltre si riconosce l'uso dell'acido nitrico perché la sua reazione con il rame è violenta, gassosa ed esotermica e forma soprattutto in linee molto sottili delle discontinuità. I tratti delle ombreggiature appena morsi dall'acido sono formati da una sequenza di piccole bolle ravvicinate. E ancora, quando Piranesi addensa i segni nell'impito di creare le ombre oppure li incrocia, l'acido essendo così forte brucia le trame, ovvero cancella quelle sottili pareti di metallo che dovevano separare i segni ed essere appiglio per l'inchiostro. A quel punto il sottosquadro che si crea non dà all'esito in stampa il risultato ottimale. La vernice di preparazione poi non è in grado di proteggere bene la superficie e in alcune zone lascia passare all'acido. Il risultato in stampa è una involontaria campitura grigia non imputabile né ad acquatinta né a pennellate d'acido date direttamente sul metallo. Infine utilizza anche ebulino a tecnica diretta ma con parsimonia. Ecco quindi che Piranesi sente la necessità di reintervenire sulle matrici delle carceri. A dieci anni di distanza la sua tecnica è matura. È tornato indietro sui suoi passi la vernice tenera non gli ha dato soddisfazione e torna alla vernice dura. Diamo così credito al suo biografo Legrand che dice che Piranesi utilizzava questo tipo di vernice. Si deduce allora che con questa preparazione lui tornasse ad usare un mordente d'aceto come diceva Boss. E qui affrontiamo un discorso collaterale. Il cosiddetto acido di Piranesi non ci viene tramandato da scritti né suoi né dei figli ma appare così denominato nei manuali d'incisione in italiano dei primi del Novecento. Nessuno cita la fonte primaria che però a seguito di una approfondita ricerca ci sembra di aver individuato nel Dictionnaire Technologique del 1825. Tradotto in italiano nel 1830 alla voce acquaforte di Callot ossia acquaforte d'aceto si dice che la formulazione data dal redattore è del tutto analoga a quella usata da Callot e da Piranesi e la si compra dai mercanti. Aggiunge poi che gli incisori non chiamano più questo liquido acquaforte di Callot ma acquaforte da ripassare. Veniva cioè utilizzata dopo aver dato una prima impronta con l'acido nitrico diluito per proseguire con le altre morsure senza rischiare di rovinare il lavoro in quanto molto più controllabile. Nella fase matura dunque Piranesi utilizza questo tipo di acquaforte e la morfologia del segno che quest'acido provoca sul rame è tipica. Il bordo del segno è molto netto e il fondo del segno è scabro quindi trattiene inchiostro. La particolarità è che lui riesce a modulare i toni con le morsure multiple. Le Grand racconta che facesse 10 o 12 morsule in un dettaglio se ne contano almeno 4 ma in questa modulazione non ci sono profondità esagerate. Le immagini a confronto tra matrice stampa fanno apprezzare la bassa profondità dei segni che corrisponde però a una resa in inchiostro perfetta. Per andare oltre a questa tonalità deve usare la tecnica diretta. Utilizza allora il bulino a volte chirurgicamente ma si individua anche un altro strumento che Trassare nel corso dei suoi studi ha definito ben precisamente. È il cesello profilatore usato di solito per rifinire la statuaria bronzea. Si tratta di uno strumento molto simile al bulino che però non viene immanicato ma viene condotto sulla lastra per martellatura. Lo individuiamo sul rame proprio perché lungo il bordo del segno si vedono le tacche di avanzamento dello strumento sul metallo. Solo così può raggiungere le profondità che né il bulino ma neanche l'acqua forte riuscivano a raggiungere. Con queste evidenze diamo il vero nome a quelle profondità che gli studiosi del passato hanno attribuito all'acqua forte proverbiale di Piranesi. La sua acqua forte è molto ben calibrata, l'acido non è violento ma non può arrivare alle profondità che solo il cesello profilatore può raggiungere. Tornando a parlare dell'acido di Piranesi azzardo un'ipotesi. Il cosiddetto acido di Piranesi potrebbe non averlo inventato lui? Sembra piuttosto che sia l'evoluzione dell'acido di Boss Callot la cui formulazione è da imputare più ai fabbricanti che a Piranesi stesso. Piranesi infatti acquista un acqua forte che chiamano di Callot ma in realtà Callot nel 600 utilizzava l'acqua forte raccontata da Boss. Allora l'acido di Piranesi potrebbe essere piuttosto l'acido di Boss Callot modificato nel tempo degli speciali che lo vendevano. L'attribuzione a Piranesi deriverebbe dunque dai manuali del 900. In conclusione se si potesse realizzare una ripresa ancora più ravvicinata in RTI per entrare all'interno del dettaglio di tutte le matrici delle carceri forse scopriremo dell'altro. Grazie. Ho concluso. Non si sente l'oratore? Non si sente? Non sentiamo nulla. Mario non ti sentiamo. Forse sì? No, Mario non sentiamo. Stato perfetto, dai. Mi sentite? Ok. Allora, avevo fatto dei ringraziamenti speciali a Lucia Ghedin e a Sofia Menconero per questa possibilità di entrare veramente nell'opera piranesiana attraverso queste tecniche diagnostiche, queste tecniche di ripresa straordinario. Ricordo che adesso faremo un quarto d'ora di pausa, ricordo per tutto il pubblico che ci segue che è possibile mandare per i diversi oratori delle domande, vorremmo aprire un dibattito, un question time che senz'altro rimandiamo comunque alla fine della mattinata. ora saremo ben felici di offrirvi un caffè, il pubblico numeroso in sala è invitato qui, se voi dall'Italia e dall'estero vi volete unire ci diamo appuntamento fra un quarto d'ora, 20 minuti e ricordo la seconda parte della mattina sarà coordinata da Simonetta Prosperi Valentino che è qui, che ringrazio per aver aderito a questa incombenza e senza altro dopo la sessione, la seconda sessione di questa mattina avremo la possibilità di rispondere alle domande. Ricordo che il convegno è multilingue, non per nulla è organizzato insieme alla British School e all'Académie de France e quindi siamo pronti a ricevere domande in qualsiasi lingua del mondo e a rispondere di conseguenza. Grazie, grazie mille, ci vediamo fra un quarto d'ora e 20 minuti, direi alle 11 e 20 per la seconda parte della mattinata. Grazie Sì, tranquilli Grazie 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 Prova 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 No, ma tu Eh Non si sente niente No, ma scusa, secondo me deve sentirsi scusami scusami fondo questo questa è la aspetta provo migliaia di bambini sta lavorando in questo momento funziona perché non hanno cibo io non so perché non funzioni tutto l'impianto riprovo perché magari avevo qualche problema non senti niente io sento ma dal compiuto non dal ho capito come facciamo a direzionare dottorissa mi dà una zampetta oh bravo va bene mi dà una zampa lei che ero il cimanchi che ero il cimanchi ciao il fagiolo ha fatto un'introduzione bellissima ho sentito ah l'hai sentita mi sono persa solo l'iniziale di Pasquale perché non sapevo come mette l'audio ma sai che ha fatto una bella relazione a dirla e si dà da fare ma che devo fare? io non lo so ma io vi dovete togliere il suo audio ah praticamente non quello di quelli che parlano ma quello di ma quello di però dovrebbe essere dice qua sopra più su più su no portazioni più su ma è che io non so eh almeno questo è quello che ha fatto mia figlia per farmi capire ah 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 più su più su ecco zoom a zoom riunione visualizza modifica finestra guida zoom forse no 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 non è quello è che tu da lì esci invece dovrebbe essere proprio all'interno del quest'angolo della riunione sì non c'è niente basta niente allora infatti io l'ho notata questa cosa perché pure un'altra volta quindi Mario ah vabbè scusate devo rifare la cosa comunque anche tu posso dicermare sì sì ce l'avevo qui eccola qua la numero 7 ho seguito l'ordine sì sì perfetto allora ce l'hai già quindi la mia venenza abbiamo superato i 100 spettatori e la la cede la guai fa è la stessa password che si è nella nostra testa di un'opera no 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 ciao ciao Grazie. 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 E' qui per andare avanti. Sì. Perfetto. Posso cominciare? Sì. Buongiorno, grazie prima di tutto agli organizzatori di questo convegno per l'invito e soprattutto grazie per poter finalmente parlare di Piranesi in occasione del suo terzo centenario della nascita. Allora vi illustro quelli che sono stati i risultati di Progetto Piranesi e come è nata questo lavoro. Progetto Piranesi nasce da una riflessione sul mio lavoro di direttore responsabile delle collezioni di matrici dell'Istituto Centrale per la Grafica, ruolo che ho ricoperto fino al 2019. Avere scelto tra le 24.000 matrici della collezione il fondo Piranesi non è stato soltanto per la figura di Gian Battista Piranesi, importantissimo incisore di fama internazionale, ma anche per la complessità del fondo stesso. Si tratta infatti di una raccolta, come già avete sentito, di quasi 1.500 matrici e quindi avevo il privilegio di studiare un incisore avendo a disposizione tutte le sue matrici, ma non solo, le matrici del figlio Francesco e ancora un certo numero di matrici pertenute alla collezione personale di Gian Battista e forse anche di Francesco e quindi l'opportunità di inserirlo all'interno del mercato internazionale delle stampe. Il progetto è nato, articolato in sei volumi ed è il risultato ovviamente di un lavoro di equipe in cui più specialisti a vario titolo hanno dato il loro contributo. Un lavoro fondamentale in questo senso è stato svolto dal Laboratorio Diagnostico per le matrici dell'Istituto che è stato partner del progetto con Giuseppe Trassari Filippetto che ha dato proprio l'avvio a questi lavori e poi con Lucia Ghedin che avete appena sentito e hanno sottoposto le matrici ad indagine diagnostica servendosi di uno strumentazione adeguata e la lettura del segno inciso. A restauro delle matrici tutte sono state quelle qui analizzate, sono state restaurate, a questo restauro e all'indagine del segno un importante contributo lo ha dato Ciro Salimitro, un collaboratore esterno che ha restaurato un grandissimo numero di opere e ha approfondito lo studio di uno degli aspetti più significativi emersi dalla ricerca e cioè la presenza di esercitazioni sul verso di lastre, di molte lastre su cui appunto torneremo più dettagliatamente. Lo studio è stato condotto in senso cronologico e i volumi già pubblicati hanno collaborato diversi studiosi tra questi John Wilton Ili, Mario Beilacqua, Giovanna Grumo, Giorgio Marino, gli archeologi e gli archeologi soprattutto, il professor Carlo Gasparri e il professor Domenico Palombi che sono state delle guide indispensabili per poter percorrere l'avventura archeologica di Pirenesi. Con la pubblicazione 2020 del quarto volume che vedete appunto qui Gian Battista Pirenesi, Matrici, Incise, la catalogazione delle matrici ha raggiunto il considerevole numero di oltre 900 lastre per un totale di 646 schede, cioè di 646 opere. Il progetto e la pubblicazione dei primi quattro volumi sono stati possibili grazie anche al sostegno dell'allora direttore Maria Antonella Fusco. Vorrei ricordare che a tutt'oggi, nonostante le diverse pubblicazioni di Wilton Ili e di Ligi Ficacci, non esiste un catalogo ragionato delle stampe, esistono delle pubblicazioni che riproducono le stampe di Pirenesi, ma non il catalogo ragionato e quindi nel corso di questi anni abbiamo cercato, limitatamente alle collezioni consultate, di abbozzare una prima traccia, proprio perché l'analisi della matrice comporta un continuo esame con le diverse tirature delle stampe. Per offrire una visione più possibile e completa dell'opera piranesiana, in ogni volume sono stati pubblicati i testi che introducono le serie prese in esame. Un'attenta rilettura dei testi, in particolare di quelli della metà degli anni Sessanta, è servita per mettere ulteriormente a fuoco il profilo di ricercatore di Pirenesi, che non esita a citare ripetutamente le sue stampe per farne un termine di confronto scientifico o addirittura per pubblicizzare l'uscita di nuove serie. Ma una certa importanza la ricoprono anche le didascalie che accompagnano le tavole. Queste sono veramente un aspetto da approfondire ulteriormente perché sembrano più strettamente dipendenti dalla sua attività di ricerca rispetto ai testi che, come è noto, non si sa se siano stati fatti in collaborazione e sicuramente non sono suoi. Invece le didascalie, devo dire, che riflettono, questo si discuteva anche con il professor Gaspari, di più quella che è la personalità e i lavori svolti da Pirenesi. Non è un caso, infatti, che negli anni 40 e 50 più volte nelle sue opere incide le didascalie su un rame separato e forse questo è un mezzo per verificare, era un mezzo ulteriormente, le sue spiegazioni, cioè nelle biblioteche, nelle consultazioni, dopo l'analisi dei pezzi che presentava. Infatti questo metodo di didascalie separate che in queste opere, già a principi, conunciando di quelle degli anni 40, si trova tutto sospesso, è una cosa che non si ritrova normalmente in incisione perché la matrice separata è di difficile, crea delle difficoltà in fase di stampa e quindi quasi nessuno le fa. La matrice, ormai le abbiamo viste nei primi interventi, è un'opera particolare di difficile lettura, ma è molto importante per lo studio della grafica perché la lastra documenta il lavoro dell'incisore e dalla sua analisi, come abbiamo visto, si possono ricavare dati non sempre leggibili sulla stampa e quindi questo è stato importante appunto per capire l'iter fatto da Pirenesi. Dalla ricerca condotta in oltre quindi 12 anni, come vedete queste sono le copertine dei quattro volumi che abbiamo cominciato a pubblicare nel 2010, sono emersi molti dati. Qui però mi volevo soffermare su quelli per me più importanti, più significativi e sono la presenza di repliche delle matrici originali, la presenza di esercitazioni sul verso delle matrici, di molte matrici, altro fatto inusuale in genere nella grafica, e quello che io chiamo l'affaire Guercino. Sulle 646 opere catalogate finora è stata individuata la presenza di ben 15 repliche delle matrici originali e cioè la matrice non è più quella incisa da Giambattista Piranesi, quindi questo è un elemento importantissimo. E queste sono il frontespizio delle rovine del castello dell'Acqua Giulia, due tavole delle antichità di Cora e ben 12 tavole delle diverse maniere da adornare i canini, quindi non sono più le originali. Questo problema è emerso nel terzo volume, nella prima volta, però non so come andare avanti, ecco qua, sì, no, la frecetta non funziona, in occasione dello studio che stava conducendo Giovanna Grumo sulla matrice del frontespizio del castello dell'Acqua Giulia. Ho portato tra l'altro questa parte che è stato il primo approccio perché è un esempio anche di come si è svolto il lavoro di Progetto Piranesi, cioè il risultato di una collaborazione strettamente interdipendente tra le varie figure di specialisti che ne hanno fatto parte. Grumo, dopo un attento esame e confronto della rassa, si era resa conto che qui in basso la scritta, si vendono presso l'autore, non era alla Trinità dei Monti ma alla Trinta dei Monti. Questo è un particolare, come vedete, qui c'è scritto Trinta e il fatto che rimaneva piuttosto singolare è che nel confronto con le altre stampe si trovava invece Trinità dei Monti, ma non solo, su questa matrice, proprio in questa zona non c'è assolutamente nessuna cancellazione, questo appunto è il lavoro sulla matrice, per cui non si riusciva a giustificare perché ci fosse questa variazione in questa scritta, Trinta, e non c'era cancellazione in questa parte e quindi era da escludere che si potesse trattare di uno stato diverso della stessa matrice. A questo punto è intervenuto il laboratorio con Giuseppe Trasseri Filippetto che dopo una serie di confronti della stampa con un esemplare conservato a stampa dell'Accademia di San Luca, ha appurato che le stampe derivavano da due matrici diverse. Infatti con un software sono state sovrapposte in trasparenza le due foto digitali, dei due esemplari e sono andata troppo avanti, di due esemplari, cioè vedete a sinistra quello dell'Accademia di San Luca e a destra invece l'esemplare a stampa tratto dalla matrice. Dal confronto Trasseri ha visto che emergevano delle rilevanti discordanze nei tratteggi, soprattutto in questa parte e nel resto, nei tratteggi chiaroscurali e nella risoluzione grafica delle due stampe per cui si è giunti alla conclusione che si trattava di una replica, una replica addirittura della matrice. In seguito durante la mia visita alla mostra Piranesi, la fabbrica dell'utopia, ho potuto constatare con l'aiuto di Alessandro Martoni della Fondazione Cini che l'ore esemplare esposto alla mostra romana derivava dalla matrice replica. Tutte le incisioni Cini, acquistate nel 1961, provenivano dall'edizione pubblicata a Parigi dalla Colcografie de Piranesi Freire. Ma come si ottiene una replica? Brevemente. La copia avviene con ricalco della stampa originale tramite, quindi dalla stampa, tramite un sottile foglio di carta che viene reso trasparente con sostanze oleose. Tramite il foglio si trasferisce il disegno sulla lastra di rame già preparata con la vernice e la trasparenza del foglio permette il trasporto della figurazione sul rame in controparte, in modo da ottenere la nuova stampa nello stesso verso dell'opera originaria. Quindi da qui la difficoltà di capire, se non si ha la matrice, di capire che si ha una replica. Questo sistema consente di trasporre perfettamente i contorni della figurazione dei confini chiaroscurali, ma certamente non tutto il tessuto grafico dell'originale. Tra le matrici prese in esame in questo quarto volume, sono risultate repliche anche le due matrici delle antichità di Cora, il pianistallo della città di Cora e residui di antichi edifizi, dove sono emerse delle piccolissime differenze nell'inciso durante il confronto con gli esemplari a stampa, alcuni consultati direttamente da me, altri invece attraverso i siti internet delle maggiori collezioni internazionali a cura di Ushia Ghidin e sono risultate in questo caso delle piccolissime difformità, per esempio nell'ombreggiatura delle rosette, questa è appunto la stampa derivata dalla matrice replica in alcuni parti qui e nella punteggiatura in alcune lettere della scritta. Lo stesso abbiamo evidenziato in quest'altra parte, nel viso, nelle ombreggiature del viso del capitello e nella parte sottostante del capitello. Le due matrici insieme costituiscono la tavola terza della serie. Anche in questo caso, come nel caso precedente, le tavole tratte dalle matrici replica sono risultate riconducibili alle tirature di Francesco e Pietro a Parigi e come tale, questo è stato potuto verificare, si ritrova infatti nella distribuzione del catalogo parigino e nella risistemazione a cura di Francesco e di Pietro dei volumi paterni rispetto al catalogo storico del 1792. Riguardo alle diverse maniere di adornare i cammini, addirittura le 12 sono le matrici replicate. Il confronto è stato fatto con gli esemplari conservati nella Biblioteca Vaticana e nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Il sistema è sempre lo stesso. Vediamo, vi ho portato soltanto alcuni esempi visti i tempi ristretti. Sono risultati le repliche, le matrici da cui sono derivate le tavole che illustrano il test introduttivo del ragionamento apologetico. Una è questa, l'altra è una delle due tavole con le conchiglie. Questa è la tavola che illustra il particolare indice dei monumenti etruschi e si vede in alto che sono stati cambiati i numeri, cioè erano cambiati i numeri di riferimento delle pagine e questo perché ovviamente faceva parte, erano stati inseriti da la stamperia parigina di Fermin Didot nella loro edizione in cui non c'era più il testo originale in 35 pagine ma il testo era ormai in 7 e quindi qua ovviamente si fa riferimento al numero della pagina di Fermin Didot. Ma altri elementi sono stati rilevati qui all'interno delle differenze che hanno indotto a pensare che si trattasse appunto di una replica, sono stati cambiati i numeri e comunque nella replica non ci sono tracce di ripensamento e quindi non era possibile che questa tavola fosse stata tratta dalla matrice originale, fosse un altro stato. È abbastanza interessante che però sulla replica sia cancellato il numero 31 che è il numero originario della pagina e questo è stato cancellato durante l'edizione parigina di Francesco che sta ad indicare qui un eccesso di filologia che forse Francesco aveva ancora qualche tiratura dei testi del padre che poi invece sono andati perduti e questo noi lo sappiamo dal contratto di vendita che è stata fatta con la calcografia camerale dove la calcografia camerale con il cardinale Tosso dice che non c'erano più i testi e che quindi se volevano vendere le matrici e le avrebbero acquistate era necessario assolutamente stampare i testi e così fa Fermin Didot. Qui è stato anche il risultato di un'indagine di questa lastra, anche il famoso cammino di Lord Exeter che anche questo è risultato essere una replica. Come è risultato essere una replica uno dei tanti cammini egizi delle diverse maniere dove ci sono delle discordanze nelle due figure di Anubi e qui nella parte centrale del fuoco e della resa a bulino del profondo nero. Ancora è risultata una replica, vi ho portato la stampa perché altrimenti poco si può vedere e questa è una delle due tavole del caffè degli inglesi. Elementi di discordanza sono stati rinvenuti soprattutto nella parte intorno alle sfingi e in fondo nel fondo del paesaggio. Ultimo, vi ho portato a far vedere ma non ultimo perché sono ben dodici, è questo cosiddetto orologio rezzonico. Questa è stata appunto una delle prime riflessioni fatte perché si vedeva, nel confronto con le stampe analizzate, c'è questa scritta, questa è tratta dal rame originale, invece questa è tratta dal rame del fondo Cortini che non presenta qui nessunissima scritta, non solo, ma in questa parte non c'è nessunissima cancellazione, pure la scritta è bella grande, le abrasioni, le cancellazioni, il ritorno con i vari strumenti lasciano sempre una traccia sul rame e qui invece non c'è nessunissima, non c'era nessunissima traccia della scritta e quindi questo fa capire che si tratta di repliche. È una scoperta emersa veramente che ci ha lasciato un po' colpiti ma comunque anche a me devo dire anche dispiaciuti di non avere più quelli che erano gli originali, probabilmente sono state matrici perdute o rovinate durante le vicissitudine che come tutti sapete hanno incontrato, ha incontrato la collezione piranesiana con la fuga a Parigi e il suo ritorno. Ci sono dati particolari, un altro dato interessante che si pensa sempre è che queste cose, anzi si pensa, sicuramente sono avvenute con l'attività di Francesco, come si è visto anche nell'intervento precedente del direttore De Pascale, il fatto che ha fatto, ha mostrato dei testi in cui mancavano le vignette, anche come si sa mancano le vignette e il capolettere, sono dati perduti, non sono conservati. Ci sono comunque dati particolari, per esempio analizzando le antichità di Cora ho visto che l'area ottagonale, le coperture del Tempio di Ercole a Cora che sono presenti nell'introduzione, nel testo introduttivo, non sono stampate nell'edizione di Francesco. Allora ho detto ma come mai? Perché noi invece abbiamo le due matrici e queste due matrici sono stampate da Fermenghide, quindi è ancora importante stabilire quello che è successo con Francesco Piranesi, veramente molto importante. Passo adesso all'altro argomento molto importante che è quello della presenza di incisioni sul verso delle lastre che ha rappresentato veramente uno studio particolare. L'argomento è stato affrontato da Ciro Salimitro che ha messo a fuoco come questo fenomeno sia presente in modo consistente soprattutto in alcune delle serie analizzate da Gian Battista e soprattutto nelle antichità romane, nella magnificenza dell'architettura dei Romani, le rovine del Castello dell'Acqua Giulia, il Campo Marzi e ancora le antichità d'Albano di Castel Gandolfo. L'indagine di Salimitro si ricollega alla prima catalogazione effettuata ad Augusta Monferini per l'edizione italiana Le Fossion del 1967, ma è stato fatto un approfondimento veramente notevole rispetto a quella prima catalogazione proprio grazie al lavoro e all'estrumentazione a disposizione del laboratorio diagnostico che all'epoca non erano disponibili. Per dare la dimensione di questo dato solo nel terzo volume su 152 matrici prese in esame ben 76 recano sul verso prove per incidere e quindi si è pensato in un primo momento a esercitazioni riferite alla bottega di Gian Battista. Gran parte degli interventi sul verso delle matrici è relativa a esercitazioni per paramenti murari, piante di edifici, rilievi architettonici, motivi ornamentali e profili di elementi architettonici. Sono schemi grafici essenziali realizzati a secco dopo la figurazione del recto, in gran parte prova di strumenti tecnici. Questi tracciati solo in alcuni casi sono stati ricondotti da Salinitro alle figurazioni che compaiono sul recto delle matrici e vediamo ad esempio, vi ho portato pochi esempi, questo è uno studio per la cupola di San Pietro. Un'analisi approfondita è stata esibita su questo studio proprio da Salinitro ed è la cupola di San Pietro incisa sul verso di una matrice del gruppo di lastre aggiunto al parere sull'architettura dopo il 1767. Questo è lo studio del particolare e la stampa che è stata tratta. Alle luce delle indagini seguite al microscopio, Salinitro ha escluso come supposto invece da Monferini che si tratti di un primo tentativo di Pirenesi per incidere la veduta dell'esterno della Gran Basilica di San Pietro in Vaticano, perché il rovescio della lastra presa in esame presenta ancora traccia di martellatura, ciò indica che la superficie del rame non era mai stata preparata per l'incisione, quindi si tratta di esercitazioni. È molto probabile che lo schizzo sia uno studio di bottega, forse un'esercitazione sugli strumenti da adoperare per questo tipo di figurazione. Altro elemento, questo che a me interessa molto, perché adesso vi dico, è sul verso di una lastra, eccolo qui, riprende, no, questo è sul verso del frontespizio della magnificenza e riprende però una lastra in particolare, che qui è messa in evidenza, che è questa tavola delle magnificenze. È un fatto a mano libera, con punta metallica, ma quello che mi ha colpito è quando ho visto negli album della Custalle di Casue un disegno a sanguigno, non so se lo farà vedere poi Stefan Moret, che è molto molto simile a questa prova di Capitello, quindi pur essendo un piccolo elemento ho trovato interessante questa corrispondenza di questo piccolo disegno, che però non sono riuscita a portarvi, spero che dopo si vedrà, che è presente nell'album di Casue. Velocemente, questo è un altro dei tanti studi di colonna, di bassamento di colonna sul rovescio di un'altra matrice del Campo Marzio e questo invece è un primo ritratto che è sfuggito tra l'altro alla Monferini di Clemente XIII dietro ad una tavola delle antichità di Albano e di Castel Gandolfo. Forse un primo ritratto per la magnificenza dell'architettura dei Romani, forse Giambattista non è stato contento di questo risultato, in effetti non aveva tanto torto e poi è stato dato, come è noto, a Domenico Cunego. Un altro importante è questo inciso invece da Giovanni Ottaviani, Angelica e Medoro, questa è la stampa che è stata tratta, dietro ad una matrice sempre delle antichità di Albano e di Castel Gandolfo, poi stampato in una delle tante serie per la raccolta da Gruscino. Infine, questa stampa tratta da un verso inciso, questa volta dietro una matrice delle antichità della Magna Grecia di Francesco. Per me questo è veramente semplificativo, diciamo, di tutto quello che abbiamo visto fino adesso e che è ampiamente più descritto nei volumi già pubblicati. Questo rovescio presenta questo piccolo paesaggio ed è firmato da Elisabeth Kevan. Non solo si legge il nome, ma si legge anche la 1805 Paris ed è proprio un insieme di tutte le tipologie che normalmente si trovano dietro sul verso di molte matrici, capitelli particolari decorativi, i tracciati lineari, ma qui addirittura ci sono i minuti che servono per la mursura. La Elisabeth Kevan era una collaboratrice di Francesco e di Pietro e questo sembra confermare che le esercitazioni presenti sul verso delle matrici sono una modalità derivata soprattutto dall'attività di Francesco. Dopo il trasferimento a Parigi, infatti, aveva aperto con il fratello Pietro un'accademia ospitata nel Collège de Navarre e in cui la Kevan insegnava con gli altri ad incidere. Questo medaglione è tratto, come avevamo visto, dal medaglione inciso su una tavola della magnificenza dell'architettura dei Romani. Ancora interessante è, per esempio, perché introduce un altro argomento, cioè l'utilizzo di alcune matrici. Questa è la matrice della vignetta per il testo dell'introduzione del progresso di belle arti. Sulla matrice qui, a questa altissima, era stata individuata una cancellazione, ma non si capiva come mai perché non si trova nessuna stampa che avesse un'indicazione differente di Minerve. Ma ci ha tolto d'impaccio una richiesta di Heather Hyde Minor che mi ha chiesto se era presente in collezione la matrice perché Caroline Yerkes aveva individuato nella biblioteca di Yale un ex libris riconducibile a questa matrice, ma con una scritta diversa, Mr. Manzis, cioè quell'Archibald Manzis, che noi non eravamo riusciti a trovare. È probabile quindi in questo caso che Piranesi abbia prima stampato, realizzato questa lastra come ex libris, abbia poi cancellato la scritta Manzis e l'abbia riutilizzata mettendo Ciminerre, come infatti nella maggior parte dei casi si trova. Concludo con un caso a mio avviso interessante, edita a Roma nel 1764 la raccolta dei disegni del barbiere da Cento, detto il Vircino, è stata ampliata nel corso degli anni più volte rispetto alla prima edizione, rendendo difficile la ricostruzione della raccolta, ma fortunatamente per me il progetto Piranesi riguarda lo studio e l'analisi delle matrici originali di Piranesi e quindi il campo di studio si è ristretto solo ai quattro rami che recano la sua firma. Ma anche quella della firma si è presentata come un problema complicato. Le mie perplessità sulla toografia delle matrici da disegni di Vircino derivano dal fatto che si tratta di disegni di figura ed è noto che già negli anni 50 a Giambattista era solito servirsi di aiuti per realizzare la traduzione dei bassoriglieri, come nel caso della collaborazione di Jean Barbot, che firma alcune tavole delle antichità romane, inoltre lo stesso Legrand a scrivere. La mia perplessità riguardo all'autografia di tre lastre, di frontispizio sicuramente autografo, ha trovato una conferma per la matrice che ritrae Nicola Zabaglia, il famoso capomasto della fabbrica di San Pietro. La particolarità tecnica di questa matrice, a mio avviso, era difficilmente riconducibile allo stile di Giambattista e quindi ha indirizzato la mia ricerca sul soggetto Zabaglia e così ho trovato nel volume Corsini 50 H4 un esemplare senza la firma di Pirenesi. La stampa nel catalogo è infatti attribuita a Gezi perché deriva da una caricatura di Pierleone Gezi. Non si conosce l'attuale obbligazione del disegno da cui è tratta la stampa, ma si conoscono altre due caricature di Zabaglia fatte da Gezi che presentano alcune analogie con questa matrice. Esiste un disegno del Museo di Roma, ora esposto al Museo del Teatro Argentino, in cui la figura di Zabaglia, come potete vedere, è praticamente identica a quella che si trova nella stampa e quindi nella matrice, benché inserita in una scena più ampia. Sono poche varianti, ma le stampe, questa è la stampa Corsini. Vedete che non presenta nessuna scritta, se non quella di Leone Gezi e nessun numero. Esiste anche un altro esemplare di questa stampa, che è un esemplare intermedio, sempre conservato nel Museo di Roma e non reca nemmeno quello nella firma, nel numero, ed è un acquisto dal fondo Mugnoz che risulta essere stato, che risultasse essere stato un esplato intermedio tra quello che qui vedete del fondo Corsini e quello che invece è tratta la stampa dalla matrice del fondo Piranesi. Quindi si tratta di stampe tirate dalla stessa matrice che però ha subito alcuni interventi. Intanto guardate con attenzione qui la riga nera della cornice è solo nella parte sottostante, questa è tratta dal fondo Piranesi, poi invece come vedete nella stampa che è presente in uno dei volumi Corsini è leggibilissima la cornice nera, non solo, questa cornice è stata ritagliata, è stata ritagliata la matrice al punto tale che qui a sinistra non è più ben leggibile Equest, che c'era scritto Equest Petrolae Gezius e la E è quasi troncata e quindi poco leggibile. Sulla stampa tratta dalla matrice del fondo Piranesi sono poi, rispetto a questa, state aggiunte invece una serie di interventi a bulino, soprattutto nelle gambe, sullo sgarbello, sulla vestito di Zabaglia, in questa parte e in questa parte sono stati aggiunti numerosi colpi di bulino per dare maggiore completezza alla figura e quindi è stato tutto ritoccato. Sono presenti cancellature nella capigliatura, interventi quindi nella capigliatura, infine è stato aggiunto CAV Piranesi FEC. Sulla matrice, proprio a questa altezza, quindi a sinistra sulla matrice, è risultata una cancellatura che tra l'altro per chi dovesse consultare questo esemplare tratto dalla matrice del fondo Piranesi, vedrà che sono cancellature che tutto sommato si vedono ancora sulla stampa. Queste varianti, considerato anche l'esemplare del gamimento comunale delle stampe, definiscono quindi tre stati successivi della stessa matrice. Il primo relativo alla stampa Cozzini con un tessuto senico più elementare e con la cornice integra. un secondo stato identificabile con l'esemplare di Museo di Roma senza la cornice intera ma con una serie di ombreggiature aggiunte. Infine il terzo stato con la firma di Piranesi che probabilmente dopo aver comprato questa matrice è intervenuto con alcuni ritocchi a bulino, aggiunto il numero 23 che compare solo sulle stampe della raccolta di Guercino e poi il suo nome con il titolo di Cavaliere che però ottiene soltanto nel 1767, sappiamo che la prima edizione del 64. Quindi una stampa probabilmente aggiunta in un secondo momento, ma non siamo ancora riusciti a capire precisamente quando perché si trova sempre in queste raccolte. E concludo, sottolineando che proprio in base a questi elementi che sono emersi nello studio di progetto Piranesi, appare è molto importante poter creare veramente una rete di studiosi con cui confrontare i dati pubblicati in questi anni in progetto Piranesi, quindi dei dati che sono confortati da una ricerca precisa, in modo da poter definire con maggiore esattezza il catalogo delle sue opere. Grazie. Grazie, Gineva, di questa interessantissima analisi che sottolinea l'importanza nelle stampe di considerare le matrici. Cioè noi che abbiamo studiato un po' l'arte grafica ci siamo spesso limitati a studiare le stampe, mentre le matrici sono fondamentali e questa ottica che Gineva ha aperto questo orizzonte lo dimostra. Ora passiamo a Stefan Moré che tra i tanti titoli che ha, tra i tanti meriti, è stato il responsabile, il curatore del fondo di disegni, di album rintracciati del crustale di Karlsruhe. Questo studio è un altro fondo importantissimo su tutti i rapporti di Piranesi e di bottega. Diamo la parola a lui, il suo intervento come titolo The Role of Drone Copies After Antique Moments in Piranesi's Workshop. Grazie. Buongiorno, mi sentite? Forte e chiaro. Grazie. Allora, The complex and far-reaching activities of Giovanni Battista Piranesi and his workshop have been the subject of art historical research for many decades. For a long time, Piranesi's extensive and multifaceted oeuvre was contrasted by a relatively small number of drawings. To generalize somewhat, one can say that Piranesi's autographed drawings are either virtuoso architectural fantasies drawn in a sketchy manner or small format sketches that often seem to be notated in a kind of shorthand. What is not known, so far, are detailed execution drawings in Piranesi's own hand. After Georg Kabirske succeeded in 2014 in identifying some 300 drawings in two albums in the Kunsthalle Karlsruhe as originating from Piranesi's workshop, the question of what lies, as it were, between Piranesi's sketches and his many executed works, could be posed anew. The Karlsruhe drawings make it possible to focus on the workshop and its various activities. They allow an insight into Piranesi's studio practice, they give an idea of the members of the staff and their tasks and of what might be called the workshop's pictorial archive. Since 2017, the Karlsruhe collection has been studied within the framework of a research project financed by the German Science Foundation. You see the institutions and persons involved on the panel. The albums come from the bequest of the Karlsruher architect Friedrich Weinbrenner, born 1766, died 1826. Weinbrenner, who in the 1790s had spent some years in Rome. Most probably, he acquired the drawings from Piranesi's son Francesco, who in these years sewed parts of his father's estate. Weinbrenner made his choice with a view to his future work as an architect. Accordingly, a large part of the Karlsruhe material consists of drawings based on ancient models, which were not drawn by Piranesi himself, but by members of his workshop. In the first part of my talk, the first part of my talk is dedicated to the question of who actually worked in Piranesi's workshop. Although Piranesi made several sketches of the people working in his studio, their personalities, however, remain more or less unknown to date. Individual names of Piranesi's collaborators have so far been mentioned in sources or research literature, but it has proved almost impossible to assign drawings to the respective artists in the past. The only exception is Francesco Piranesi, to whom Mario Bevilacqua recently ascribed some figures to studies in Mordena. Research on the Karlsruhe drawings over the last years has made it possible to attribute further drawings to Francesco and to assess more precisely his role in his father's workshop. Among the drawings in Karlsruhe, attributable to Francesco, there's a series of copies after antique statues and reliefs, executed in pen and partly with brown and grey wash. To this series, further sheets from the Morgan Library in New York can be added. The New York drawings are indicated with a red frame here. On each sheet, the collection in which the drawn sculpture was located was indicated in the upper right-hand corner, sometimes in a strange orthography like Gustignani for Giustignani and Ancelotti for Lancelotti. For reasons of time, I will skip here the various intermediate steps that led me to this attribution. In some of the statue drawings, the draftsman exaggerated a little when he indicated the biceps by drawing small tick marks. The same drawing style can be found on the verso of the Karlsruhe drawing of the Rutan candelabra. The two victories, of which you see an enlarged detail here, are closely related to the statue drawings. They even feature the tick marks on the upper arms. The same is true for the Roman soldiers. Both representations on the sheet turn out to be preparatory drawings for the lowest plate of Piranesi's representation of the column of Marcus Aurelius that was printed from six large copper plates. With remarkable economy, Francesco has drawn exactly one half of the fries with the victories. In the etching, the other half appears mirror inverted. The door with the two soldiers appears somewhat altered, for we now see only one of them in the etching. The depiction of the column of Marcus Aurelius is not dated in the print itself, but its date of origin is known. From the notes in the Tacuino B in Modena, presumably written down by Laura Piranesi, it appears that the etchings of the column of Marcus Aurelius were completed in 1775 and published in July of that year. Accordingly, the drawings must have been made before 1775. As a first result, we can state now that Francesco Piranesi around the mid 1770s at the age of 16 or 17 studied ancient statues in various Roman collections and also contributed to the publication project of the column monuments with his own preliminary drawings. Since Hind, considerations on Francesco's part in his father's work had started predominantly from the etchings he executed. With reference to Piranesi's publication of the column monuments, John Wilton Ely had suggested in 1994 that, quote, Dolce Bene and the younger Piranesi were probably involved in most, if not in all the plates concerned, unquote. For Francesco Piranesi, the Karlsruher preparatory drawing can give us can give us an idea of the nature of his involvement. Vincenzo Dolce Bene, mentioned by Wilton Ely as working together with Francesco on the column monuments, is one of Piranesi's collaborators known only by name. Until now, no drawing could be attributed with certainty to this draftsman specializing in figures. In his biography, Legrand tells us that Piranesi asked the French painter Laurent Pécheux to draw the reliefs of Trajan's column for him. Pécheux, however, was not willing to do so, but recommended a pupil, Vincenzo Dolce Bene, for the task. According to Legrand, Dolce Bene then worked for Piranesi for seven or eight years as a draftsman for figures, reliefs and other works. Legrand dates Piranesi's request to Pécheux to the mid-1750s. However, this must be a mistake in chronology, because at that time, Dolce Bene was just about ten years old. It's very likely that he began to work for Piranesi only in the second half of the 1760s. After the end of his collaboration with Piranesi, Dolce Bene continued working as a specialized figure draftsman and created a large number of preparatory drawings for print series, including the preparatory drawings for the plates of the illustrated multi-volume catalogue of the Museo Pio Clementino by Giambattista and Ennio Quirino Visconti. However, all these drawings are not known. In the Karlsruhe collection, there are two drawings in black chalk for which I would like to suggest Vincenzo Dolce Bene as the author. Both drawings depict the statue of Saint Paul on top of the column of Marcus Aurelius, for the base of which we have just seen Francesco's designs. The drawings, the drawing in the middle, is the direct preliminary drawing for the etching on the right. The drawing style is clearly different from that of Giovanni Battista and Francesco. Likewise, for stylistic reasons, the other two draftsmen, whom I will come to in a moment, are to be excluded. But until further drawings can be attributed to Dolce Bene with certainty, my attribution can only remain a suggestion. On the left, you can see the sketch for a fireplace design by Piranesi. The drawing extends over two sheets that were once stapled together with pins, as my colleague Maria Kremer found out. In the estate of the architect Thomas Hardwick at the Royal Institute of British Architects in London, there is a drawing by Giuseppe Manocchi that shows the same fireplace with minor changes. Hardwick visited Rome in the late 1770s and with all probability acquired the drawing there. Manocchi brought Piranesi's sketch to perfection, but unfortunately, we do not know what later happened to this design. In any case, it was not used in the diverse maniere. On the reverse of the sheet, there are some inscriptions in Manocchi's handwriting that make it possible to date the drawing to 1766. Giuseppe Manocchi, born in 1731, was a draftsman who specialized in the exact reproduction of antique decorations. His meticulous drawings after the decorations of the Vatican lodgers, of which you can see two examples on the, no, not on the right, on the left. Well, these these drawings were much sought after as well. After a few years in London with the Adam brothers, he returned to Rome, probably around the mid 1760s. The architect James Byers mentions in a letter from Rome dated 20th May 1769 that Manocchi was working for Piranesi. However, Manocchi must have worked with Piranesi in Rome as early as 1766, as the dated London drawing shows. In the Royal Institute of British architects, there are other fireplace designs, drawings and designs by Banocchi that strongly resemble Piranesi's designs. The drawing in the upper right letter D compares very well with the sheet ascribed to Piranesi in the Morgan Library that you see below, letter E. I would therefore like to suggest that the New York drawing should be attributed to Manocchi as well. A large part of the Piranesi collection in Karlsruhe consists of drawings after antique ornaments and architectural sculpture. Since the research of Christophe Frank and Georg Kabieske, we know that the majority of these drawings was made by the French draftsman Nicolas François Daniel Luyer. Luyer, who was born around 1736, had been trained by Clérisseau and began working for Piranesi probably in the second half of the 1750s. In 1768, Luyer left Rome for Paris. Luyer's collaboration with Piranesi coincided with the years in which Piranesi was intensively engaged in researching the peculiarities of Roman architecture. Our research suggests that the creation of finished drawings of Roman ornaments in grand format was an important branch of the Piranesi business in those years. Luyer played a crucial role in the production of these drawings. In the Karlsruhe collection, sketches made in front of the objects as well as finished drawings of the highest quality can be attributed to him. In Piranesi's workshop, the drawings were duplicated using the technique of counterproofing. They were then usually reworked as counterproofs are typically somewhat pale. This method was much more economical than copying the drawings by hand. Counterproofs appear reversed, but this was of minor importance for the reproduction of an ornament. As high quality representations of antique models, such drawings from the Piranesi workshop were much sought after, especially by foreign artists and architects, as various drawing bequests left by contemporary architects show. For example, the Scottish architects Robert and James Adam acquired a large number of reworked counterproof copies during their respective sojourns in Rome. To give you an example, on the left, you see a drawing by Luyer from Karlsruhe after an antique freeze that was in the Orti Farnesiani on the Palatine during Piranesi's lifetime. It is now preserved in the Archaeological Museum in Naples. Luyer repeated the head of the right-lying griffin, which is destroyed in the antique relief, repeated it slightly enlarged above the actual representation. In the Karlsruhe drawing, the head is looking to the left. In the counterproof from the estate of the Adam Brothers in London, it looks into the other direction. However, Luyer's ornamental drawings not only served as models for foreign architects, but Piranesi also used them for his etchings. In Karlsruhe, a group of grand-format ornament drawings by Luyer executed in black chalk can be connected with some of Piranesi's etchings for the diverse maniere. At the top on the left, you can see the depiction of an ancient keystone with a sitting figure of a Dea Roma. The drawing is based either on a keystone from the Arch of Constantine or from the Janus Quadrifronts. In any case, the drawing shows the antique model in a highly reconstructed state. In the etched design for a mantelpiece from the diverse maniere on your right, Piranesi has incorporated the motive of the drawing. He used the keystone with the Dea Roma four times in the etching, transforming it into a kind of capital. The drawing on the left shows a sarcophagus that was located near the mausoleum of Augustus during Piranesi's lifetime. The putty frieze of the sarcophagus lid appears above the top of the mantelpiece in the etching on the right. Both drawings are in folio format, whereas the corresponding details in the etchings are only a few centimeters in size. The drawings are therefore not preparatory works for the etchings, but can rather be understood as part of the workshop archive from which Piranesi drew for his mantelpiece designs. Further examples could be added. The ornamental drawings produced by Luye and other as yet unidentified draftsmen thus had great significance as models not only for foreign artists and architects, but also for Piranesi himself. For his etchings and designs he drew on his workshops workshops collection of exact reproductions of antique ornaments. But Luye's and other studio members' drawings were not, were also, sorry, were also used as direct preparatory drawings for etchings. This was especially the case when Piranesi's opus magnum, the Vasi Candelabri was prepared. My first example is a drawing of the famous ancient eagle relief in the portico of the Church of Santi Apostoli. Piranesi used the motif for the title page of the second volume in the Vasi Candelabri. The drawing has exactly the same dimensions as the corresponding part in the etching. Its style is typical of a finished sheet by the hand of Luye. If we take a closer look on the drawing, we notice that it was worked over with black chalk in a rather rude and sketchy mode by another hand. No doubt this was done to add more volume to certain parts of the drawing and to mark the damages of the ancient model. This becomes clear by comparing the drawing with the etching. A parallel case is the representation of the famous Medici palister, which can be attributed to Luye as well. Like the eagle drawing, the sheet has exactly the same dimensions as the corresponding parts of the etching. In a similar way, certain parts of the drawing were reworked by another hand in black chalk, and like the drawing we've seen before, the damaged sections of the ancient model are indicated. We can conclude from these observations that Piranesi for both etchings used drawings that had been executed by his former workshop member Nicolas Luye before the French artist left for Paris in 1768. The red chalk drawings had both first being used to produce counter proofs and then became part of the workshop collection of drawings. When Piranesi decided to represent the Eagle Relief and the Medici pilaster in his etchings, he harked back to the drawings by Luye and worked them over. As a result of my remarks, the following could be stated. As an outcome of our work in the Karlsruhe Piranesi project, it's now possible to define more precisely some of Piranesi's collaborators and their respective tasks as draftsmen. In the workshop, they served as specialists for figure or ornamental drawings and had the task of drawing Piranesi's sketches and designs to perfection. Especially in the 1750s and 60s, and probably even later, the production of large scale ornament drawings played an important role for Piranesi's work. The French draftsman Luye was the central figure in this. Furthermore, the role and function of the workshop drawings in contrast to Piranesi's own drawings can now be assessed more precisely. Unlike many other drawings by Piranesi and his workshop, the ornamental sheaves were preserved long after Giambattista's death, making it possible for the Karlsruhe architect Weinbrenner to acquire a large quantity of them in the 1790s. Thank you very much. Thank you very much. Stefan, complimenti da parte mia per aver trovato tutti questi collaboratori, aver proprio essere entrato dentro i meccanismi della bottega di Piranesi. Mi ricordo le prime volte, tre anni fa ormai, che hai fatto vedere in Erziana questo materiale, ancora così complesso, così complicato, che veramente il risultato è assolutamente molto soddisfatto. Grazie Simone. Grazie. 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 Grazie per l'introduzione e mi sentite bene? Se mi sentite bene allora avvio il PowerPoint. Grazie. Trois dessins, trois techniques graphiques, tre processus d'execution, tre stili, tre funzioni per un solo objecito. L'hotel d'Albano constitue un exemple particolaremente appropriato per l'exposizione dei problemi di l'etide concernendo le pratiche grafiche e l'usage del dessin in l'atelier di Piernaese la presenza di diversi styles o meglio, di scrittura grafica al centro della produzione di atelier e ce, nel contesto dei anni 1760 poi 1770 Le question che io vorrei qui sollevano sono in quali la micro-etude del dessin di Zurich e il rapprochamento a d'autres feuillats di comparazione donano nuovi elementi per la comprensione dell'usage del medium dessin di sua pratica e dei roi in quanto riguarda una produzione di atelier a diversi periodi Qu'apporte questa misa in comparazione per la comprensione del materiale di atelier come un ensemble, come un tout regruppando dei dessin oggi dissiminati in diverse collections Le dessin conservato a la Centrale Bibliothèque di Zurich donna in effetti l'occasione di evocare la presenza d'un altro fragment del materiale grafiche di l'atelier di Piernaese complimentare e interdipendante a ce già connoi di la Morgan Library di Modena, di Berlin e più recentemente di Karlsruhe Il è ben connoi che la paire d'hotel a stata vista da Giovanni Battista allora che si stava ancora in l'esglise Santa Maria della Stella albano dove servono di benitia encostrata in un mur e l'historica di questi hotel ha stata rappelata e resumata in un'esglise da Giovanni Battista di Piernaese acquièrte le hotel a una data in certaine in la seconda moitié dei anni 60 e come l'indica Merklin il dut necessariamente far restaurare au moins le parti qui étaient encastrata dans le mur non visibile probabilmente moins travaillé e le compléter de maniera simetriche au pendant respectif la paire d'hotel parvient ensuite dans la collection du Vatican en 1782 avec d'autrement un marbre de la collection de l'artiste le dessin de l'hotel est conservé au sein d'un album légué par l'architecte zurichois Hans Caspar Escher à la bibliothèque de Zurich et il était élève et ami de Friedrich Weinbrenner à Rome à la fin de l'album sont regroupés entre autres des dessins du contexte romain des années 60 en étroits liens avec le matériel graphique issu de l'atelier de Piranese conservé à Karlsruhe et à New York on trouve notamment une contre-épreuve de sanguine tirée du dessin du relief de l'aigle des Saint-Apostoli l'écriture de Giovanni Battista sur l'un des feuillets et enfin l'ensemble contient des dessins du français Nicolas François-Daniel Lullier dessinateur spécialisé dans le dessin d'ornement présent à Rome du milieu des années 50 jusqu'en 1768 et dont des dessins sont présents dans l'atelier de Piranese comme l'ont montré les recherches dans le cadre du projet une première identification de la main de Lullier a été proposée par Christophe Franck en 2018 sur la base de dessins d'ornement conservés à la Kunstbibliothek de Berlin et de leur approchement à deux recueils gravés d'ornement en parallèle avec des recherches menées par Georg Kambierske dont le livre dont il livre les résultats dans un mémoire de master soutenu en 2020 à l'Université de Munich j'indique aussi l'article collaboratif publié dans la revue suisse d'histoire de l'art et d'archéologie datant de décembre 2019 publié par moi-même en collaboration avec Christophe Franck Maria Kramer et cette étude porte davantage sur le corpus des dessins qui se trouvent aujourd'hui à Zurich et surtout sur le contexte documentaire qui les accompagne le feuillet de Zurich est dessiné sur papier verger et a été contrecollé en plein à une date inconnue il s'agit d'une composition préparatoire à la planche gravée numéro 8 de la série des Antiquitas d'Albano et di Castel Gandolfo parue en 1764 il occupe une place de choix dans la série puisqu'il s'agit du seul objet représenté isolé sur une planche l'objet est représenté de manière frontale le dessin et la gravure sont de même dimension et ne présente pas de notable différence si ce n'est l'ajout d'ombre dans la gravure un premier dessin à la pierre noire a été tracé à l'aide d'instruments géométriques avant d'être repassé seulement en partie à la sanguine laissant en réserve certaines parties notamment à droite la partie supérieure et celle chevauchée par la légende il ne s'agit pas du dessin exécutif pour la réalisation de la matrice puisqu'un dessin intermédiaire devait nécessairement avoir existé aucune trace d'huile n'a été retrouvée sur ce feuillet par la restauratrice Maria Kremer qui a effectué l'étude technique du dessin et ce contrairement à nombreux autres dessins utilisés pour le transfert en gravure dans l'atelier et je montre ici un exemple où ces traces bleues sont effectivement bien visibles on trouve cependant des trous d'aiguille qui pourraient indiquer l'usage d'un tel procédé de report sans pour autant suffire à prouver son usage il n'y a donc pour l'instant pas d'ultérieurs indices concernant la réalisation du dessin exécutif non conservé à partir de ce dessin ou de possibles étapes dessinées successives impliquées dans le transfert du motif sur la matrice la légende apposée sur le côté droit du dessin vient confirmer l'appartenance du feuillet au contexte de l'atelier puisqu'on trouve la même graphie sur d'autres dessins piranésiens pour ne citer qu'un seul exemple je montre un détail de la composition préparatoire à la gravure du frontispice des diverse maniere conservée aujourd'hui à Berlin il s'agit d'une main spécialisée de copiste pour laquelle nous sommes en train d'étudier actuellement des hypothèses d'attribution la modalité de représentation de l'objet dans le dessin et la gravure témoigne d'un souci de proximité au modèle antique de précision archéologique accentué notamment par la présence d'un plan au sol du camp des labres du côté gauche du dessin cette modalité de représentation rejoint le but argumentatif et démonstratif développé par Piranès à travers plusieurs séries gravées dont les séries sur les antiquités de Rome et du Lassium dans lesquelles il documente et fait l'éloge de la production romaine antique dans les divers domaines de l'ingénierie de l'architecture et de l'ornement la date de publication de la série 1764 sert donc de Terminus Antequem pour la datation du feuillet sa réalisation peut être située probablement autour dans le début des années 1760 possiblement autour de 1762 à 1763 moment de l'exposition dans la zone d'Alban l'hôtel est représenté une seconde fois planche 95 de la série des bases de Candelabri la planche est publiée en 1776 selon le catalogue de 92 le dessin préparatoire appartient donc cette fois au contexte de la première moitié des années 70 à ce moment-là l'hôtel est présent dans l'atelier de Piranès on constate une évolution dans le processus d'exécution du dessin avec une multiplication des faces dessinées d'abord un dessin à la pierre noire et certaines parties à la mine graphite ont été réalisées avec des lignes de construction des corrections aux reprises multiples sont notables en particulier dans le rendu en perspective du socle les contours de la structure de l'hôtel ont été repassés à l'encre des accents ont été ajoutés à la pierre noire plus grasse notamment dans les guirlandes des frises végétales comme pour accentuer les trous de forêt ou certains contours les parties de frise ornementales sont plus travaillées ombrées et enfin on relève des annotations à la sanguine et agrandissement de détails sur les côtés il s'agit donc d'une réalisation processuelle qui suggère une spécialisation des tâches successives dessinées au sein de l'atelier le dessin et la gravure sont de même dimension et il a été fait usage d'un papier huilé probablement pour la réalisation d'une étape dessinée ultérieure des différences sont de table entre le dessin et la gravure notamment le choix du relief des danseuses au lieu de celui des animaux ou de la chasse et ce en accord avec le texte de la légende de la gravure qui met l'accent sur l'iconographie de l'objet se pose la question aussi pour des dessins de candélabres de leur place dans l'articulation du rapport de l'objet sculpté au dessin et du dessin à la gravure si le rapport à la gravure s'envissait évident il n'est pas exclu que ce dessin pourrait être à l'origine avant d'avoir servi dans le processus de réalisation de la composition gravée aussi être un projet pour la restauration sculptée au moins partielle comme c'est le cas pour d'autres dessins de candélabres présents à Karlsruhe donc un possible assemblage ou projet papier en vue d'une restauration on note l'assemblage de l'hôtel à un socle circulaire aussi présent dans la gravure non conservée dans la disposition actuelle de l'objet il est intéressant de souligner aussi le point de vue légèrement pris légèrement par en dessous qui accentue la monumentalité de l'objet et qui fait preuve d'un niveau supérieur dans la volonté de mise en scène de l'hôtel par rapport à la première représentation frontale plane objective de la série des Antiquitas d'Alban dans ce sens va aussi la perspective angulaire par laquelle il semble qu'on cherche à montrer l'objet sous un angle plus large dans cette modalité de représentation l'hôtel est en quelque sorte magnifié en accord avec l'objectif de la série à laquelle il appartient de promouvoir notamment les productions de candélabres destinées à la vente la confrontation des deux feuillets met ainsi en évidence l'évolution des pratiques du dessin dans l'atelier d'une série gravée à l'autre du début des années 60 aux années 70 et du choix d'approche de l'objet en fonction du but recherché dans sa représentation des ravés les questions de datation et stéistique liées à l'implication de dessinateurs ou de l'usage de dessins de contemporains dans l'atelier est à la fois de première importance et incroyablement complexe le candélabre d'Albano est aussi représenté sur un des feuillets du carnet B de Modène parmi d'autres objets semblables comme l'explique Mario Béhila dans l'ouvrage de référence sur les carnets les dessins sont à mettre en lien davantage avec des projets sculptés qu'avec des planches gravées il s'agit soit d'objets restaurés présents dans l'atelier ou des projets de restauration sculptés pour certains encore non identifiés ou peut-être finalement non réalisés dans les esquisses du candélabre des carnets de Modène comme pour le dessin de candélabre d'un hôtel similaire du British Museum que je montre ici on trouve le style défini comme caractéristique de la manière de Piranes donc au-delà de la technique employée la force du trait du tracé des traits densément répétés une grande spontanéité qui témoigne encore d'une recherche par le dessin dans le cas de Modène et du British Museum le feuillet papier sert de première intermédiaire entre l'idée de l'artiste son projet mental et l'exécution concrète de sa réalisation sculptée le feuillet est le lieu de la traduction de la pensée qui survient par étapes le lieu de l'expérimentation des combinaisons de formes qui précèdent la réalisation finale du projet dans le domaine de production d'objets décoratifs c'est avant tout ce type de dessin que l'on associe à Giovanni Battista à sa manière en tant que penseur de l'invention à la tête d'un atelier à Zurich c'est avec un tout autre style graphique que l'on a à faire caractérisé par une précision du trait et du détail un rendu soigné lisible dans un but documentaire se pose donc la question de savoir s'il s'agit d'une autre manière de l'artiste ou d'une autre main c'est une question récurrente qui se pose dans le cadre de notre étude si on décide d'aborder les dessins par le prisme de la question de l'autographie un paradigme qui présente cependant bien des limites dans un contexte d'étude de l'étude d'une création collective au sein d'un atelier au-delà de la question d'attribution il est important d'inscrire la micro-étude du feuillet dans un contexte plus global du début des années 1760 dans le contexte de ces années les figures de dessinateurs semblent surtout liées au cercle impliqué dans l'enseignement du dessin d'ornement à Rome on pense en particulier au cas de Lullier dont on sait qu'il enseigne justement dans la première moitié des années 1760 dans un cercle proche de l'atelier de Pyramès ces dessins ont probablement aussi servi de support d'étude à Francesco Pyramès au plus tard dans la seconde moitié des années 1760 on pense aussi plus largement au cercle français important dans le contexte de la seconde moitié des années 50 et encore au début des années 60 en particulier Hubert Robert dont on sait qu'il effectua dans les mêmes années en 1763 un séjour à Cora en compagnie de Pyramès comme l'indique notamment Jean Caillot à partir des années 60 et surtout au début des années 70 Pyramès semble faire preuve de moins de patience pour la réalisation de dessins appliqués précis et détaillés il recourt d'une part à des dessins ou copies de dessins d'ornements de contemporains présents dans son atelier mais qui circulent au Citarum pour les projets spécifiquement réalisés dans l'atelier comme les compositions préparatoires aux gravures et les projets de restauration comme le second dessin de l'hôtel d'Albano conservé à Carraswey ici représenté à droite un cercle restreint de collaborateurs de Le Secondet dans des tâches spécialisées effectuées sous sa direction concevoir le matériel d'atelier le matériel dessiné issu de l'atelier dans une perspective d'ensemble permet donc de mettre en lumière plusieurs phases de datation de ce matériel graphique notamment autour de 1756 jusqu'en 1775 environ les dessins liés aux magnificens et aux antiquités du Lassian pour cette tranche chronologique le fond de la Morgan Library de New York est particulièrement important et c'est un moment de transition de passage à une production de vins exponentielles dans l'atelier les années 1761 1769 environ donc toute la décennie 60 pour les dessins liés aux diverses manières et la production de cheminées davantage présents à Berlin et à New York et les années 70 pour la série des vases candelabri dont les dessins sont plus présents à un carrosse Les séries gravées ne sont pas les seuls référents pour la définition de ces phases temporelles qui sont d'ailleurs à considérer sans rigidité puisque certains dessins datables de la seconde moitié des années 50 ou du début des années 60 restent dans l'atelier pour être réutilisés plus tard seulement dans le courant des années 70 c'est le cas notamment du dessin du relief de l'aigle et des saintes apostolis employés dans la réalisation du frontispice des bases candelabri que j'ai montré tout à l'heure donc il faut tenir compte de l'idée que les dessins présents dans l'atelier autant les dessins d'ornement que probablement certains dessins de candelabri ont été réemployés réactivés dans une seconde phase temporelle pour différents usages pour conclure on voit donc comment l'étude du matériel dessiné de l'atelier piranaise ne peut se passer de la combinaison de la micro-étude de chacun des dessins et d'une perspective plus globale à une étude à une échelle temporelle et géographique plus vaste que celle de l'atelier seul il s'agit de créer des liens avec les divers ensembles de dessins maintenant identifiés au sein de diverses collections en cherchant à encadrer au mieux et le plus explicitement possible leur étude au sein d'un contexte documentaire donc archives et lettres principalement nous avons cherché ici à donner une idée de la complexité des dessins de la période autour de 1760 et je souhaite souligner à nouveau l'importance des liens entre les fonds de Karlsruhe de Zurich et de la Morgane Library l'étude technique des dessins apparaît également indispensables et en cela je souhaite remercier Maria Kremer pour les précieuses indications communiquées tout comme les autres membres du projet qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de cette intervention en particulier Géard Kabierske le professeur Christophe Franck la professeure Daniela Mondini et je précise que les résultats de ces recherches sur les dessins de l'atelier conservé à Karlsruhe seront livrés au sein d'un catalogue publié sous la direction d'Irénée Bruckley Christophe Franck Dorit Schaeffer et la directrice du musée Mulartam donc en catalogue encore en cours d'élaboration et sur ce je vous remercie de votre attention Merci Bénédicte et Maroni parce que votre conférence est bien liée à celle de Stéphane Moré et nous aide dans l'utilisation des modèles dans l'atelier de Piranes Merci beaucoup Allora possiamo dire conclusa questa mattinata ma prima volevamo con Mario Bevilacqua vedere se ci sono delle domande dell'intervento siamo entrati nel vivo proprio della creatività di Piranesi come artista ma anche Piranesi come imprenditore perché ci siamo abbiamo avuto degli interventi interessantissimi su tecniche materiali e materiale di atelier questo forse è un grande avanzamento rispetto agli studi di grafica e gli studi piranesiani consolidati perché stiamo aprendo e questo devo dire grazie all'Istituto per la Grafica che lavora essenzialmente sul fondo matrici ma direi che il ritrovamento di Calstrue è stato fondamentale si aprono veramente delle prospettive importanti sul modo di operare noi abbiamo sempre in un certo senso forse lancio una provocazione ma letto piranesi come ancora con una lettura sostanzialmente romantica e quindi cercando l'artista la mano dell'artista il creatore il genio il genio vulcanico oggi ci rendiamo conto che la parte imprenditoriale che le fonti ci raccontavano perché in fondo in fondo abbiamo testimonianze che rendono piranesi anche molto fra virgolette antipatico perché era tirchio avido sfruttava la famiglia come un padre padrone e quindi ci riavviciniamo forse più grazie anche a materiale materiale nuovo o prima non letto in maniera così così poliedrica ci avviciniamo ad un piranesi più contestualizzato in una realtà la Roma del settecento che effettivamente come sappiamo dalle fonti era un ambiente estremamente difficile fervido di iniziative di dibattito di confronto internazionale ma anche di intrighi e di lotte di lotte commerciali possiamo dire di aver avuto i complimenti questo possiamo dirlo del professor Carlo Gasparri che si complimenta con tutti i relatori per le loro comunicazioni questa mattina e Susanna Susanna Pasquali vuoi venire qui forse possiamo dato che è in sala Susanna Pasquali in presenza possiamo chiedere di venire qua a fare la sua domanda ho una domanda molto semplice nella sua formulazione però che mi interessava particolarmente da fare a Ginevra Mariani perché ha parlato di sostituzioni di lastre e riottenute a partire dalle stampe si possono ottenere di nuovo delle lastre per poi stampare volevo chiedere una cosa ci sono casi fortunati in cui c'è qualche parte di lastra persa e poi ritrovata e quindi è possibile fare un confronto fra lastre o solamente tutto quello che tu hai presentato è basato sul confronto tra quanto è stampato e la lastra che avete e poi chiedo se c'è tempo un'altra domanda che noi almeno io dal mio punto di vista di storico dell'architettura mi chiedo sempre intorno a quel guercino intorno a quella pubblicazione che mi sembra dedicata a Genkis se voi che avete questa attenzione così forte ha strecciato la mano sulla lastra vedete qualche differenza tale per cui è lui non è lui è sempre lì ecco visto che avete tirato fuori questo grande tema del guercino che è un po' qualcosa di diverso rispetto a tutta la produzione precedente il successo riguardo a guercino come ho già detto l'analisi è stata focalizzata solo su sulle quattro lastre che vengono che sono firmate da da pirenesi il frontespizio che ha è stato analizzato è autentico la mia perplessità su guercino come avevo già detto rimane nel fatto dello studio di figura e per quanto riguarda invece la lastra di zabaglia sicuramente non è di pirenesi devo dire che io ero sono orientata a pensare non siano le pirenesi neanche le altre due vecchio dormiente la madonna anche se si può dire che essendo matrici tratte da disegni di guercino e come noto la stampa di traduzione ha come primo elemento il fatto di tradurre il disegno quindi si potrebbe obiettare non è tiranesi perché ha seguito il disegno di guercino ma ho dei molti dubbi perché poi per quello che riguarda sempre quella serie non è stata affrontata in toto ma è noto come tutta quanta la serie ruota intorno alla collezione che appunto aveva come avevo già detto all'inizio tiranesi delle stampe del grande Bartolozzi e quindi a guidare questo secondo me si può dire a guidare questa serie è la mano di Bartolozzi cioè se uno analizza la serie io non l'ho analizzata nelle ultime parti perché mi sono concentrata appunto come ripeto sulle quattro di Piranesi cioè presunte di Piranesi per il resto secondo me quella di Zabalia dà il fatto che Zabalia non è Zabalia ha avuto questa fortuna di trovare questa stampa di riuscire a trovare questa stampa che ci dà la certezza che non è assolutamente ma anche le altre anche le altre due hanno delle caratteristiche che non hanno a che fare con il dupus piranesiano ma io andrei anche oltre siamo in una fase avanzata siamo negli anni 60 e dall'analisi di tutte le lastre perché noi siamo arrivati al 1769 e appare chiarissimo mi ricollego a quello che ha appena detto Mario Bevilacqua che gli anni 60 aprono un capitolo totalmente nuovo aprono un capitolo in cui lui è un imprenditore essenzialmente appunto lavora con Jenkins Cavaceppi con tutto il mondo che gira intorno alla vendita di queste delle antichità e che avrà proprio il suo apice poi nella raccolta di vasi cippi e candelabri che è abbastanza rivellatoria e che è quasi tutta opera di bottega o interventi del figlio Francesco cioè il suo discorso ormai verte sulla creazione del suo museo quello che lui chiamava il suo museo e poi alla vendita invece di quelle cose che lui voleva vendere che erano i reperti archeologici sui pastisce famosi ma per quanto riguarda Guercino quella è un catalogo di vendita un catalogo di vendita che lui fa insieme a Jenkins come era un catalogo di vendita anche sarà vasi e cippi come un catalogo di vendita quello che abbiamo visto diverse maniere ad addornare i cammini quindi sono tutti discorsi relativi ad una fase diversa una delle tante anime piranesiane che comunque lo rende un personaggio sarà romanticizzato ma era senz'altro un personaggio d'eccezione ma perché la sua capacità di rimanere in equilibrio ma è sempre questo cioè lui è sempre in equilibrio in queste sue fasi cioè quella viappia delle antichità romane una visionaria di quella che non esista però lui lo inserisce nelle antichità romane siamo semplicemente nel 1756 non interrompe mai riesce sempre e secondo me la sua grandezza riesce sempre a mantenere questo equilibrio mi avevi fatto anche un'altra domanda adesso mi sono non ci sono purtroppo resti di questo genere la scoperta di questo di queste repliche che appunto come ho già detto prima a me mi è dispiaciuto infatti quando continuavano a dire un'altra replica e ci sono rimasta un po' male però diciamo che adesso siamo a 15 non so quello che succederà in seguito perché dovrebbero mancare altri due volumi e poi tutte le vedute di Roma che io non ho voluto affrontare cronologicamente ma lasciarle nell'ultimo volume nel senso che non so se verrà fatto ma proprio perché a mio avviso essendo state incise in tutta quanta la sua vita ed essendo quello un discorso molto suo sì legato al mercato ma che ha sempre tenuto in mano lui a differenza delle altre cose è molto interessante cioè stabilire ma anche molto difficile non lo nego perché stabilire ogni tanto cercare di fare una cronologia che sia una reale cronologia stabilire un confronto un confronto non sarà facile è un'opera che va a latere con tutta la sua attività e che lui non interrompe mai pensate che la meraviglia del Colosseo a volo d'uccello è del 1700 circa datato 1768 cioè quando lui pubblica le diverse maniere non c'è proprio niente in comune tra queste due cose è molto molto interessante questo fatto che lui riesce a mantenere in ogni sua collocazione un discorso completo è difficile che io penso a che la votazione delle vedute io penso a che per l'anno grazie Ginevra hai toccato un tema interessante quella delle vedute è veramente interessante e hai fatto notare questa cosa importante che se lo riserva lui anche nel periodo e io penso che nuovo materiale sicuramente verrà alla luce nello studio del collezionismo di Piranesi nel 1700 c'è ancora sono sicuro una massa di fonti carteggi scambi epistolari acquisti che che verrà alla luce verrà indagato negli archivi credo soprattutto inglesi francesi e diciamo dei grand tourists che venivano qui e acquistavano perché sappiamo come le novità editoriali venissero registrate segnalate a livello da una rete europea e e questo ci introduce anche al tema di oggi pomeriggio che è proprio il collezionismo di Piranesi nel 1700 perché anche per quanto riguarda i disegni la produzione grafica ricordiamo che purtroppo sappiamo molto poco il caso di Weinbrenner e degli album di Karlsruhe è un po' unico ma importanti nuclei di disegni piranesiani che erano evidentemente delle cartelle tenute insieme e si che lo dice Francesco quando rivendica e sono tematiche di avere i volumi di disegni sono interessanti anche l'intervento della Maroni dopo quello di Stefan Moré perché appunto mette in evidenza come si ritrovano poi alla Morgan si ritrovano cose il ritrovamento di costale della costale di caso 2 è fondamentale per aprire proprio questa questa cosa c'è una domanda sì c'è una domanda ancora una domanda a Ginevra forse nel suo catalogo delle incisioni delle matrici questa domanda è un po' diversa no questa sì l'ho vissima era una domanda che volevo fare però mia a Ginevra nel catalogo delle incisioni delle matrici questi quattro volumi proprio fondamentali per un approccio di tiranesi che sta venendo fuori adesso quali sono le matrici quali sono i nuclei importanti che sono ancora rimasti fuori dall'analisi dunque come avevo detto già prima abbiamo pubblicato quattro volumi su sei il sesto volume doveva riferirsi al si sarebbe dovuto riferire a vasi cipi e candelabri e alle colonne coplidi l'argomento di vasi cipi e candelabri è molto molto importante proprio per questa ricostruzione di cui si parla e di piranesi di cui parlava anche adesso Mario Bevilacqua e mi spiace che non sia qui con noi Raffaella Bosso che lavora alla soprintendenza di Napoli stata allieva di Carlo Gasparri e che ha fatto già un lavoro importantissimo su vasi cipi e candelabri perché ha analizzato dal punto di vista archeologico una archeologa e non solo ha analizzato tutti quanti i riferimenti ma ha anche fatto un lavoro specifico sulle dediche e quindi questo dovrebbe essere dovuto essere un lavoro veramente interessante da poter fare attraverso proprio il suo lavoro attraverso il lavoro di di Rossella Bosso e poi l'ultimo volume doveva essere appunto le antichità le vedute di Roma e insieme a Pestum che sono le ultime matrici insomma fatte dai suoi disegni in collaborazione con Francesco Francesco che è questa figura a mio viso centrale cioè uno studio e quindi spero che Valeria Mirra ci saprà aggiornare su Francesco ma Francesco è fondamentale per studiare l'opera del di Gian Battista perché è lui che prende in mano tutto già dopo la morte già dopo il 1778 non solo poi quando va per Igi ma dal 78 al 99 quando si sposta a Parigi perché deve fuggire Francesco prende in mano tutto e avrà la collezione paterna a quel punto abbiamo visto che fa diverse cose che fa delle edizioni che non sono completamente identiche che è già avvenuta la storia delle repliche delle matrici e quindi focalizzarsi adesso sui documenti relativi a Francesco a mio avviso è molto importante ci possiamo augurare possiamo che continuerà questo lavoro sulle matrici sono fortunatamente in pensione da due anni ma ci auguriamo potrebbe essere l'augurio che viene fuori da questo convegno e perlomeno Ginevano non abbandoni questo soggetto adesso bisognerebbe trarre determinate conclusioni che penso possano essere tratte nell'ultimo volume dopo appunto degli interventi di queste figure ripeto Fella Bosso anche Valeria Mirra tutte persone che stanno studiando degli argomenti perché il carattere del progetto Pirenesi era questo cioè cercare di regolare poi non sono stata molto brava nel diffondere forse i volumi ma per cercare di fare un punto perché mettere in rete le opere è bello però ognuno può dire quello che gli pare invece bisognerebbe partire sempre metterle in rete ma partire da già una base di dati che sono stati controllati perfettamente e poi da metterli a disposizione e quello cercare di dialogare come è successo fino adesso anche questi interventi di oggi questa scoperta dell'album di disegni di ritrovare degli elementi che poi sono cioè questo problema dei disegni è fondamentale ed è interessantissimo grazie abbiamo una domanda abbiamo una domanda che che fa da parte di Diana Borsi quando si diffonde la consuetudine di regalare album con incisioni piranesi destinate ad abbellire enti uffici pubblici università allora rivolgiamo noi rivolgiamo a tutti gli esperti rivolgiamo a tutti io faccio solo una piccola notazione va bene l'uso di donare le opere di piranesi è antica quanto piranesi da quando piranesi è diventato un artista di grande successo il rezzonico sia il pontefice che il cardinale donavano donavano le opere di piranesi a visitatori ambasciatori circolavano tra le corti come doni diplomatici e però lascio la parola ad esperti dicendo solamente che poi diciamo regalare album di incisioni destinati ad abbellire enti uffici pubblici forse lì si tratta di un uso novecentesco ricordo tutti noi sappiamo come ecco nel caso specifico in Italia addirittura le incisioni di piranesi erano negli scompartimenti ferroviari e decoravano no? ti ricordi? sì sì gli studi dei dentisti i condomini quelle naturalmente le tirature moderni quindi le tirature quelle che hanno un po' usurato i rami questa domanda è fatta a tutti vorrei intervenire a questo proposito Simonetta e Mario mi sentite? sì sì a proposito dei doni che venivano fatti delle edizioni piranesiane ho parlato nel mio intervento delle edizioni di calcografia quindi di quelle edizioni che la calcografia comincia a licenziare dagli anni quaranta dell'ottocento sicuramente di fondere le edizioni piranesiane nelle istituzioni del già nato stato italiano quindi dal 1870 in poi è una prerogativa una forte prerogativa della calcografia quindi la diffusione enorme che poi se ne fa nei gabineti dei ministri penso al Quirinale che la galleria è adornata di stampe di piranesi penso anche alle scuole per poi finire con fotoincisioni che già si paventavano come ho detto nella commissione artistica si fanno fotoincisioni di piranesi e la commissione artistica della calcografia subito si preoccupava dei diritti della proprietà artistica questo chiaramente poi è un altro uso diciamo dalla fotoincisione all'offset che però ha contribuito alla diffusione di un'immagine e di un immaginario e di uno stile piranesi però ecco un ruolo molto forte ce l'ha la calcografia in questo nel donare alle istituzioni alle soprintendenze al paese Italia in generale sia sulla fine dell'ottocento che poi negli anni del fascismo e nel primo dopoguerra ecco la calcografia riveste un ruolo fondamentale in questo e sono tutte edizioni con il cosiddetto numero arabo che non sono edizioni francesi e non sono edizioni per me di dopo grazie Giovanna è molto interessante e fa parte della fortuna di Piranesi della fortuna tarda che non finisce mai che forse l'ha rilanciata proprio in quel periodo mi sembra che ci sono ringraziamenti a tutti a tutti i relatori non li stiamo a nominare da parte di di varie persone online che ci seguono online vogliamo concludere quindi la sessione di questa di questa mattina e ci diamo appuntamento alle due e mezza precise per la seconda parte della giornata che verterà appunto sul tema del collezionismo europeo di Piranesi ma nel settecento perché poi nei prossimi giorni avremo interventi anche sulla diffusione otto novecentesca di Piranesi a livello a livello globale ma appunto sono questi temi di dispersione della collezione dei nuclei di disegni e la diffusione internazionale della dell'immagine di Roma e della storia della civiltà romana ma anche non dimentichiamo le teorie piranesiane sul sull'arte e sulle genealogie dell'interpretazione del classico sulla teorie architettoniche sulla città che proprio nel secondo settecento hanno avuto questo grande impatto allora ci diamo appuntamento alle due e mezza precise e ringraziamo tutti e stay with us see you later ciao ciao Grazie. Sì, scusate, abbiamo sbagliato. Sì, scusate, abbiamo sbagliato. Sì, scusate, abbiamo sbagliato. Sì, scusate, abbiamo sbagliato. Sì, scusate, stanno prendendo per celebrare l'anniversario piranesiano. Prego, Barbara. Grazie. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Mario Bevilacqua e gli altri organizzatori di questo convegno di avermi voluto presiedere questo pomeriggio dedicato al collezionismo piranesiano che rientra in qualche modo nel filone di studi intrapreso negli anni che sono state in Biblioteca Vaticana, vent'anni di Biblioteca Vaticana, di collezioni appunto grafiche della Biblioteca Vaticana e anche in questi ultimi cinque anni in cui sono ormai alla direzione dei musei vaticani. Ed effettivamente le grandi celebrazioni del 2020 che il Vaticano ha dedicato a Raffaello ugualmente avevamo pensato di dedicarle anche al grande piranesi. Scherzando con Mario Bevilacqua dicevamo sono 500 anni dalla morte di Raffaello ma 300 dalla nascita di piranesi e quindi era comunque qualcosa di celebrazioni positive. Non c'è dubbio che le collezioni vaticane dedicate ai grandi piranesi sono molto molto varie e quindi è sembrato naturale celebrare queste iniziative, appunto questa ricorrenza giubilare con una serie di iniziative congiunte, Biblioteca Vaticana e Musei Vaticani. In Biblioteca Vaticana tra l'altro si conservano un ricchissimo patrimonio di opere complete del grande piranesi. Sappiamo tutti che la Biblioteca Vaticana è una biblioteca di biblioteche quindi ha la caratteristica di avere tante tante provenienze non soltanto romane ma anche di fondi diversi che si sono andati acquisendo dedicata all'opera piranesiana. Di collezioni romane mi vengono in mente le grandi famiglie che tra l'altro sono stato spunto ricchissimo degli approfondimenti che Ginevra Mariani ha dedicato per i suoi studi e ha analizzato chiaramente anche i fondi chigiani, i fondi barberini e tanti altri fondi, il Ferraioli e altri ancora ma in particolare i chigiani e i barberini, ma al tempo stesso appunto con acquisizioni diverse pensiamo al ricchissimo fondo Ashby che a sua volta è composto di collezioni diverse che sono state, che sono arrivate grazie alle acquisizioni di Thomas Ashby in epoche diverse appunto con attività diverse devo fare una premessa appunto questo progetto appunto massiccio che iniziato con la mostra di Piranesi e l'Aventino qualche anno fa ormai credo più di 25 anni fa forse 30 o quasi insomma viene portata avanti, è stato portata avanti in questi ultimi anni da Simona De Crescenzo e associata a Ludovica Tibetti negli ultimi anni e che insieme a me appunto cureranno, stiamo curando un catalogo generale non soltanto delle collezioni diciamo di stampe della Biblioteca Vaticana ma anche appunto allargando l'argomento più al collezionismo anche coinvolgendo anche la parte dei musei quindi del collezionismo di altro genere legato a Piranesi che si trova in Vaticano. Simona De Crescenzo e Ludovica Tibetti che lo dico per inciso, l'ho già detto a Mario Bevilacqua che inizialmente in un call paper per questo convegno non avevano capito che ci fosse un un indirizzo specifico sul collezionismo altrimenti sarebbero qui probabilmente in questa sezione a parlare dopo dopo ebbe sul sul collezionismo entrando più nello specifico ma questo è riservato appunto al volume che è di prossima uscita mentre ahimè la grande mostra eh nel bacio Carlo Magno in piazza San Pietro con eh un allestimento e una ricca eh ricca presenza di tante opere con articolazioni eh nel dettaglio di di tanti di tante sezioni dedicate al collezionismo appunto soltanto della Biblioteca Vaticana eh ma anche eh appunto con interventi diversi legati anche alla alla diffusione nel nel nell'esordio della fotografia di di temi piranesiani e anche fino ad arrivare al al contemporaneo noi abbiamo eh acquisito un importante fondo di Gabriele Basilico dedicato a alle Biblioteca Piranesiana è un fondo che ormai è conosciuto da tanti ma insomma avendoli acquisiti pensavamo di terminare una mostra che inizia invece col collezionismo piranesiano con la Roma di Piranesi ma soprattutto con Piranesi anche antiquario quindi con tanti reperti che abbiamo importanti che abbiamo nei musei vaticani che facevano parte di quel museo piranesi eh della sua casa ehm a Palazzo Tomati appunto nel che eh che sono oggi parte delle collezioni che in parte poi sono arrivate sono ripartite sono riarrivate per acquisizioni diverse ma insomma comunque i i nostri archeologi si sono molto con anche delle novità che presenteremo nella mostra e e nel catalogo eh con tante novità e tante iniziative che appunto avevamo in animo di di presentare tra l'altro nell'ottobre del duemilaventi questo non è stato possibile avevamo valutato di farlo nell'ottobre del duemilaventuno tenendo sempre la data di nascita anche se 301 302 adesso eh arriveremo al al 302 augurandoci che che si possa fare e con nell'ottobre del duemilaventiddu l'inaugurazione eh a catalogo già uscito eh che sarà un catalogo più caldo di collezioni appunto piranesiane in Vaticano eh di organizzare appunto questa mostra nel braccio di Carlo Magno articolata in diverse sezioni ma non sto qui a perdere tempo eh a così a spiegare nel dettaglio della mostra perché lascio la parola e poi casomai in ambito di discussione se qualcuno sarà interessato per fare delle domande quindi risponderò a quelle quindi direi che mh con questa premessa si può aprire un pomeriggio dedicato al collezionismo eh non soltanto strettamente romano delle grandi famiglie romane ma anche europeo eh nella mia esperienza personale di tanti anni occupandomi di grafica ho trovato collezioni di piranesi eh ovunque nel nel mondo quindi il collezionismo eh dalla eh dal sud Italia da piccole biblioteche del sud remoto d'Italia chiaramente eh al nord Europa ma questo qui appunto non non sono solo io a dirlo è un dato di fatto e quindi effettivamente piranesi ha un collezionismo amplissimo europeo che che questo pomeriggio analizzeremo insieme grazie 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 Barbara e allora iniziamo subito eh ebbe Antetomaso eh biblioteca cosignane dei lincei eh a Roma e con l'intervento su materiali piranesiani nella collezione Corsini appunti dai bibliotecari grazie ebbe grazie mi cerco il mio non riesco ad aprirlo però forse eh ok mi do una mano grazie allora ehm intanto buon pomeriggio a tutti e vorrei ringraziare gli organizzatori del convegno prima di tutto e non solo per avermi invitato a partecipare naturalmente ma anche e sì grazie ma anche soprattutto per la cura e l'impegno che in questi mesi difficili per molti motivi ma insomma grazie anche per per la ricerca eh ci hanno visto appunto eh lavorare in condizioni un po' un po' difficili quindi un particolare ringraziamento per la tenacia e per eh la cura. Il titolo del dell'intervento è una precisa eh indicazione dell'oggetto di questa ricerca rivolta ad una ricognizione dei materiali piranesiani presenti nella biblioteca Corsini e soprattutto ad una riflessione sulle modalità di acquisizione di sistemazione e catalogazione di queste incisioni tra settecento e ottocento. Lo scopo è quello di osservare da una prospettiva tutta interna con gli occhi e il lavoro dei bibliotecari e dei curatori la nascita del progressivo arricchimento della collezione di stampe dell'incisore veneziano. La biblioteca Corsini come è noto era una delle maggiori collezioni di grafiche della Roma settecentesca nata dalla passione e dall'impegno del cardinale Neri Maria Corsini che anche grazie al lavoro e alla consulenza di Monsignor Giovanni Gaetano Bottari personaggio chiave nella cultura della Roma di quei decenni la apre al pubblico nel 1754 nel palazzo di via della Lungara a Trastevere dove oggi ancora si trova. Nel corso della prima metà dell'ottocento un nuovo sodalizio si crea tra collezionista e bibliotecario. Si tratta stavolta del principe Tommaso Corsini senior e del bibliotecario Luigi Maria Rezzi. Moriranno ad un anno di distanza l'uno dall'altro il principe Tommaso nel 1856, Rezzi nel 1857 ed il loro impegno nella cura e nell'accrescimento della collezione di grafica, soprattutto della collezione di incisioni, renderà quella corsiniana, cito, una numerosa e sommamente pregevole collezione di sanperare e dei migliori e più ricercati bulini, come si legge in una breve relazione firmata da Angelo Mai, allora curatore della Vaticana, e dallo stesso Rezzi nel 1826. Allora ve li presento qua a sinistra Giovanni che da uno bottare non ha bisogno di presentazioni nel ritratto oggi conservato in biblioteca. A destra l'immagine forse un po' meno nota del bibliotecario che vi ho citato di Giovanni Maria Rezzi. Le fonti che ho usato e che citerò sono cataloghi, sono inventari, spesso disordinati, liste di appunti per uso personale, indicazioni di acquisto scritte velocemente su fogli volanti, fortuitamente conservati tra le carte. Tra le righe di questo materiale, spesso confuso e non organico né organizzato, capita di raccogliere alcune notizie interessanti che possono contribuire a chiarire alcuni aspetti della raccolta corsini relativamente alle opere di Giovanni Battista Piranesi e ad impostare soprattutto alcune ipotesi di lavoro. Il punto di partenza di questo percorso è il catalogo per autore delle edizioni a stampa. Si tratta di 20 volumi compilati dalla metà del Settecento e poi più volte postillati, arricchiti ed implementati almeno fino alla fine del secolo successivo, anche oltre il fatidico 1883 che segna il passaggio della collezione corsini alla Reale Accademia degli Incei. Queste sono le due pagine dedicate alla voce piranesi e offrono secondo me alcuni spunti di riflessione. Le acquisizioni dei volumi e la conseguente registrazione nel catalogo sono avvenute in almeno due tempi diversi. La grafia più antica caratterizzata dal tratto più marcato, questa, fino almeno al volume delle carceri risale al diciottesimo secolo e può essere ricondotta al periodo in cui era bibliotecario Giovanni Gaetano Bottari dal 35 al 54, poi dopo di lui Giovanni Querci dal 54 al 1768 e Nicola Foggini dal 69 fino al 1802. Le numerose aggiunte con correzioni e commenti, parlo di queste, ecco, queste numerose aggiunte con correzioni e commenti, vergate in una grafia molto più minuta e per nostra fortuna facilmente riconoscibili, sono invece riferibili al periodo in cui fu bibliotecario Luigi Maria Rezzi, quindi dal 1836 fino al 57 e ci raccontano di un ulteriore sviluppo della collezione dopo la morte di Neri Maria Corsini, di Bottari e dello stesso Piranesi, tutte avvenute nell'ottavo decennio del secolo, tra il 1770 e il 78. Se il primo periodo delle acquisizioni piranesiane, principalmente legato alla figura di Bottari, è indagato e per molti versi noto, meno studiato è invece quell'ottocentesco che contribuisce a dare qualche informazione sul collezionismo di queste stampe in quel periodo e sulle scelte di gusto di coloro che implementarono la collezione, cioè appunto, come ho già detto, il principe Tommaso Porzini e il suo bibliotecario. Quello del rapporto, torniamo sui, ecco, quello del rapporto tra Piranesi e Giovanni Gaetano Bottari è un tema più volte indagato, rimando per questo ai numerosi studi e approfondimenti che nel corso degli anni sono stati pubblicati. Citerò solo quello che è in un certo senso all'atto di nascita di questo rapporto, cioè la lettera che Giuseppe Bianchini scrive a Bottari alla fine del novembre 1743. Scrive Bianchini, bramando io di far conoscere a voi il signor Giovanni Battista Piranesi, giovane e assai valente nell'incidere rami di architettura e di prospettiva e di fargli acquistare il di lei validissimo patrocinio, l'accompagno con questa ossequiosissima mia e caldissimamente glielo raccomando a ciò lo voglia nelle occorrenze giovarie. Il giovane veneziano è arrivato a Roma esattamente tre anni prima, nel settembre del 1740. I rapporti con Bottari fin dall'inizio furono improntati a grandissime cordialità e nell'unica lettera conservata nel carteggio di Bottari inviata da Venezia, dove era tornato per qualche mese nel 44, Piranesi già ringrazia il prelato fiorentino per le tante grazie ricevute. Risale al 1743 la pubblicazione della prima parte di architetture prospettive, torniamo sul catalogo, la prima parte di architetture prospettive inventate e incise presso i pagliarini. Un esemplare dell'opera con semplice legatura in pergamena rigida è presente in biblioteca, dove nel catalogo del XVIII secolo è indicizzato semplicemente come architetture e prospettive. Lo stesso titolo riportato nel dorso del volume. Solo nell'Ottocento, probabilmente nel corso della ricognizione delle stampa effettuata nel marzo del 38, ancora all'inizio dunque del suo lavoro, Rezzi aggiunge nel catalogo con la sua caratteristica e minutagrafia prima parte di questa integrazione ai titoli, le indicazioni sulla consistenza dei volumi, sulle edizioni, sulle copie, racconta un lavoro di sistemazione e ricognizione del materiale molto puntuale e per noi in qualche caso, come vedremo, molto utile. Torniamo alla pubblicazione del 43. Negli archivi della biblioteca si conservano moltissimi elenchi di libri ed album di stampe mandati a legare in quegli anni e diverse liste di libri acquistati proprio da pagliarini, ma questo volume non è citato. L'anno della pubblicazione è lo stesso del primo incontro con Bottari nel novembre del 43 e il timbro Corsigna-Vetus nel volume ci porta a pensare ad un ingresso nelle collezioni molto precoce, forse proprio nel 1743 o 44, anche in ragione di quell'incontro. È noto che la pubblicazione del 1743 rappresenti la prima prova autonoma di Piranesi e forse non è azzardato pensare che ne abbia fatto omaggio diretto al Monsignor Fiorentino, al Monsignore Fiorentino, in occasione del loro primo incontro o subito dopo. Tra i volumi indicizzati verosimilmente nel 1700 troviamo, subito dopo, la raccolta delle antichità romane dei tempi della Repubblica e dei primi imperatori disegnate ed incite da Joan Battista Piranesi, architetto veneziano, pubblicate con dedica a Bottari nell'ottobre del 1748. Sono questi gli anni in cui il rapporto tra Bottari e Piranesi è forse più intenso, ampiamente studiate la vicenda che riguarda l'impresa editoriale della stampa della narrazione delle solenni reali feste, vicenda che vede un intenso scambio vissolare tra Bottari e Bartolomeo Corsini non solo, proprio nei mesi del 1748 e negli stessi mesi che precedono la pubblicazione dell'opera di Piranesi dedicata a Bottari. Le lettere sono note e riguardano soprattutto la complessa questione della mancata accettazione del rame inciso da Piranesi per una delle tavole della narrazione. Rileggendole è possibile seguire quasi in file grana rispetto alla questione principale la genesi delle antichità romane dei tempi della Repubblica. Il 16 agosto del 48 Bottari scrive che l'incisore, cito, ha per le mani delle antichità di Roma di cui uscirà fuori adesso il primo tomo. Il 25 ottobre di quell'anno Bottari invia a Napoli a Bartolomeo Corsini, il vicere, una copia dell'opera, ribadisce la sua stima nei confronti dell'incisore e testimonia una trama di intensi rapporti con Piranesi quando scrive di essersi portato più e più volte a casa sua. Pochi mesi dopo, nel gennaio 1749, chiede a Bartolomeo se l'opera di Piranesi è stata di suo gradimento e l'11 gennaio Bartolomeo Corsini risponde, già vidi il libro di stampe fatto da Piranesi e mi piacque. Soffermiamoci ora sulla copia custodita nella biblioteca corsiniana. Dalla lettura del catalogo della biblioteca, o meglio, dalle note minute un po' disordinate, eccole qua, di Luigi Maria Rezzi, ricaviamo un'interessante notizia su questo esemplare. Alla consueta integrazione del titolo, egli, infatti, Rezzi, fa seguire la precisazione che si tratta dell'esemplare di Monsignor Bottari, a cui è intitolata l'opera. La copia indicata nel catalogo, con collocazione 51H20 e pubblicata recentemente da Gabriella Pace nel catalogo della Mossa Napoletana dedicata a Piranesi, si trova oggi presso l'Istituto Centrale per la Grafica e, stando all'indicazione di Rezzi, emersa solo in occasione di questa ricerca mirata, in qualche modo, alle fonti di uso interno della biblioteca, stando a questa notizia si tratterebbe dell'esemplare appartenuto proprio a Bottari. La circostanza che molti libri appartenuti personalmente al Monsignore Fiorentino siano poi confluiti nella raccolta Corsini è sicuramente plausibile. E la conferma viene anche da un edito sicuramente incompleto, elenco di volumi che Nicola Foggini provvede a registrare, tra quelli della biblioteca, il 3 febbraio 1776. Bottari era morto il 4 giugno del 75. L'esame di questi volumi non fornisce molte indicazioni, si tratta nella maggior parte dei casi di legature in pergamena rigida, molto semplici e molto comuni, ma anche indubbiamente molto simili a quella della prima parte di Architetture, edita nel 1743. Non presentano costille o note di possesso, unico comune denominatore in molti casi la presenza di un timbro Corsini rosso, cardinalizio lo vedete in alto, che potrebbe essere ricondotto al cardinale Andrea non a neri, il perché lo vedremo tra un attimo, cardinale Andrea Corsini in carica dal 1759 fino alla morte nel 1795. Quella sui libri personalmente appartenuti a Bottari in Corsiniana è una ricerca tutta da fare, ma includere questo volume di stampe di piranesi tra i libri che gli appartennero sulla scorta della notizia emersa da quanto scriverezzi rappresenta sicuramente un'ipotesi di lavoro interessante. Allora, questo è il volume. L'ipotesi di lavoro interessante, come interessante e particolarmente intrigante direi, è la questione legata allo stemma, stemma per ora non identificato, che campeggia al centro dei piatti della legatura e che sicuramente potrebbe fornire dati utilissimi per la storia dell'esemplare. Allora, a proposito di questo stemma, io ringrazio pubblicamente gli amici, i colleghi che in questa settimana ho un po' solcherato e ho coinvolto, diciamo così, nella mia ricerca a proposito del timbro. Per ora non l'ho identificato, ma mi sono fatta un'idea e spero, credo, di potervela, diciamo, presentare corredata dalle opportune documentazioni in occasione appunto della stampa degli altri. Continuando a scorrere l'elenco dei volumi, torniamo all'elenco dei volumi indicizzati, o una rana. Su questo abbiamo discusso, è un vescovo, non è cardinalizio, è un vescovo, sì, sì, è un vescovo ed è, ripeto, un'idea me la sono fatta, ma insomma va un attimo suffragata da... Assolutamente, infatti ve l'ho proposto proprio per questo motivo e anzi vi chiedo aiuto, consulenza e assistenza. Allora, continuando a scorrere, quindi torniamo sull'elenco dei volumi indicizzati nel catalogo nella fase settecentesca delle acquisizioni, sono citate le antichità di Core e le antichità di Albano, due opere edite nel 64, ricordate in un prezioso quaderno conservato nell'archivio della biblioteca, vado un po' avanti, eccolo qua, conservato nell'archivio della biblioteca in un quaderno intitolato Libro per servire di ricordo e per sapere le provenienze dei libri che è la casa Corsini. Qui sono ricordati due libri di Piranesi senza ulteriori notizie sulla provenienza e possiamo quindi supporre che siano entrati insieme, forse nello stesso anno della pubblicazione. I due volumi hanno una legatura in carta decorata molto semplice, lo stesso timbro con la dicitura Biblioteca Corsina Nova e verosimilmente entrano a far parte della collezione nello stesso momento, quindi subito dopo la pubblicazione, tra il 64 e il 67. Anche la serie del Castello dell'Acqua Giulia e i Lapides Capitolini sembrano essere entrati in biblioteca nello stesso momento, identica e la legatura, stavolta più elegante in cuoio, con impressioni novi. Il volume dell'antichità di Pessum, contrassegnato dalla collocazione 52K26, è tra quelli slegati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e non abbiamo quindi indicazioni sulla legatura. Nel frontespizio compare il timbro, quello che doveva essere la tavola che fungeva da frontespizio, compare il timbro rosso cardinalizio, di cui abbiamo già parlato. In due tavole anche una correzione a mano della numerazione, esito probabilmente del controllo di Luigi Maria Rezzi, che infatti cita nel catalogo scrupolosamente Brunet per la mancanza di alcune tavole. Al momento della pubblicazione dell'opera, nel 1778, Bottari è morto da tre anni, il cardinale Neri Maria da otto. Il volume viene acquisito verosimilmente tra la data della pubblicazione e il 1795, anno della morte del cardinale Andrea, a cui fa dunque riferimento il timbro nel frontespizio. Con le lettere di giustificazione scritte a Milord Charlemont, pubblicata nel 1757, sembrerebbe concludersi la fase di acquisizione settecentesca del materiale piranesiano, prevalentemente legata alla figura di Bottari, ma non solo. A proposito delle lettere di giustificazione, è necessario però un approfondimento. La copia, oggi conservata in Corsignana, riporta, nell'antiporta, la dedica manoscritta all'eccellentissima casa Corsini, ed è strettamente collegata alle antichità romane, come è noto, i quattro volumi, come è noto, vengono donati dallo stesso Piranesi e Corsini dopo la pubblicazione nel 1956. L'esemplare delle lettere di giustificazione riporta il timbro TC, cioè Tommaso Corsini, il principe in carica nell'Ottocento, ed è probabilmente il frutto di un restauro con nuova legatura da parte di Rezzi. Questo giustificherebbe il timbro TC, ma le cose si complicano dal momento che dalla lettura del libro dei conti della biblioteca, una di quelle fonti appunto un po' così, forse trascurate, ma importanti per questa ricerca, dalla lettura appunto del libro dei conti della biblioteca emerge un appunto di Rezzi che nell'ottobre del 1839 scrive di aver acquistato la lettera a Milord di Piranesi in due copie. Oggi in biblioteca è presente un solo esemplare dell'opera. La circostanza documenta un modo superandi da parte del bibliotecario ottocentesco già riscontrato altre volte in occasione di altri gruppi di incisioni riferibili ad un singolo autore. I volumi e le stampe venivano acquistate, rivendute e scambiate con esemplari migliori o più freschi, con molta facilità, e la mole e le caratteristiche del materiale piranesiano sicuramente si prestavano molto bene. La fase di acquisizione delle opere di Piranesi legata alla figura di Bottari è poi documentata da un appunto di Luigi Rezzi che ci regala alcune notizie su una delle due copie corsignane del catalogo delle opere dato finora alla luce da Giovanni Battista Piranesi. Entrambi i fogli sono oggi conservati presso l'Istituto Centrale per la Gravi. Scriverezzi in questo appunto manoscritto veloce, cito, appresso al catalogo di questo esemplare si legge manoscritto all'illustrissimo e reverendissimo Monsignor Bottari e di carattere di quest'ultimo è aggiunta alle altre opere del Piranesi, quella del Tempio della Sibilla a Tivoli. Si tratta di quello che Wilton Eli identifica come il primo stato dei molti individuati del catalogo, catalogo stampato per la prima volta intorno al 1761 e poi continuamente e progressivamente aggiornato, ne sono noti molti altri esemplari con dediche manoscritte sia in Italia che all'Est. Questo foglio con integrazione autografa di Bottari e la nostra fonte è ancora Rezzi e con la dedica personale al Monsignore Fiorentino rappresenta probabilmente l'ideale cesura tra la prima e la seconda fase delle acquisizioni del materiale di Piranesi in biblioteca e rega traccia attraverso la dedica del noto rapporto personale tra Bottari e l'incisore, dando testimonianza anche di un preciso metodo di lavoro di Bottari stesso che non esita a servirsi del foglio per appuntare l'integrazione. Ho intenzionalmente lasciato alla fine del discorso sulle acquisizioni settecentesche i quattro volumi delle antichità romane edite nel 1956. La copia conservata in biblioteca è tra quelle che lo stesso Piranesi deposita in alcune collezioni romani, la Corsini e la Barberini e presenta una legatura in marocchino rosso studiata ed analizzata diverse volte, ultimamente anche nel volume del progetto Piranesi dedicato all'opera. All'inizio del secondo periodo, quello ottocentesco, possiamo idealmente mettere un'altra copia del catalogo, del catalogo delle incisioni, che Rezzi così descrive nel veloce e quasi casuale appunto che ho citato. Scrive Rezzi, altra edizione nella quale il catalogo delle opere del Piranesi è assai più copioso e al catalogo segue il novero di vari intagli altrui vendibili presso di lui. Si tratta di uno stato più tardo dell'incisione che si ipotizza realizzato dopo la morte di Piranesi, quindi dopo il 1778. L'elenco delle vedute di Roma è più ampio e molto probabilmente lo stesso Rezzi ha provveduto a segnare ciò che le interessava, queste crocette che vediamo sparse diciamo nel foglio, riproponendo il modo di procedere dello stesso Bottari e trattando l'elegante e raffinato foglio inciso alla stregua di quello che in realtà era, cioè uno strumento di lavoro per un bibliotecario. Con la serie delle vedute di Roma, per le quali abbiamo l'anno di ingresso preciso nella collezione, si inaugura la seconda fase delle acquisizioni piranesiane. Dal libro dei conti per la libreria corsiniana, un'altra di quelle fonti preziosi che ho citato all'inizio, apprendiamo che il 23 marzo del 1838 il libraio Francesco Archini viene pagato per due volumi delle vedute di Roma antiche e moderna. Si specifica che sono in attraverso con 139 tavole freschissime e Rezzi scrive la maggior parte degli esemplari ordinari ne hanno solo 137. Si tratta dei volumi oggi contrassegnati come 54 e 4, 54 e 5, trasferiti dalla fine dell'Ottocento presso l'allora Gabinetto Nazionale delle Stampe e sono tra i volumi che sono stati smembrati, quindi poche notizie abbiamo sulla legatura originale. Oggi la serie dei fogli è conservata nella scatola 409. In una delle stampe, quella che evidentemente doveva figurare come frontespizzo del volume, troviamo il timbro rosso TC che sta, come sappiamo, per Tommaso Borsini. I fogli che appartengono a questa serie sono oggi 145, sei in più rispetto a quelli comprati dal libraio Archini, ma sicuramente alcune integrazioni vennero fatte nel corso degli anni, probabilmente prima di legare il volume. Sappiamo ad esempio, ancora dal libro dei conti, che nella primavera del 1844 viene acquistata una stampa di Piranesi, la facciata di Palazzo Odescalchi, che oggi corrisponde al numero di inventario 9623 e proviene dallo stesso volume. A questo punto vi propongo una riflessione. Sembrerebbe, leggendo queste fonti, lavorando su queste fonti, che né Bottari né i bibliotecari che gli sono succeduti abbiano acquistato per la biblioteca la serie delle vedute di Roma al momento della pubblicazione, ma che sia stato necessario aspettare Rezzi e il 1838 per colmare questa lacuna, nonostante Bottari possedesse il catalogo e vi lavorasse. La mancanza di questa serie, tra le acquisizioni settecentesche, è una delle serie più celebri, noi rappresentative, l'abbiamo ricordata anche stamattina, accompagna Piranesi per tutta la vita, almeno la mancanza di questa serie, almeno stanno ai dati immersi, mi sembra comunque da segnalare. Esattamente tre mesi dopo aver acquistato le vedute di Roma antica e moderna, Rezzi si procura dallo stesso libraio altre due opere di Piranesi. Il 23 giugno 1838 Francesco Archini viene pagato per l'acquisto di opere varie di architettura e antichità in foglio massimo con tavole e del supplemento alle antichità romane, ossia raccolta di templi, ponti ed archi in foglio massimo, con tre tavole di prova antica, scrive Rezzi. Lo apprendiamo dal medesimo libro dei conti. Da notare e da sottolineare la precisazione di Rezzi che ci tiene appunto a sottolineare l'antichità delle incisioni. Le opere varie di architettura e antichità corrispondono al volume 53k8, un volume oggi conservato in Corsignana, che ha una legatura molto semplice con d'orso in pergamento. Nell'estate del 1842 vengono vendute tra i libri di fondo e duplicati, cito, varie stampe satiriche di Piranesi in quarto. Questa è una conferma diretta di quella facilità nell'alienare con scambio o vendite fogli in duplice o in moltiplice copia. Nell'ultimo trimestre, infine, del 1844 vengono acquistate dal libraio Leopoldo Fabri, la colonna tra Iana e Antonina incise e le magnificenze dei romani incise, per le quali Rezzi specifica che si tratta di prove antiche. I volumi sono oggi conservati in biblioteca Corsignana e hanno legature in cartone molto semplici. Per le magnificenze si specifica nel catalogo che si tratta dell'edizione del 1761. Allora, ripropongo una riflessione già fatta, vi ripropongo una riflessione già fatta, stavolta però con qualche supporto documentario in più. In una nota settecentesca con elenco di legature, senza data, ma sicuramente di mano di Bottari, conservata nell'archivio della biblioteca, si cita colonna traiana e colonna Antonina legati in marocchino rosso, di Piranesi, altra colonna traiana di Piranesi legata alla francese. Dunque nel settecento Bottari aveva mandato da legatore ben tre volumi, due con le incisioni della colonna traiana, una legatura era in marocchino rosso, quindi era una legatura insomma di un certo pregio, ed uno con quella dedicata alla colonna Antonina. Questi volumi non rimangono in Corsignana e questa lacuna viene colmata solo con l'acquisto di Rezzi nel 1844. Tra le disordinate carte di Rezzi conservate in biblioteca, carte che ci propongono lunghissimi e dettagliatissimi elenchi di stampe legati agli acquisti, ma anche alle verifiche che il solerte bibliotecario andava compiendo, soprattutto in relazione alla costruzione di due nuove sale tra il 1843 e il 46, due nuove sale necessarie per contenere la collezione di grafica del principe Tommaso in costante accrescimento, c'è questo riscontro delle stampe del Piranesi. Il lungo elenco, che vedete chiaramente a destra, è una sorta di fotografia dello status quo della collezione, probabilmente redatto proprio in occasione dello spostamento dei volumi nella nuova sala, quindi intorno al 1846. In alto Rezzi lascia in bianco la collocazione dei volumi piranesi che evidentemente non ha ancora deciso. Vengono citate sostanzialmente tutte le opere presenti con descrizioni accurate e continui rimandi a Brunet. Le vedute di Roma sono diventate 140, anche se, specifica Rezzi, Brunet ne conta solo 137. Concludo il mio intervento con alcune riflessioni nate dalla lettura delle carte che ho cercato di proporre, insomma, che ho proposto alla vostra attenzione. Evidente, mi sembra, l'implementazione delle incisioni di Piranesi avvenuta nella prima metà dell'Ottocento, documentata proprio dalle fonti, a fronte di lacune della collezione settecentesca che sembrerebbero chiare, ma che in alcuni casi, e mi riferisco alla serie della colonna Antonina e Traiana, possono essere spiegate con la vendita o l'alineazione di alcuni esemplari in favore di copie migliori, secondo una metodologia di lavoro che abbiamo detto ben consolidata e che, ad esempio, porta Rezzi a comprare due copie delle lettere a Charlemagne per poi far rimanere in collezione solo l'esemplare acquisito nel Settecento con nuova legatura. A partire dagli anni Sessanta del diciottesimo secolo, le acquisizioni sembrano interrompersi. Bottari non è più bibliotecario dei corsini, anche se la collaborazione con il Cardinale Neri continua ad essere strettissima e lo dimostra alla presenza in collezione del catalogo con Dedica. Queste interruzioni spiegherebbe anche la mancanza di un'opera come le diverse maniere di adornare i camini, legata all'ultimo periodo della produzione di Piranesi e che sembrerebbe non aver mai fatto parte della raccolta corsini. Dal carteggio tra Bottari e Marietta, conservato nella biblioteca, ma anche da numerose altre fonti, sappiamo che Bottari, nonostante un raffreddamento dei rapporti con Piranesi in occasione della questione legata ai restauri del Pantheon alla fine degli anni Cinquanta, conservò la posizione di mediatore nello scontro violento tra l'incisore e il collezionista francese, che ancora alla fine del Sessantaquattro si rivolgeva al prelato fiorentino pregandolo di calmare le ire di Piranesi. Le acquisizioni con più verezzi tra la fine degli anni Trenta e gli anni Quaranta del XIX secolo sembrano guidate da un gusto collezionistico orientato alla ricerca antiquariale. La serie delle 139 vedute di Roma che egli acquista nel marzo del 38 comprendono stampe degli anni Cinquanta e Sessanta, oltre ad almeno quattro stampe del 1748-49 appartenenti quindi alle prime tirature, quando il contributo di Bottari nella scelta dei soggetti doveva essere stato molto importante. Rezzi dichiara, orgogliosamente, che si tratta di prove freschissime e questo conferma le scelte di busso che abbiamo sottolineato. Una inaspettata notizia sulla circolazione delle vedute nell'autunno del 1748, circolazione che evidentemente Bottari favorisce e promuove, almeno di quella prima serie delle vedute di Roma, ricaviamo da una lettera del pittore Ignazio Agfat a Bottari, datata 9 novembre 1748 e conservata nel carteggio che è in biblioteca, dove si ringrazia Bottari per l'invio, tramite il canonico Biscioni, di una copia di quella, cito, superbissimo libro di vedute del signor Piranesi, che avevo già sentito celebrare e sapevo ancora qual decoroso lustro avesse dato alla bella opera sua. Dunque Bottari si fa promotore della circolazione di alcune copie delle vedute e questo non è affatto insolito, ma rimane aperta la questione della mancanza della serie, almeno delle tavole più antiche, tra le acquisizioni settecenteste. Anche quando compra le magnificenze dei Romani incise, alla fine del 1844 Rezzi specifica che si tratta di prove antiche ed anche questa lacuna da registrare tra le acquisizioni settecenteste. Dunque, e davvero concludo, la lettura degli appunti, degli elenchi, dei conti dei bibliotecari consegna l'immagine di una colta piranesiana che, così come oggi la conosciamo, si è formata in due momenti diversi. Il primo, legato alla figura di Giovanni Gaetano Bottari, ma con alcune importanti mancanze, riflette un'impostazione documentaria nei confronti della Roma antica e contemporanea che trovava nelle biblioteche settecentesche la sede naturale di conservazione. Il secondo momento, invece, da riferire alla cultura antiquaria e museale del successore Luigi Maria Rezzi, è da riferire alla cultura antiquaria e museale del successore Luigi Maria Rezzi, che negli anni in cui si occupa della collezione sembra tendere soprattutto ad accrescere nel valore in termini di rarità e qualità, anche servendosi degli strumenti propri delle raccolte antiquarie, come le frequenti citazioni del manuale di Brunet, che egli possiede costilla in ben tre edizioni, dimostrano. Ecco, di queste due diverse modalità di acquisizione, delle indicazioni che arrivano dagli appunti di lavoro dei bibliotecari, e quindi da questo materiale, diciamo, un po' meno nobile, ma in qualche modo, insomma, credo molto importante, secondo me che converrà a tenere conto negli studi futuri sulla raccolta di materiali piranesiani nella collezione corsia. Grazie. Grazie, Ebbe Antetomaso, per questo intervento così illuminante di una microstoria che però poi ha dei riscontri generali sul tema del collezionismo piranesiano. Invito, presento, Charlene Rettmeier e Georg Shelbert, che condividono della Humboldt Universität di Berlino, che ci parlano di Piranesi in Prussia, Spotlights on a Variable Relationship. Grazie. Allora, potete vedere? Buon pomeriggio a tutti, anche in nome della mia collega Charlene Rettmeier, studentessa della nostra università, che presenterà la seconda parte del contributo. Lo parliamo però in inglese. We would like to thank the conference organizers very much for inviting us to speak here. Even though our contribution is placed in the section of the history of collections in the 18th century, we do not limit ourselves, sorry Mario, to the history of collections or the 18th century, but take a more general look at the reception in Italian, one would say Fortuna Critica, of Piranesi in the Prussian area from the 18th to the 20th century. This somewhat broadly tailored approach is not at least forced by the closed libraries and archives in the last 12 months. The content of this lecture, especially the third part, which is presented by Charlene Rettmeier, emerged from the work on the exhibition, the Piranesi Principle, which was developed by the director of the Kunstbibliothek in Berlin, Moritz Wohlen, myself and a group of students, supported by the head of the architectural collection, Elke Blauert, and in collaboration with the Kupferstichkabinett. It was opened last October 4th, right on Piranesi's birthday, but had to be closed after only a short time. Hopefully from next Sunday on, it will be open again until July 11. Sturm und Drang vor Piranesi The Prussian King Frederick the Great is known as an admirer of French culture. His personal, not always entirely tension-free relationship with Voltaire is well known, but he was also interested in Italian and Roman antique culture. After the Silesian Wars against Saxony and Austria, the young king's first successes, he was able to set about expanding his residential city of Potsdam. For the design of the representative streets and squares, he chose models of Italian architecture from the Renaissance to the Baroque. Let us have a look where we can probably find Piranesi here. Only one of the architects of Frederick had a deeper Roman experience. Jean-Laurent Léguet had already been in Rome in the 1730s and came to Berlin in the early 1740s before he became the king's first architect in 1756 for a short period. After the Seven-Year War, he was commissioned with the designs for the adjacent buildings of the new palace in Potsdam, the so-called communes, and a triumphal arch, which were, however, executed according to a somewhat modified plan later by Carl von Gondert. The question now arises whether the scenographic characteristics of the buildings which are reminiscent of Piranesian pictorial principles can be traced back to a closer knowledge of our master's work. The Capriccio-like drawings and print series of tombs and ruins which Léguet also created could speak in favor of this. However, in the case of Léguet's designs, it is not clear whether the earliest of them were already created during his first stay in Rome and thus possibly in parallel and even before Piranesi or, which is more likely, were done later also inspired by Piranesi's prints. In the case of other building projects, Frederick II and his master builders, most of whom, like the king himself, had never been to Rome or elsewhere in Italy, made use of the numerous illustrations available. In 1752, for example, an imitation of Ferdinando Fugger's facade of Santa Maria Maggiore was placed in front of the St. Nicholas Church on the market square behind the Royal Palace in Potsdam, entirely in the spirit of the Roman Vedute. The building has not survived, as it was later replaced by Schinkel's new church. Also, a notable number of other public and private buildings during Frederick's reign were designs after Italian models, with a juxtaposition of models from Rome and such from elsewhere, designed by famous Renaissance architects like Palladio and San Michele. The Roman-inspired buildings include the preachers' and schoolhouse of the Nicolai Church, designed in 1752 after Fugger's Palazzo della Consulta, or the double-dwelling house built in 1768 by Carl von Gontar, after the model of the Dogana di Terra on the west side of the Nauensche Plantage in Potsdam, which is also no longer preserved, or the palace on the south of the Alta Mark, built in 1771 by Carl von Gontar again, and Georg Christian Unger, after the model of Palazzo Barberini, which was recently reconstructed. I don't show it here. There are certainly other vedute than Piranesi's etchings, but it was precisely the Roman buildings taken up in Potsdam that he staged particularly impressively. So our hypothesis here is that his etchings were the actual basis. You do not know exactly when Frederick and his architects first came into contact with Piranesi's works and to what extent. However, it can be assumed that the well-known Venetian scholar Francesco Count of Algarotti, who was on close terms with Frederick, but also worked for a time for the Dresden court as an art advisor, also brought Piranesi's works to the Prussian court. Later on, in 1775, with a book collection from the estate of the military historian and officer Theophile Guishard, who was given the name Quintus Icilius by the king, for sure the four volumes of Piranesi's Antiquita Romane entered the royal library. You see the ex libris here at the right side. So even if it is so far not known when Piranesi's volumes entered the royal library for the first time, there is at least one hitherto unnoticed case of the arrival of an early work by Piranesi in Prussia. As it can be traced quite precisely, I would like to present it in the following. Still early in his career, in 1751, Piranesi, together with his publisher Bouchard, brought another compilation of his still quite disparate production on the market, entitled Le Manificenzi di Roma, Le Più Rimarkabile, Consistenti in un Gran Numero di Stampe, e così via. This collection, possibly intended to promote the sales of the earlier architectural fantasies, Capricci, and the Cartiery, which were bound there together with the first 34 vedute, is so rarely preserved that even Andrew Robison was asking himself whether the year of publication, so 1751, is trustworthy. However, there is evidence that two of them were delivered to the Gleitig Library in Leipzig in 1752, as reported by an article in the Neue Zeitungen. And while one of these two copies was acquired by the Leipzig Council for its own library, the other was bought by the lawyer Johann Samuel Steyer. Even though so far there is no trace of his copy, while the first one probably was destroyed when the Municipal Library in Leipzig was bombed in 1943, we have an exact listing of the composition via the newspaper announcement. I won't read it here now for time reason. The owner of the second copy, Johann Samuel Steyer, who reports his purchase by himself, is fairly known. He has received his doctorate in 1733 from the Brandenburg State University, which was located in Frankfurt-on-Oda, until the foundation of the Berlin University in 1811. More than one and a half decades after the publication of the Manificentze, Steyer considered it still a desideratum to make this work by Piranesi known and he published a rather weird book on it in 1768. Though this book was printed in the Mark Revyat of Brandenburg at Frankfurt by the Royal University publisher Johann Christian Winter, it is dedicated to the Leipzig City Council and not to the Prussian sovereign. Under the moralizing title I translate praise of the victory of virtuous deeds and true merit over the transience of time and over death and terror. Quotation end. Steyer tried to introduce Piranesi to his compatriots by erudite poems. Piranesi's engravings are the starting point and to a certain extent the subject of the work. However, one searches in vain for a single reproduction of them. It's probably not so much because Steyer expected his customers to have Piranesi's etchings at hand even though he extols their low price of just eight pence per sheet but because he lacked the means and skills to reproduce them as he equally admits. Steyer presented his publication as a first overdue commentary on Piranesi's work. In fact, he only gives a sample on just seven plates which while the rest of the work is rather a cautionary and moralizing poem about the history and monuments of Rome in general. But even though Steyer uses Piranesi mainly as a starting point he repeatedly refers to his prints and praises him as a genius artist. Not properly in the sense of the German Sturm und Drang but almost. However, the so far known first German language work with copper plates after Piranesi and others was only produced in 1782 by Christian Weinling. But his letters from Rome as it is entitled significantly were published in Dresden in art-loving Saxony and not in Prussia. Chapter 2 The Piranesi Refusal Around and after 1800 Piranesi was primarily understood in two roles. At first he was still the mediator of a grand tour like image of the city of Rome and his surroundings. As such this role continued largely unbroken also in Germany even if Piranesi's name faded more and more in this context as we will see later on. In the second role as a serious archaeologist Piranesi lost much more rapidly due to the vivid development of the discipline. In Germany in particular Winkelmann also has paved the way for a Greek centred classicist view of antiquity in which there was hardly any room left for such a creative and eclectic spirit like Piranesi. But while the fantastic elements of Piranesi's work in particular the coterie were discovered and celebrated as visionary images of the human interior in France and England during the Romantic period there is no comparable conception of Piranesi in Germany and Prussia. The division of the world into two realities one visible and one poetic typical of German Romanticism found no equivalent in Piranesi. Piranesi's continuous reference to history his intention to resurrect forms technologies and ultimately the material remains of antiquity with his illustrations made him largely unusable for German Romanticism but at the same time this circumstance did not prevent his work from being used broadly as a model for drawing exercises on this level due to the countless images in his works continued to be in demand as a source while the doyat of Prussian architecture otherwise rather dist rather distance himself from Piranesi suggestive approach to antiquity in history his bequest does include some drawings possibly made by himself of ornaments based on the Venetian master they were presumably created in early years before or on his first trip to Italy in 1803 and were later used for the prints in titled Verzierungen aus dem Altertume published in Berlin 1829 by Friedrich Bussler generally in the first decades of the 19th century Piranesi appeared strikingly often as a model for architects exercise drawings a sideway view again to Saxony may confirm this general phenomenon I show you here the printed list of from 1822 of graduation works from the Dresden Art Academy with Piranesi's name highlighted so almost every work was done after Piranesi an example of a mid century student work is of the largely unknown architect Robert Wimmer which is preserved in the Kunst Bibliothek in Berlin at the right side vases after Piranesi Piranesi continued to serve not only as an exercise model but also as a gap filler in illustrated archaeological publications or model books when particular objects were not available or the effort required to produce one's own drawing was too great the picture often was taken from Piranesi as Fabrikanten and Handwerker published in Stuttgart the author Johann Matthias Rauch states himself it should be noted at this point that the selective approach by architects and designers was probably already present in Weinbrenner we heard about already today who evidently saw in drawings from the Piranesi workshop that came into his possession and first of all an enrichment of his collection of antique models while he did consider the name of the author worthy to be handed down even if the interest in ornamental forms around and after 1800 is not specifically a German phenomenon yet this interest could be an expression of an art philosophical attitude that also underlies Schlegel's theory of the arabesque as it was analyzed repeatedly by the art historian Werner Busch according to Schlegel the true nature of art is hidden in the ornament or arabesque which means the true arabesque is not only art itself but contains also the theory of art so I close with this so Piranesi as a model and hand over to my colleague Charlene Redmayer and I think I should stop the presentation and she will start hers chapter three the rediscovery of Piranesi as an artist against the background of the Germans unbroken enthusiasm for Italy Piranesi continued to function as a transmitter of more or less atmospheric illustrations of Roman monuments however his name and his artistic conception increasingly receded into the background in the malerische wanderung published in 1829 with simplified illustrations Piranesi is still named as the first author whereas his name no longer appears in Imi Hochdan's edition of modern colored lithographs at the end of the 1860s A similar development is reflected not only in publications aimed at the public but also on scholarly works in which entries of his person such as in artists encyclopedias or in overviews of the technique of edging were increasingly slim until the beginning of the 20th century Piranesi's appreciation as an artist apart from his visually powerful Vedute di Roma is linked to the appreciation of his drawings which make his pictorial strategies and his conception of art visible It is precisely this appreciation that has begun very late in the public collections and was building up through private collectors Among these the prominent group in Germany is that of architects who knew Paranesi and his works from their training or their working practice And really unusual exception to this appreciation was in Berlin or the purchase of the Veduta of the Circus Maximus under Gustav Friedrich Wagen in 1833 which was really late really early to towards towards the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century these former private collections were largely incorporated into museum collections through legacies or specific portraits as can be seen for example in the Hamburger Kunsthalle the British Museum and as well as in today's Kunstbibliothek Berlin compared to the founding of great museums in London or Paris the first efforts to bring together the partly scattered royal collections in one place in Berlin came relatively late at the end of the 18th century in 1830 in keeping with the Hamburger ideal of education the Altus Museum opened to the public other museum buildings quickly followed on Museum Island which shows the development from from Universal Museums to increasingly more specialized museums and in 1868 the Deutsche Gewerbemuseum zu Berlin was opened in the manner of the South Kensington Palace following the English model its aim was to promote the arts and crafts and the training of craftsmen and architects as a combination of a publicly accessible collection and an affiliated institution of education with its own library on the occasion of the exhibition of the Piranesi principle Elke Blauert head of the 15th to 19th century architecture collection at the Kunstbibliothek and Moritz Wohlen director of the Kunstbibliothek have researched the acquisition history of the Kunstbibliothek which emerged from the Kunstgewerbemuseum or the former Deutsches Gewerbemuseum zu Berlin in accordance with its educational intentions the Deutsches Gewerbemuseum collected mainly original and printed works for study purposes including a sample of Piranesi's Vasi Cadillapoccipi right in the year of the museum's opening at the end of the 19th century the Kunstbibliothek began to purchase more drawings by Piranesi the first of these events was the auction of the collection of the Hamburg architect Ludwig Hermann Philippi at Berlin at the Berlin auction house Rudolf Lepgen in 1884 in which pre-drawings were acquired including a richly ornamented façade architecture five years later under Peter Jessen the collection expanded to include two more stylistically very similar drawings from the collection of Carl Jessen again an architect who was active in Bielefeld in 1909 Piranesi's drawings were again auctioned at the Rudolf Lepge Auction House this time from the estate of Philippi who had died in 1908 after his death a large part of his drawing collection was bequered to the collection of the Hamburger Kunsthalle at this second auction Philippi in Berlin the Kunstbibliothek purchased six large form drawings four drawings of the temple of Isis in Papay and to chalk drawings of the Colosseum almost at the same time in 1908 the British Museum acquired for its own collection contributions from drawing collections for example a majority come from the John Gotts collection and a few years earlier they acquired also three drawings from the Philippi collection including also some Pompei drawings the gradually emerging interest in Piranesi's drawings while the printed work was still clearly predominant is also evident in two publications by Arthur Samuel and Albert Giesecke which appeared shortly after the major museum acquisitions In 1910 Arthur Samuel's work predominantly examines Piranesi's influence on English architecture and design as well as his numerous connections to England and Scotland and regarding Piranesi's drawings he notes Piranesi through of multitudes of interesting small sepia drawings mostly of architectural design and similar to his published etchings in subject and treatment but they have attracted no attention in comparison to the etchings and abert abert riziger describes a similar situation one year later in his dissertation in which he primarily examines the technique of etching and the chronological sorting of Piranesi's printed work in doing so he suggests that many of Piranesi's drawings must still be in private hands as only a very few drawings could be related to his duty or archaeological works The discussion about the numerical disproportion of Piranesi's drawing known at the time compared to his more than a thousand realized etching has been a recurring theme in art historical research especially in the first half of the 20th century and especially since it's notoriously unclear where Piranesi's drawing estate has remained Since then of course some major finds have been made Although Giesecke examines among other etchings in the Kupperstich Kabinett Berlin and writes for example about Piranesi drawings in the Sown British Museum the Louvre or the Hamburger Kunsthalle there is interestingly no consideration of the drawings in the Berlin Kunstbibliothek which were already there In addition to the renewed interest in research these works as well as the work by Henri Foucaillon in 1918 including studies on the chronology of various editions provided art dealers and collectors with the important basis for classifying Piranesi's works and assessing the value on the art market The Berlin art market also revealed the primary interest in Piranesi's prints and the almost exclusive perception of Piranesi as a Rome virtudist During the Weimar Republic and the Nazi era a noticeable upswing in demand for his works can also be observed In the 1920s and 30s there were a few auctions announced in art magazines of bound editions single sheets or considerable estates in which Piranesi was represented as for example the estate auction of the library of Hermann Dernburg again an architect and an official for the public building sector From 1938 onwards art dealers began to search more and more for virtues from Piranesi so that the first advertisements with these requests were placed from 1940 onwards more and more art dealers placed such ads which were published for years and in almost every issue in 1943 and 1944 the number of advertisements culminates so that four to five requests for Piranesi stand side by side no other artist was in such high demand in this time among the art dealers who continuously advertising was the Berlin art dealer Konrad Zimmermann who from 1940 onwards also searched for Piranesi in 1942 the Kunstbibliothek Berlin purchased from there a collection of 32 drawings including a large number of mantelpiece design and other interiors although it was mainly prints that were of interest to the mass market these drawings could have been a discovery by accident in the art shop the prominence of the works purchased in 1942 is also the subject of the article by Elke Blaut and Moritz Bullen I already mentioned and so far especially in regard to the time of the acquisition there is no connection with cultural objects seized as a result of persecution but the question arises as to the triggers for the increased interest on Piranesi and his reduced in addition to the growing number of scholarly publications since 1910 but also titles for broader public such as new editions of standards Wanderung in Rom with Piranesi etchings printed on them the new group of middle class private buyers who profited massively from the expropriation and expulsion of Jewish art dealers and collectors became increasingly important during this period in the course of the second world war investment in material assets continued to increase including works of art so did Piranesi spedules function as a kind of paper money to counteract the devaluation of their own money the advertisements were mainly looking for thematically easily accessible picture motifs such as city views or prints from well-known masters such as Dürer or Rembrandt which could be easily accommodated and transported as well however further research is needed on Piranesi supremacy within this group with the help of digitization and the constant expansion of access to historical sources such as auction catalogues or auction reports it is hoped that some blind spots can be cleared up in the future new finds like recently in Munich such as those of the catalogues of the Hugo Halberg auction house offer the chance not only to clarify the reasons for the extraordinarily high interest in Piranesi during the national socialist era but also to gain new insights in owners and acquisition histories from earlier periods which we have presented here Thank you very much Professor I trovo uno spento All right thank you very much Arlin thank you Georg this is a very interesting overview of collecting Piranesi and Piranesi's fortunes in Prussia and in Germany in the 18th and late 19th and even 20th century Germany the group in Berlin has always been pointed out as very interesting and I think that in the catalog of your exhibition there may be some of the information you have given us this afternoon and we will discuss that in the debate if we have one later this afternoon we talked about fascist Piranesi in Italy in the 30s and very interesting to hear about Nazi Piranesi in Germany and after all even Albert Speer may have been a fan of Piranesi's views and approach to city planning and now we have Gudula Metze is Gudula here I sono qui oh ich there you are grazie and lei parla in italiano Gudula il suo intervento è in inglese mi dispiace no no that's that's fine and Gudula Metze from the Stadtliche Kunststammlung in Dresden so we are going to another to another state another german state in the 18th century Piranesi and the Cookfish Day cabinet Dresden thank you very much si buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito grazie anche a tutti i relatori di questa giornata io ho imparato moltissimo e si vi saluto da Dresden dietro di me qui vedete il castello dove si trova il museo di cui parla adesso condivido lo schermo vediamo se funziona vedete benissimo e continuo in inglese celebrating one 300th birthday in pandemic times is a fate that links Piranesi with Dresden's museum for art and paper the so-called Kopferschlikabinet but the affiliation between the two goes back much further my talk will provide an insight into the acquisitions of Piranesi's works for the Dresden collection during the artist's lifetime there will be four chapters each representing a face in the development of the Kopferschlikabinet and parallel to it in the artist's vita all this is summarized very briefly I will start with the early years of both then we will see how the museum gained international importance while Piranesi established himself as a successful artist this is followed by the seven years war in Saxony when Piranesi was at the hate of his fame finally we take a look at the time in which Piranesi's scholarly view on antiquity was particularly in focus much of what I present now has its roots in a project on 18th century roman prints that I undertook a few years ago with Yvonne Wagner Christina Ruggiero and Paolo Cohen in particular I refer to an essay by Yvonne Wagner on the provenance of the Dresden collection in the accompanying catalogue let me now take you back to the year 1720 only a few weeks after Piranesi was born a good 600 kilometers to the north Augustus the strong founded a special collection for art on paper the Saxon elector and king of Poland had his physician Johann Heinrich von Heucher assemble the relevant artworks that were present at the court and instructed him to expand the holdings this resulted in Gresden's Kupferstich cabinet the oldest museum of its kind in a german speaking country during Piranesi's years of training the museum expanded in size and structure 18 years after the founding Heucher presented the first complete inventory the manuscript documents the order of the holdings which were arranged in 22 cabinets according to pictorial motifs schools artists and techniques a few years later Piranesi made a name for himself with his first independent series of etchings the prima parte it first appeared in 1743 and obviously Grayson soon had an eye on the master when Heucher died three years later there was already an edition of the series in the collection according to the inventory this prima parte consisted of 14 plates and it was located in a cabinet with works connected with architecture in the broadest sense within this cabinet it was assigned to a compartment that contained a mix of city views architectural fantasies and various designs I show a small selection by the way Giuseppe Zocchi's Veduta series of Tuscany with an etching by Piranesi was also kept here it can be assumed that architectural images of this kind played a special role in the holdings after all Augustus the strong and his son and successor Augustus the third was striving to transform Dresden into a modern residential city accordingly such collections of ideas could not only serve the pleasure of the eyes but also fulfill a practical function as a source of inspiration for architects and sculptors architectural fantasies with references to Rome are likely to have enjoyed particular popularity at the Dresden Court and that not only because of the high artistic and cultural reputation of the eternal city in order to be able to take possession of the Polish crown in addition to the Saxon electorship Augustus the Strong had converted to Catholicism his son and successor would later do the same both strove to further increase their power accordingly the Dresden Court cultivated connections to the clerical cultural intellectual and political elite in Rome this development intensified during the tenure of the second director of the Kupferstich cabinet Karl Heinrich von Heineken Heineken was a proven expert for prints and he completely rearranged the collection the museum expanded on a large scale developing into one of the most important European print cabinets in order to buy prints Heineken was able to count on his extensive network of experts dealers artists and collectors I show here a schematic selection highlighted are some individuals whose names will sound familiar to you in the context of Piranesi for example we have heard a lot about Bottari today and also Algarotti was mentioned before it is not known whether or to what extent these persons were involved in the acquisition of Piranesi's prints for Dresden however archival documents provide us with information about which works came into the collection under Heineken's aegis here you can see a list of these prints it is noticeable that the series of the prima pate now counts 16 instead of 14 plates presumably Heineken sorted out the edition present at the time he took office and replaced it with new copies I show two of the copies bought by Heineken the prints first appeared in this state in 1748 as in some copies of the state the face of the sphinx has been reworked in graphite pencil especially noteworthy is the series of the carceri according to Andrew Robison it can be assigned to the first issue of the first edition here too one can see the typical treatment of prints under Heineken they were trimmed along the plate mark glued onto an album sheet and framed with ink to give them a more refined look Piranesi's works were no longer kept with architectural representations but with the prints of the Italian school in general classified under the artist's name in the collection there was also a section with reproductive prints after buildings or architectural designs but Heineken obviously felt that this was not the right place for such a versatile master the first decade of Heineken's tenure as director could have been the start of a splendid and comprehensive collection of prints by Piranesi fully composed of early impression the situation looked even more promising when Johann Joachim Winkelmann moved to Rome in 1755 this established another connection between Dresden and the Eternal City the young scholar went there thanks to a grant from the Saxon Polish ruler in recognition of his publication Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke as we all know Winkelmann embodied a counter position to Piranesi regarding the discussion of the rank and origin of Roman art versus that of the ancient Greeks his presence in Rome contributed significantly to stimulating the debate on Piranesi thoughts one might have expected that this constellation would have led to Piranesi's oeuvre continuing to enjoy special attention in Dresden and to be purchased hot of the press or at least to be rejected but suddenly everything changed politically difficult times brought Saxony to the brink of bankruptcy the seven years war between 1756 and 1763 had catastrophic effects accordingly while Piranesi reached the thinness of his fame and founded his own publishing house at the time there were practically no more acquisitions for the museum in Dresden Saxony was defeated in 1763 and King Augustus III died in the year of the peace treaty for political reasons Heineken lost his position as director of the Kupferstich cabinet and had to leave the city at that moment the museum still owned no more more than 149 prints by Piranesi In the post-war era the Saxon electors no longer reigned as kings of Poland Courtly representation was cut back considerably this was also the result of the tense economic situation support for the economy and education stood in the foreground in the rebuilding of Saxony the recent art academy was founded in 1764 in order to raise the artistic level its director Christian Ludwig von Hagedorn also headed the Kupperstich cabinet consequently the museum worked closely with this institution often members of the art academy appeared as intermediaries or donors not least thanks to their help important groups of works could be acquired especially in the field of contemporary art the large gaps in the Piranesi holdings could not remain unnoticed interestingly there is a memorandum from 1773 by the museum's inspector Carl Gotthelf Kenne that gives information about why and how the lack of prints by this artist was remedied I quote here it is also necessary to add that there were only 149 sheets in one volume of Piranesi in the gallery here but this architect made himself very famous by his works on antiquities thus his excellency bought all the works of Piranesi that have appeared so far from professor Casanova and I had them bound in 15 volumes as we can see Kennell and his colleagues decided on a solution that solved the problem at one go a complete collection of Piranesi's works as far as they were available at that moment was acquired from the professor and later director of the art academy Giovanni Battista Casanova by the way it was very interesting for me to learn from Georg Schelbert that Piranesi's prints were really popular as templates at the Dresden art academy I didn't know that before that Casanova acted as a mediator here is not surprising he had lived in Rome for a long time before moving to Dresden on Winkelmann's recommendation it would therefore not have been difficult for him to procure such prints we have detailed record on the 708 sheets delivered by Casanova we also know what was done with the prints already in the collection 85 of them were replaced with new copies while the old ones were given to Casanova 64 prints were kept and combined with the new ones on the one hand this concern works from Piranesi's early period which the artist could not offer for sale because he did not own the plates on the other hand this applied to prints that existed in various states such as the Cartier series or the two prints from the Prima Pate that I showed before in other words the collection was cleared of duplicates but special impressions were retained from today's point of view we would be very happy if more of the early copies had been preserved however the fact that in 1773 the newly acquired prints were preferred can be explained by a change in attitude towards mounting the sheets trimming prints near the plate mark and applying ink frames was now rejected for conservation reasons the attitude of the museum staff towards Piranesi himself is still somewhat unclear we have heard that the need to acquire his oeuvre was justified by his fame as an antiquarian which had marked his reputation since the publication of the Antiquita Romane as far as I can see at the moment there is no evidence that the related discussion on or even opposition to Piranesi's views had any impact on the museum work at the Kupperstich cabinet however the role of the protagonist from the museum sphere before and after the seven years war deserves further research it would be interesting to study their relationship to Piranesi and the museum in more detail than I was able to do in preparing this talk in any case it is revealing to compare the perspective from which Piranesi and his work was seen at the Kopferstich cabinet over the course of time somewhat simplified one could summarize that under Heucher Piranesi's creativity in the staging of architecture was focused on Heineken then valued him as an artistic personality whose achievements went beyond the work of an architect placing him among artists in general Finally Piranesi's importance for the study of ancient art was particularly emphasized while Hagedorn was director The result of these three decades of collecting from different points of view was an extensive and high-quality collection of Piranesi's prints whose charm lies not least in the fact that it grew in parallel to the artist's career Let me conclude with a few remarks on the fate of the collection after Piranesi's death For a long time it remained practically untouched as it had been arranged after the purchase from Casanova It was not until the 19th century that the 15 historical volumes were combined into larger units Some works which had not yet appeared in 1773 were added The collection suffered considerable losses during the Second World War Several albums with around 470 works have since been missing Nevertheless the Kupferstich cabinet still has over 600 prints by Piranesi A good third of these are not part of the holdings from the Settecento but they come from the private collection of the Saxon King Frederick Augustus II The remains of this collection which was assembled in the 19th century are now part of the museum's holdings too but that is another story Thank you Thank you thank you Gudula very much for this interesting talk about the collection in Dresden and I am glad that this focus on the German world has brought us so much new information about the spreading of Piranesi in Europe more tomorrow and the day after tomorrow on Piranesi's fortune even beyond the European continent will go as far as Brazil and Japan but that's another story We'll have some we have some questions and answers and we can have our debate now before we have a break because the link will be at five o'clock with our keynote speaker Delfino Rodriguez from Madrid with the title so well set into today's papers Piranesi's fortune in Spain so give us a few seconds to check the well all right congratulations and so on if there are any questions by the panelists you can turn on your microphone I well please Barbara come here please come here have a question to Kudola very very interesting your overview on Piranesi's life collection in Dresden my only idea is that of course it was related to his career so it was of course related to his life and also your analysis arrived with the idea that some acquisitions were already done so of course the focusing is different in different time would you be focusing just one more moment on that aspect the fact that of course you focus on different time but it's not because some of the acquisitions were already done and were related to his production in the different time what do you think do you understand my question I think I understood thank you for the question you are of course perfectly right that it's not possible to say they bought these prints and this is why they were interested in these themes because of course they bought nearly everything so it's not really very special that they bought piranesi hot from the press as I said but I focused on the treatment of these prints in the inventories and the position in the collection so which works were put next to them where could one find them so first they were kept with other architectural fantasies and completely also from completely different artists so I think the first idea was that the interesting thing about him is an architectural fantasy and then the next director decides not to have him with the architects there is a section for architects but he decides not to put him there but to artists in general and I think this is also a certain way to give him maybe a bit more value than those who are only architects but he is how shall I put it seen as a creative personality beyond architecture and then we have this memorandum who says explicitly that Piranesi is famous for this work on antiquity and not because he is a famous etcher and anything so of course there is not not very much information about how Piranesi was seen in the collection and I would like to still go deeper into the theme so maybe to get a clearer idea but this is what I have found by now these three phases okay very very interesting thank you thank you see it's a question there is another question as they are no was there any relation in Prussia towards Goethe's enthusiasm reception on Piranesi that's a see from Georg the relation yeah yeah okay can you hear me all right yeah so I'm not sure whether Goethe was really enthusiastic about Piranesi so he reported that when he came to Rome so I don't know all writings of Goethe of course but as far as I remember he reported when he arrived in Rome that he knew everything already by the prince in his father's house and then he made single remarks on Piranesi which are but somehow also critical so he said Piranesi showed us the termo di caracallo in a way I can't find it here or something like that so he is also a little bit critical I would I'm not sure whether Goethe is the best reference to yeah the best person to the best example for showing the enthusiasm or the relationship of the Germans in general to Piranesi but there's of course some kind of a grand tour relationship to say it in general that everybody was enthusiastic about Italy and of course in a certain way in via this about Piranesi Thank you Georg I wanted to ask you and your young colleague something about the birth of the collection in Berlin which is one of the richest collections of Piranesi drawings in the world I've always thought that well you mentioned the collection of the architect Philippi and but of course there's a logic in the group of drawings you have in Berlin because there's a whole bunch of drawings relating to chimney pieces and I mean they are sort of as if they were bought in folders relating to specific works by Piranesi are you investigating in where Philippi acquired these drawings were they already in Germany as the example of Karlsruhe probably indicates or I mean are there researches going on yeah there have been and maybe Charlene Riedmeyer can say also something about this that's so as far as we know it's it's still very unclear also concerning the Morgan library because of course this was a unique and there is at least one piece which is literally cut in between in two pieces and the one half is there and the one half is there and it's not quite clear but maybe Charlene Riedmeyer would like to say also you have studied a little bit more we tried around the exhibition to figure out more together with Moritz Wohlen and Elke Blauert of course yes the head of the architecture collection Elke Blauert is really specialized in this field and the investigations were in the article for the exhibition but there are some blind spots it's not really clear where for example Philippi bought his drawings and yeah but may I add so the chimney pieces the mantel pieces they don't come from Philippi but this is this mysterious Conrad Zimmermann acquisition in 1942 isn't it so no the mantel pieces don't come from the Philippi collection the provenance there's unclear the drawings from the facades and some architectural fantasies there were from Philippi as well as the drawings from the Colosseum and from Pompeii but especially for the mantelpiece designs their provenance is still unclear but I think Georg you are right something happened between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century with a lot of sheets by Piranesi being sold in Europe and shaping the new geography of public collections in Germany the British Museum as well because the collection by the Reverend Gott was acquired they don't really know when and where and then of course the Morgan group which was apparently bought in Paris but at the Morgan library they haven't really investigated and they say there are no papers of the Morgan family to understand where that which was the bulkiest and most precious group anyhow it was earlier than or it's known earlier than the Berlin part as it was some kind of bequest or so or it was given in commission or somehow to the library and then it was it was a donna by 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 the by the son or so it was of Morgan so it was for a few decades for two decades from the twenties on it was probably in the library already that's earlier than the Berlin part than we know anything about the Berlin part and also the modern sketchbooks we don't know where they come from because there are no papers by by the collector and they just pop up in the library but they see there is Christophe Frank in the chat he has additional information good if there aren't any more questions yes I one for Ebe Ante Tomasi in the chat where no 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 Scusate I'm Giovanna I wanted to ask to Ebe if he said if I distraught forgive me when he enters the collection Corsini the volume of Campo Marzio which is by us at the instituto 52 K22 forgive if you have said and I heard sentita nulla assicurati no non l'ho detto perché allora è uno dei volumi che come sai una serie di stampe che oggi appunto sono conservate in stato che come sai hanno scusate scusatemi che come sai non hanno grandi diciamo né timbre né varie insomma indicazioni mi sono fatta l'idea anche se non ho trovato diciamo la l'indicazione precisa come per le altre cose che però si è entrato nell'ottocento perché è aggiunto nel catalogo con la grafia di cui ho parlato di Renzi va documentato in maniera un pochino più stringente però insomma l'idea mi torna anche rispetto ad alcune ricerche che avevo fatto questo mi conforta sì bene poi torneremo sull'argomento insieme assolutamente piranese delle sinergie molto molto belle insomma molto interessante grazie grazie a te gioco 800 perfetto ok thank you Giovanna and now we have Christophe Frank who writes potrei aggiungere alcune riflessioni sulle provenienze thank you Christophe that will be welcome can you can you can you turn on the microphone oh ok hello thank you glad to see you here please go on buongiorno 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 a tutti vi ringrazio soprattutto per questo bel convegno che ho assistito sin dalla mattinata effettivamente anche il progetto di Karlsruhe si è occupato molto della question delle provenienze perché abbiamo anche potuto investigare sia gli archivi negli Stati Uniti in Gran Bretagna ma soprattutto in Germania è un fatto che tantissimi di questi disegni che sono finiti nelle collezioni in America ma dunque Filippi per esempio ci sono anche 3-4 esempi al Museum of Fine Arts di Boston così via quello che è abbastanza interessante che collega anche la riflessione di Goudo Lamez non dobbiamo dimenticare che all'inizio della carriera di Giovanni Battista Piranesi si è intitolato architetto veneziano e sin da quel momento lì è proprio stato diciamo anche nelle collezioni in altri contesti documentato ma anche collezionato proprio nel mondo architettonico prima di quel mondo artistico e Goudo Lamez ha molto ben descritto un interesse nelle opere di Piranesi effettivamente la collezione della Morgan ma anche alcuni dei disegni della collezione Filippi sono connettissimi col fondo di Karlsruhe e c'è un grande misterio per quello che riguarda Karlsruhe perché inizialmente c'erano tre album ma frattempo dunque nel 1919 con la fine della prima guerra mondiale e soprattutto con la riforma dei cosiddetti principi vuol dire la nazionalizzazione del patrimonio di alcuni corti ma soprattutto anche della corte di Baden c'erano ancora delle vendite che si svolgevano durante gli anni venti il volume ex volume che poi dopo è stato separato della Morgan è entrato nel 1946 quando è stato pubblicato il primo articolo della Felice io ho guardato tutta la corrispondenza e anche tutti i file degli acquisti della Morgan e il nito della famiglia sarebbe quello che la moglie di Pierpoint Morgan avrebbe acquistato il volume alla fine dell'Ottocento a Parigi ma non c'è nessuna traccia sia a New York sia nelle vendite alla fine dell'Ottocento a Parigi che potrebbe veramente consolidare questo approccio ovviamente anche l'anno 1946 quando è entrato alla Morgan è un po' sospettoso perché non dobbiamo dimenticare che gli americani rimanevano attivi sul mercato compromesso sia a Parigi sia a Berlino e altrove in Germania fino al momento quando entravano in guerra solo nel 41-42 dunque anche lì ci sono ancora tante domande che devono ancora riformulare in un senso ma una traccia estremamente interessante che forse quella collezione di Morgan Berlino anche tramite di Filippi di volta in volta erano inizialmente connesse con Weinbrenner perché abbiamo ancora altri architetti del Settecento e questo tocca alla questione delle provenienze settecentesche in Germania dove vediamo praticamente come regola erano gli architetti che qui acquistavano e avevano un interesse particolare nei disegni di Piranesi forse questo è particolare in Germania ma alla fine spiega anche o dà almeno una piccola indicazione perché così tanti di questi disegni nei collezioni pubblici oggi hanno una provenienza tedesca a un certo punto mi ringrazio Christophe grazie mille perché getti una luce interessante nuova sulle provenienze e come dici te le date sono anche molto indicative il fenomeno non riguarda solamente la Germania ma tutta l'Europa devastata dagli eventi bellici conosciamo tutti altri nuclei in particolare di grafica che proprio in quegli anni venivano acquisiti diciamo esportati e acquisiti grazie grazie moltissimo credo che sia un passo avanti forse in futuro per anche con la collaborazione dei musei statunitensi cercare di rintracciare i movimenti internazionali di questi disegni se non abbiamo se non abbiamo altre altre notazioni io vorrei aggiungere solo due parole ringraziando anch'io non l'ho fatto questa mattina innanzitutto simonetta prosperi valenti rodino e barbara iatta che si sono così generosamente prestate a presiedere queste coordinare queste due sessioni e naturalmente le mie colleghe claire francesca alberti brici school at home villa medici con cui siamo riusciti a portare a buon fine questa iniziativa oggi è solamente il giorno di apertura e quindi ringrazio la biblioteca nazionale e il suo direttore tutto il personale Andrea Giuliano che ci ha seguiti come tecnico in questa impresa che fino a qualche settimana fa ci sembrava tecnicamente impossibile invece ce l'abbiamo fatta egregiamente what i can say is that you stay with us for another half an hour it's tea time after all so we can all have a nice cup of tea and be back at five o'clock for our final keynote speaker Delfin Rodriguez Ruis from Madrid he was the curator of grand exhibition on Piranesi in Madrid two years ago before the pandemic event and he will be talking about Piranesi in Spain which fits perfectly well with the themes of today so do stay with us just a break of about 20 minutes and then at five o'clock we'll be here again for Delfin Rodriguez thanks thanks to all the participants the audience at large and our colleagues panelists who contributed with such interesting and rich lectures thank you very much see you soon thank you Grazie. Grazie a tutti. Ci vediamo fra mezz'ora. Hola, una shavena de sha. Sì, va bene, va benissimo. Aspetta, al microfono non aspetta. Ciao Elena. Ciao. Barbara, vieni a salutare. Aspetta, aspetta un attimo. Sì. Ciao Delphine. Ciao Elena. Ciao Barbara, come stai? Quanto tempo. State bene? Bene, sì, bene. Facciamo quello che posso fare. Tempi complicati, ma almeno ci vediamo. Sì, sì. Ciao Delphine. Simoneta, come stai? A noi ci manca Roma. Ciao Delphine. Ciao Delphine. Ciao Ginevra. Ciao Elena. Ci sentiamo dopo, ti sentiamo. Sì, 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 benissimo. Ciao. 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 Ci sentiamo dopo. Sì, sì. Sì. Sì, per che non si vea il fondo. Sì, sì. Sì, perfetto. Sì, ora. Sì, ora. Sì, ora non si vea a me. Sì, ora non si vea a me. Sì. Sì, e poi quando... Sì, ora non si vea a me. Sì, ora non si vea a me. Sì, ora non si vea a me. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. gli artisti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. 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 e... e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 e...